Il carcere è ripartire dalla Costituzione. Avremo una parte dedicata al progetto di ristrutturazione del carcere e poi avremo invece le parti sulla riforma possibile del carcere e presenteremo anche il libro degli iscritti di Alessandro Margara. Iniziamo questa giornata. Ringrazio i presenti. C'è una classe dell'istituto di scuola media superiore per geometri, mi pare, una classe che credo sarà particolarmente interessata a queste presentazioni da parte degli architetti del progetto che ci impegnerà nei prossimi mesi. Iniziamo questa mattinata con un atto che non è formale ma è significativo. La firma di un protocollo fra il comune, il carcere, il volontariato, il garante per l'utilizzo, la valorizzazione della biblioteca, il rapporto fra biblioteca comunale e biblioteca del carcere. Quindi adesso c'è presente il sindaco Fontanini, l'assessore Cigolotta e le persone, la direttrice del carcere dottoressa Paolini, il funzionario dirigente che sottoscriverà per il comune l'atto. E' abbastanza significativo perché la crisi del carcere di cui parleremo oggi è anche superabile con un impegno certo per le possibilità di lavoro ma anche quelle di possibilità di studio e di arricchimento culturale. Quindi questo non è un fatto da poco molto importante e quindi noi procediamo alla firma davanti a tutti voi come una testimonianza che scuola, cultura, si legano assieme, devono essere il fondamento di un carcere aperto e ricco di attività e prospettive. Quindi grazie al comune che ha predisposto l'atto e adesso procediamo a questa firma che è un impegno e addirittura nel protocollo, lo sottolineo, c'è forse per la prima volta il fatto che un posto di lavoro per i detenuti sarà come bibliotecario. Molto spesso i detenuti fanno dei lavori all'interno del carcere che possono andare dalle pulizie alla cucina, ad altre mansioni domestiche e alcuni lavorano anche per i lavori di tenuta dell'istituto, per anche lavori di muratura, di elettrici, di ripristino, di tante cose. Però il fatto che in questo protocollo l'amministrazione penitenziaria si sia impegnata ad avere una figura di detenuto dedicato a questo mi pare che è un segno importante. Quindi noi procediamo alla firma e poi iniziamo i nostri lavori. Grazie di essere tutti presenti qui oggi. Grazie. 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 Qui c'è la Presidente Roberta Casco e con la Società della Ragione Massimo Prianese in sala, non lo vedo, di costruire questo appuntamento perché siccome inizieranno, poi ce lo dirà l'architetto di Croce, fra poco i lavori, si spera che non ci siano opposizioni alle gare perché siamo affidati, ma insomma credo che diffideremo chiunque dal fare opposizione, per dimostrare che il progetto non è morto, è in cammino. E soprattutto perché nasca da questo incontro con l'impegno del Comune, della Regione, poi affronteremo quel capitolo fondamentale perché riguarda il diritto alla salute, con le associazioni di volontariato e del terzo settore, affrontare la scommessa di come riempire gli spazi che si apriranno. Perché avremo dieci locali nuovi nell'ex femminile, abbandonato da vent'anni, alcuni più piccoli, altri più grandi. E quindi dobbiamo costituire un gruppo di lavoro che mentre inizieranno i lavori, ragioni su cosa mettere in queste stanze, quali attività culturali, formative, di dialogo, di confronto. È una grande scommessa. È un carcere piccolo, ci sono troppe persone, perché la capienza è di 86 persone, ce ne sono 139. Oggi 138 mi pare, perché uno è uscito. Quindi voi capite che le condizioni di vita sono difficili, dovremmo portare il numero corrispondente ai posti che ci sono e costruire però questa nuova dimensione e l'abbiamo intitolato Ripartire dalla Costituzione. Mentre preparavamo questo convegno è accaduta questa tragedia della morte di Don Pierluigi di Piazza a cui abbiamo pensato di dedicare questo convegno per la sua attività a Udine, per essere il punto di riferimento non solo della solidarietà, del rapporto con gli ultimi, ma proprio per il punto di riferimento. e per noi di Piazza è qui oggi ci indica di non abbandonare le cose giuste da fare e le continueremo. Abbiamo inserito una frase di Maurizio Battistuta molto significativa, cioè che il carcere debba essere un luogo utopico di sperimentazione. Ecco, io penso che se il comune, la città, la comunità capisce che dal carcere si può agire la sperimentazione sociale, la trasformazione ma è questa è una cosa che cambia e anche le speranze dei giovani possono trovare un luogo di impegno. Il... non può essere un'utopia, dobbiamo impegnarci perché sia realtà. E allora con questi due dedichiamo questa giornata a Maurizio Battistuta, a Pierluigi di Piazza. E partiamo questo... io ringrazio il sindaco, poi gli dirò di rispondermi a una richiesta che gli ho fatto recentemente cioè quella di mettere nel carcere una volta alla settimana, ogni 15 giorni, io dico una settimana perché poi probabilmente la proposta sarà più articolata a un funzionario dell'anagrafe perché noi abbiamo bisogno di affrontare molte questioni sulla cittadinanza, sulla residenza, sui problemi che possono apparire spiccioli ma sono reali. Allora, iniziamo, entriamo, come diceva la mia professoressa al liceo, entriamo in medias res. Poi diceva anche un'altra frase che è più significativa, forse non so se i vostri insegnanti la dicono. Diceva, lei ci dava del lei, era una professoressa straordinaria, era stata anche partigiana e rinchiusa a Villa Triste, la prigioniera della banda Koch, ci dette lezioni straordinarie di vita e ci dava del lei, si andava a un banchetto vicino alla cattedra, interrogava, devo dire che si resisteva a pochi minuti a dire la verità, perché poi diceva, vada vada, non ha capito niente. Però poi alla fine del trimestre ci invitava lei a darci il voto e comunque diceva, va bene, non meniamo il camperlaia, e appunto entriamo in medias res. Allora, noi entriamo in medias res e vi leggo il breve saluto del capo del Dipartimento, Carlo Renoldi, che me l'ha mandato pochi minuti fa. Carlo Renoldi è stato magistrato di sorveglianza, magistrato anche in Cassazione, appartiene alla scuola di pensiero di Alessandro Margara, adesso Roberta fa vedere il volume degli iscritti che presenteremo oggi pomeriggio. Allora vi leggo questo messaggio di Carlo Renoldi. Saluto e ringrazio il garante dei diritti dei detenuti del Comune di Udine, Franco Corleone, la Presidente del gruppo di volontariato Icaro Giustizia e la Società della Ragione, per essersi resi a prezzo nel programma i contributi di tanti attori coinvolti, accanto agli operatori penitenziari, nei vari momenti dell'esecuzione della pena, dagli architetti che si sono occupati di ridisegnare gli spazi della Casa Circondariale di Udine, ai rappresentanti di enti di formazione, del volontariato, della cooperazione sociale, dei garanti dei diritti dei detenuti, sino a quanti collaborano con l'amministrazione penitenziare nel tentare di rendere il carcere un luogo in cui si attuino realmente dei processi di responsabilizzazione della persona detenuta, funzionali al suo pieno ed effettivo reinserimento. Ringrazio infine gli organizzatori per avere proposto una nuova presentazione del volume La Giustizia e il Senso di Umanità, antologia degli scritti di Alessandro Margara, pubblicata nel 2016, contenente saggi, articoli, documenti e riflessioni di un grande magistrato, che rappresentano uno strumento fondamentale per comprendere cosa debba intendersi per pena costituzionale. Nel rinnovare le mie congratulazioni per questa importante iniziativa, auguro a tutti voi buon lavoro. Ecco, io ringrazio Carlo Rinaldi di averci mandato questo messaggio e comunico già che il prossimo convegno che si farà a lavori o iniziati o finiti sarà sicuramente presente il capo del Dipartimento. E adesso, prima di dare la parola per i saluti, cominciando da quello del Sindaco Fontanini, do la parola a Roberta Casco per un intervento di apertura che si concluderà con la lettura del messaggio che aveva mandato per il precedente convegno Pierluigi di Piazza e che non poté leggere in quella occasione e abbiamo pensato di riproporlo oggi per l'attualità e l'importanza e la densità del pensiero. Grazie. La parola a Roberta Casco. Grazie. A nome di tutta l'associazione io mi sento di ringraziare l'instancabile Garante, la Società della Ragione, tutti gli autorevoli e relatori che interverranno nel corso di questa giornata, gli ospiti, chi ci segue da casa, il Comune di Udine, l'Ordine degli Avvocati, l'Ordine degli Architetti, l'Università di Udine e in particolare mi sento di ringraziare questi ragazzi presenti in sala e quelli che ci seguono da remoto e gli insegnanti che hanno reso possibile questa presenza. Per noi l'attenzione dei giovani è assolutamente importante, ci infonde grande entusiasmo e fiducia nel futuro. Come già anticipato da Franco Corleone, nella locandina di questo evento abbiamo scelto una frase di Maurizio Battistuta ripresa da Pierluigi di Piazza nel volume Via Spalato. Questa frase già anticipata è ricca di parole che da sole potrebbero bastare per esprimere il senso di questa giornata che oggi trascorreremo insieme. Negli ultimi anni abbiamo perso questi due amici, Maurizio e Pierluigi, due maestri insostituibili, figure di riferimento, le cui personalità si sono sempre contraddistinte per la profonda umanità, la fame di giustizia e una determinata opposizione a ogni forma di discriminazione. Riteniamo quindi doveroso dedicare questa giornata a loro. Questa giornata di riflessione che oggi trascorreremo insieme e alla quale loro avrebbero partecipato con fermezza, con decisione e senza fare sconti nella definizione delle responsabilità. Noi tutti abbiamo il dovere di continuare a perseguire gli obiettivi che con loro abbiamo condiviso negli anni e di continuare, come esortava sempre Pierluigi, a non voltarci dall'altra parte. Anche dopo la scomparsa di Maurizio, Pierluigi ha sempre continuato ad essere portatore di speranze, di valori, di denunce. Testimone di lotte e di impegni da sempre condivisi, non ha mai smesso di essere al nostro fianco. Nelle due edizioni del premio Battistutta, durante la piantumazione di un piccolo melo davanti all'edificio di Via Spalato come simbolo di speranza, ha ospitato per anni gli incontri della Conferenza Regionale del Volontariato Giustizia, convegni, numerosi altri eventi che abbiamo realizzato all'interno del Centro Balducci. e ha sempre portato messaggi di pace e di accoglienza per concedere anche ai non credenti di vivere il senso più profondo del Vangelo. Il vuoto che lascia è incolmabile, ma siamo certi della sua costante presenza in mezzo a noi attraverso la non violenza e attraverso le parole di cura nei confronti della dignità dell'altro e anche e soprattutto dei più fragili, degli emarginati, degli invisibili. Consapevoli della responsabilità che abbiamo di aver visto e di essere davanti a un'incredibile opportunità di cambiamento grazie a questo progetto, siamo qui oggi insieme per renderci attori e protagonisti di questo progetto, non spettatori. Un progetto che possa fare veramente la differenza, guidato dal faro dei principi costituzionali, quali i diritti inviolabili dell'uomo, patrimonio rinunciabile della persona umana, la paridignità sociale e il dovere inderogabile di solidarietà in tutte le sue declinazioni. Questa giornata vuole dare seguito, come diceva appunto Franco Corleone, al convegno di novembre, un prezioso momento in cui abbiamo condiviso sogni, desideri, criticità, le nostre difficoltà, le nostre esperienze. Oggi auspichiamo però che possa essere un primo passo verso la concretizzazione di obiettivi. Confidiamo infatti che un primo risultato possa essere l'istituzione di un tavolo di lavoro che si impegna a concepire un cambiamento partecipato a fianco e in ascolto delle persone che vivono in carcere, tutti quanti, primi tra tutti i detenuti. Ieri sera, mentre cercavo qualche parola di senso da poter dire oggi, mi è squillato il telefono ed è iniziata una lunghissima conversazione con un giovane ragazzo, troppo giovane, che dopo aver vissuto l'esperienza del carcere, adesso sta combattendo una lotta impari con una società che non gli è più amica a causa di un marchio a fuoco, quello dell'ex detenuto. E quindi mi sono detta che alla conclusione della telefonata, che si è conclusa con un, Robby, ma perché lo fai? E la mia risposta, perché credo in te? In quel momento mi sono resa conto che l'unica cosa che avrei potuto portare oggi era questo, la motivazione che nonostante le frustrazioni e le difficoltà quotidiane ci muove nel continuare nel nostro operato. E con la consapevolezza, senza nessuna retorica, della povertà educativa che popola le nostre carceri, la povertà culturale, forse ciò che noi possiamo fare è renderci conto che se fossimo noi a indossare quelle scarpe scomode e dolorose vorremmo non essere lasciati soli, vorremmo che qualcuno ci accompagnasse a costruire un futuro diverso sotto il faro della responsabilità. E quindi ho pensato di portarvi questa breve testimonianza di quello che quotidianamente è una reciproca crescita nell'incontro con l'altro e nell'incontro con i detenuti. Pierluigi di Piazza affermava è una grande e umana questione la sicurezza. La sicurezza come possibilità di una vita degna e umana riguarda ugualmente tutte e tutti, oppure non è tale. Non sarà certo il potere salvifico attribuito alle telecamere, alle pistole elettriche, ai manganelli, a costruire e garantire la sicurezza, ma invece la sensibilità del cuore, delle coscienze e dell'intelligenza, la convivenza accogliente e pacifica fra le diversità. In mezzo a tutte le competenze così diverse e così preziose che tutti voi oggi portate qui in questa sala, noi volontari abbiamo deciso di partecipare a questo convegno, di promuoverlo assieme al garante, credendo nelle competenze relazionali che appartengono ad ognuno di noi e a tutto l'essere umano. Noi crediamo fortemente nella forza del dialogo, del fare insieme, ed essere qui a ragionare insieme sui obiettivi comuni, ognuno col proprio bagaglio, con le proprie competenze, ci sembra già un grandissimo traguardo. Nel volume che abbiamo già citato, Via Spalato, c'è uno scritto del 2005 di Maurizio, scritto a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione dell'edificio di Via Spalato. Ve lo riporto perché è interessante. L'opera di ristrutturazione, per la verità, deve essere ancora conclusa, in quanto devono essere realizzati i cosiddetti spazi di socializzazione dell'Istituto che assumono un'importanza centrale per il quotidiano carcerario. Ma la vera sfida è quella di far divenire il carcere, lo si è detto più volte, una componente del territorio, superando la prospettiva di rimozione e residualità che la città vive nei suoi confronti, che è la completa indifferenza dei mezzi di informazione. Solo in questa prospettiva è possibile rendere operativi ed efficaci i processi di reinserimento partendo da una struttura penitenziaria più vivibile. E ancora, in attesa che si possa avviare questo processo propositivo, un'altra estate si avvicina, periodo che, come si sa, è alquanto critico per chi vive l'esperienza della detenzione e non a caso diventa più difficile confrontarsi con le persone detenute. Nonostante la maggior vivibilità della struttura penitenziaria udinese, permane il loro crescente isolamento, aggravato dalle vaghe promesse della politica. Queste parole sono state scritte più di 15 anni fa, eppure sembrano di un'attualità disarmante. E quindi forse oggi suonano come un ammonimento alla necessità di costruire uno scenario nuovo e uscire da quell'immobilità che tanti di voi hanno conosciuto in questi anni. L'adesione di numerosi attori del mondo della formazione, del terzo settore, che ascolteremo nella seconda parte della mattinata, la partecipazione dell'università, degli studenti, degli ordini professionali, testimonia quanto questa volontà sia condivisa e quanto la società civile voglia prendere parte a un cambiamento possibile, con decisione. L'auspicio è che oggi si inizia ad abbattere dei muri e con quei mattoni a costruire dei ponti. E che ognuno di noi si senta mattone di questa ristrutturazione per non relegare più il carcere ai margini, ma renderlo parte della nostra comunità. Adesso non rubo altro tempo ai successivi interventi e vi leggo le parole di Pierluigi di Piazza, inviate a novembre, con la promessa di continuare nel lavoro fatto insieme con i valori che ci ha insegnato, l'impegno, la credibilità, la coerenza, la fiducia, la sensibilità, l'accoglienza e la decisione. Care amiche e amici di Icaro, il mio saluto amichevole e cordiale è da istendere naturalmente a tutte le persone presenti, a Franco Corleone in particolare. Sono dispiaciuto di non poter essere presente ad un convegno così importante e preparato con impegno e cura speciali. Davvero mi complimento dal profondo con voi, senza nessuna enfasi o retorica. Il titolo di per sé, per me, è già spunto di riflessione perché richiama il volto, certo, riguarda la ristrutturazione del carcere di via Spalato a Udine, ma immediatamente richiama in stretta corrispondenza i volti delle persone detenute, i loro nomi, le loro storie tribolate. Nella mia vita di uomo e di prete, la situazione delle carceri è sempre stata presente, certo, con i miei limiti e inadeguatezze. Abbiamo ripetuto più volte, ma non deve diventare una frase fatta, che la civiltà di un Paese si connota da come vengono trattati i detenuti. Certo, ci sono esperienze positive, ma lo sguardo generale porta a giudizi severi e inappellabili. Abbiamo vissuto con la guida, la sensibilità e l'impegno straordinario di Maurizio Battistutta diverse esperienze per diffondere la cultura e la pratica della penaria educativa, di pene alternative al carcere, di una presenza propositiva delle istituzioni penitenziarie. Nel centro Balducci tanti momenti culturali con presenze speciali. Ricordo una fra tutte, l'affidabile, profondo e competente dottor Margara. Ricordo che Maurizio faceva sempre il possibile per accompagnare un detenuto perché lo stesso potesse esprimere i suoi vissuti. Quando ho saputo di questo progetto di ristrutturazione, ho pensato al libro con gli scritti di Maurizio, a cura di Roberta Casco e Franco Corleone, per il quale ho avuto l'onore di scrivere qualche pensiero di presentazione, Via Spalato, storie e sogni dal carcere di Udine. Questo progetto mi pare un sogno che sta per realizzarsi. Il progetto di ristrutturare un carcere significa attenzione a chi vi abita. In una città ci sono continue ristrutturazioni, ma quella del carcere si pone come segno di speranza e per una parte anche di contraddizione. I luoghi parlano e ce lo insegnano in modo appropriato gli architetti che appunto con i loro progetti comunicano una visione del mondo, della realtà, della vita, delle relazioni, dei luoghi in cui sono vissute. La ristrutturazione del carcere di Udine è segno di civiltà, di umanità per tutta la città e prima di tutto per le persone detenute. Ricordo che il giorno conclusivo, domenica 20 settembre 2009, del convegno del centro Balducci, al cui progetto aveva collaborato l'ordine degli assistenti sociali del Priule Venezia Giulia, siamo partiti in pellegrinaggio laico dalla piazza di Zuliano, da sotto il campanile per recarci prima all'ex ospedale psichiatrico di Santo Svaldo, poi nel carcere di Via Spalato. Con noi c'era anche l'amico Don Luigi Ciotti. Il tema generale era diritti umani, uguaglianza, giustizia sociale verso un welfare planetario. Si cercava di evidenziare che nell'ex ospedale psichiatrico con la profezia di Franco Basaglia la liberazione era avvenuta, pur con le prevedibili difficoltà, con la sua intuizione e pratica di ricondurre la sofferenza nelle relazioni fra le persone e che nel carcere di Via Spalato non era avvenuto quello che si attendeva pur considerando la disponibilità e l'impegno di tante persone. Dopo i diversi passaggi comprensibili riguardanti i permessi, i numerosi partecipanti hanno riempito la palestra del carcere. Sentivamo di vivere un momento significativo alla cui profondità e ricchezza hanno contribuito diversi interventi a cominciare da quelli dei detenuti. Ho desiderato condividere questi frammenti di riflessione per dirvi che, anche se non fisicamente, sono presente e sono in attesa di leggere le vostre esperienze e competenze, i contenuti di questo convegno molto, molto importante. Con cordialità per Luigi. Grazie a Roberta che è riuscita anche a non emozionarsi. e devo dire che se ci pensiamo e chiudiamo gli occhi abbiamo realizzato un miracolo, la compresenza dei morti e dei viventi. Do la parola per iniziare i lavori al sindaco di Udine Pietro Fontanini. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti voi per questo incontro organizzato dal nostro garante perché Franco Corleone è stato scelto dal Consiglio Comunale, è stato nominato dal Consiglio Comunale di Udine a svolgere questo ruolo delicato, importante. È inutile che sottolini che lo sta svolgendo benissimo perché questo è un secondo incontro importantissimo ma soprattutto è riuscito a muovere qualcosa che era bloccato all'interno del carcere di via Spalato per fare quei lavori, mi diceva prima, un po' adesso complicati perché ci sono mille problemi burocratici ma che creeranno posti, luoghi, spazi affinché quello che prevede la nostra Costituzione italiana diventi qualcosa di attuale, di vero. Qui c'è la associazione Icaro che lavora da tanti anni all'interno del carcere, ha dato tanti contributi tra cui anche quello di piantare questo melo davanti. Speriamo che resista alle temperature che non sono delle migliori ormai anche qui a Udine quindi piove poco e quindi avrà bisogno di un po' d'acqua. Per dire che ci sono dei segnali nuovi anche in questa città, nei confronti dei detenuti e soprattutto nei confronti di un carcere che ha bisogno di rinnovamento, di ristrutturazione. Saluto la nuova dirigente del carcere e anche il comandante delle guardie carcerali che sono presenti qui con noi. So che in questi mesi sono stati fatti dei passi in avanti anche il protocollo che è stato firmato prima è una tappa significativa che permette ai detenuti di avvicinarsi alla lettura loro hanno tra l'altro molto tempo e quindi il libro, la lettura aiuta ad approfondire alcune tematiche e magari anche a fare un progresso sotto l'aspetto educativo anche dell'informazione stessa perché sappiamo che molte persone proprio vivendo all'interno del carcere riescono anche a fare tra virgolette una carriera scolastica rispetto ad altre situazioni. Quindi l'importante è questo portare so che tra gli obiettivi di questo protocollo e anche portare gli scrittori all'interno del carcere per dialogare direttamente proprio con i detenuti anche questo è un aspetto molto interessante penso per chi è appassionato di lettura possa avere soddisfazione ecco anche con questo modo di operare. So che il dottor onorevole Franco Corleone mi deve chiedere dell'anagrafe ma io ti devo dire anche che l'altro giorno ho incontrato il presidente del Tribunale di Udine il quale mi ha detto guardate che ci sono delle semplificazioni che permettono soprattutto proprio ai detenuti di non fare più tanti documenti e quindi c'è anche qualcosa di innovativo sotto questo aspetto e so che il Tribunale di Udine si è già messo in contatto con l'ufficio anagrafe del Comune per semplificare molte procedure ma in ogni caso il tuo invito viene accolto adesso vediamo in che cadenza con che cadenza se settimanale o quindicinale perché c'è carenza di personale anche nel Comune di Udine quindi ma senz'altro possiamo mettere a disposizione una figura che aiuti i detenuti a superare alcuni aspetti che sono legati anche a questioni che fanno parte insomma dell'anagrafe comunale e quindi c'è anche questa disponibilità io dico che noi come amministrazione siamo contenti di come si sta operando e soprattutto questo carcere che è all'interno della città molto all'interno della città possa diventare sempre un luogo più aperto e soprattutto un luogo di recupero per tante persone questo è l'obiettivo di tutti a cui dobbiamo concorrere anche noi come amministrazione grazie veniva quando ha parlato di carenza di personale mi poteva dire che mi veniva da dire che forse la dottoressa Paolini può offrire qualche detenuto a venire a lavorare in comune ma non è una battuta perché accade che detenuti possano lavorare addirittura nei tribunali nei tribunali di sorveglianza ricordo esperienze di altre città e quindi anche pensare per esempio a dei detenuti che facciano dei corsi nelle biblioteche o lavorare nel teatro tutto questo è possibile quindi questa disponibilità che abbiamo verbalizzato oggi credo che possa essere accresciuta e realizzata adesso facciamo i saluti iniziali chiedo alla dottoressa Maria Milano che è provveditrice dell'amministrazione penitenziaria del Triveneto di venire vi siete mai domandati perché si chiama Triveneto è una cosa curiosa questa cosa il Triveneto in molte occasioni si parla del Triveneto mettendo assieme realtà diversissime che non hanno niente in comune vabbè grazie grazie Franco Corleone buongiorno a tutti un saluto a tutte le autorità presenti oggi che con la loro voce portano competenza e ricchezze di idee a questo importantissimo seminario saluto Franco Corleone con cui mi sento abbastanza spesso perché veramente è un martello pneumatico chiederò un'indenità speciale per lui ma devo dire e gliel'avevo promesso che l'avrei detto che comunque il suo impegno è davvero grande e importante per l'amministrazione penitenziaria io accolgo sempre con favore i suoi inviti perché non sono rituali occasioni di confronte di riflessione vorrei iniziare con le parole che il presidente Sergio Mattarella in un incontro con i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida ha detto proprio sul tema che oggi affrontiamo la detenzione è come una cicatrice che nel corso del tempo scompare l'importante è che non sia in quel modo motivo di emarginazione accantonamento preclusione in realtà l'emarginazione l'accantonamento la preclusione circondano ancora il carcere e chi si trova ad uscire dopo aver scontato la pena manca manca ancora in molti casi l'integrazione tra l'istituzione carceraria il sistema dei servizi sociali per la ricerca del lavoro o di un supporto per la casa in molti casi mancano anche reti solidali della società civile talvolta il reinsentimento nella vita sociale è assegnato alle sole risorse dei singoli alla loro determinazione o meno alla capacità di reggere una solitudine uno stigma spesso non facilmente sopportabili lo diceva anche prima Roberta Casco e questo mi ha molto impressionato perché è una cosa come ex direttore io sono un ex direttore di carcere che ho sentito moltissime volte pesa ancora un gap culturale accentuato da tante paure e insicurezze che segnalano la nostra società civile è più facile chiudersi che aprirsi agli altri in difficoltà comprendere che la sicurezza di tutti noi è facilitata da percorsi di integrazione piuttosto che da esclusione ed è giusto il titolo del seminario perché ripartire dalla Costituzione significa appunto prendere atto che c'è molto da fare che è necessario anzitutto un agire comune istituzionale mettere in atto una visibile una visibile strategia per agevolare il reinserimento nella vita sociale delle persone private della libertà personale una prospettiva che va garantita non solo a parole anche se le parole sono importanti perché disegnano comunque i livelli di consapevolezza e una prima assunzione di responsabilità non è il caso di ricordare in questa sede come la dignità umana non si acquisti per meriti e non si perda per demeriti dignità e persona coincidono eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona umana e ciò non è consentito a nessuno e per nessun motivo per questo è giuridicamente necessario che la struttura carceraria fornisca strumenti concreti perché il detenuto eserciti tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione potendo scludersi solo le modalità di esercizio incompatibili con la sicurezza della custodia ogni limitazione dei diritti dei detenuti che non sia strettamente funzionale a questo obiettivo acquista un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà ripartire dall'articolo 27 della Costituzione significa essere innanzitutto consapevoli che la reclusione è il limite massimo di punizione non oltrepassabile in alcun modo così come un particolare rilievo acquistano sempre per dar sostanza al dettato costituzionale i diritti fondamentali di natura sociale il diritto al lavoro ne parlava prima Franco Corleone non facendo una battuta è vero ci sono esperienze in cui i detenuti vanno a lavorare nei comuni vanno a lavorare all'esterno diritto alla salute diritto all'istruzione la dignità umana è una dote irrinunciabile e incomprimibile perderla porta la degradazione della persona a cosa come dice Papa Francesco a diventare uno scarto umano e quando una persona è ridotta a cosa ce lo insegna la storia inevitabilmente diventa vittima e gli unici antidoti sono i diritti non cedere nel voler rigarantire non accettare logiche che magari in nome di difficoltà anche oggettive in qualche modo li sospendano il carcere inevitabilmente è un rischio per la dignità delle persone anche di questo bisogna esserne consapevoli e la lealtà intellettuale morale di qualsiasi operatore da quello penitenziario al volontario passando per un professore universitario o per un maestro di scuola non può assumere non può fare meno di aver coscienza su questo dobbiamo ripeterci sempre che i singoli diritti che compongono la dignità umana devono essere intesi al massimo delle loro possibilità di espansione fatte salve come si è detto le esigenze di sicurezza della custodia che ne riscono anche questo è bene ricordarlo sempre alla tutela dei diritti dei terzi su ciò deve basarsi da un punto di vista costituzionalistico il diritto ad usufruire di misure alternative al carcere quando la loro applicazione non sia in concreto impedita da ragionevoli motivi da valutarsi a cura del magistrato caso per caso obiettivo fondamentale è che gli operatori di polizia penitenziaria siano anche operatori del rapporto umano e delle relazioni in grado grazie alla ricchezza delle competenze di diventare parte attiva e fondamentale dell'esecuzione penale e di potenziare il concetto di sicurezza non solo attraverso la vigilanza ma unitamente alle altre professionalità che quotidianamente intervengono nell'ambito della vicenda penitenziaria anche attraverso la conoscenza della persona detenuta soltanto la chiarezza degli obiettivi la conoscenza delle persone detenute l'analisi dei dati e delle situazioni l'intescambio di informazioni con gli altri operatori un'ideone a formazione professionale determinano la possibilità di coniugare il rigore della pena con l'umanità della stessa e il rispetto della dignità umana tutti questi elementi devono caratterizzare il lavoro della polizia penitenziaria che è un corpo specializzato partecipe nella gestione della persona detenuta sia sotto il profilo custodiale che quello psicologico una questione molto delicata e complessa non si tratta di maggiori non si tratta solo di dover gestire casi psichiatrici chiunque se lasciato tutto il giorno su una branda senza fare nulla impazzirebbe anche in questo ci sono le radici di continui tentativi di suicidio delle aggressioni tra detenuti delle aggressioni ai poliziotti le proteste eclatanti i problemi si moltiplicano e c'è solo una via per arginarli combattere l'inedia ripristinare la socialità le attività formative le iniziative educative il lavoro il lavoro in carcere non solo sottrae i detenuti dall'ozio ma ne favorisce la rieducazione consegna loro competenze responsabilità diventa opportuno opportunità per quando saranno fuori dal carcere non a caso il carattere educativo del lavoro carcerario è sancito dalla costituzione e le statistiche confermano che chi in carcere ha avuto la possibilità di lavorare e di imparare un mestiere difficilmente torna a delinquere una volta in libertà ma il numero dei detenuti che lavora alle dipendenze di ditte esterne continua a rimanere molto troppo esiguo il lavoro è uno dei cardini intorno al quale dovrebbe ruotare la riabilitazione dei detenuti far sì che i detenuti lavorino dovrebbe essere un obiettivo da tutti condiviso non solo perché è un ottimo antidoto alla recidiva ma soprattutto perché contribuisce ad innalzare il livello di sicurezza sociale oggi però è una realtà per pochi situazioni psichiatriche instabili e condizioni fisiche compromesse non consentono di fatto un libero e pieno accesso a questo importante percorso trattamentale si aggiunge a questo che la realtà culturale formativa della popolazione ristretta di fatto si riduce di molto il campo di possibili impieghi lavorativi e anche per questo che le attività formative diventano centrali e molto si deve fare per integrare le occasioni di produrre lavoro ringrazio davvero Franco Corleone per la sua costante attenzione alla realtà carceraria di questa città e trovo particolarmente importante che questa discussione si colleghi con la ristrutturazione del plesso penitenziario un progetto non solo logico logistico strutturale ma anche un vero proprio progetto trattamentale perché veri percorsi rieducativi sono realizzabili solo se la struttura penitenziaria permette questi requisiti di vivibilità basilari per la serenità e la dignità della persona e anche per questo che auspico che i lavori di oggi prenda forma un più condiviso e diffuso impegno istituzionale civile per agire dentro il carcere e fuori dal carcere per evitare separatezze tra il carcere e la città per evitare che i muri di pietra siano anche reciproche chiusure cognitive di separatezza per ripartire dall'articolo 27 perché ripartire dall'articolo 27 è anche questo un diverso rapporto tra il carcere e la società e aggiungo una cosa mi è piaciuta molto questa idea che ha tirato fuori Franco Corleone di fare questa convenzione e di fare in modo che all'interno del carcere entri l'istituto che entri l'anagrafe ecco bene io chiedo a Franco Corleone chiedo alla dottoressa Paolini alla dottoressa Sensales poi di farmi capire come va avanti questa esperienza in modo che questa esperienza possa essere anche esportata in altre realtà non soltanto in Friuli perché su questo ci stiamo battendo anche come Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria cioè perché i detenuti la prima cosa per arrivare per affrontare per insegnare il reinserimento sociale è la legalità la legalità parte dall'avere documenti non possono uscire persone dai carceri senza documenti e diventare le persone invisibili che erano prima di entrare nel carcere grazie devo dire che questo intervento fa dire e mi fa dire al professor Pittaro che è il garante regionale che forse possiamo fare anche uno scambio di funzioni con la dottoressa Milano perché le parole che ha detto le avremmo dette noi integralmente grazie di questo intervento andiamo avanti il problema è che questi non sono come vedete saluti formali il problema è come poi tradurre questa espressione di parola non di parole di parola in fatti e questo perché altrimenti viene da dire quello che io ho scritto abbiamo visto sappiamo tutto dobbiamo cambiare allora invito la direttrice della casa circondariale di Udine la dottoressa Tiziana Paolini a venire la dottoressa Paolini si presenta in una forma sbagliante per cui il sindaco ha pensato che sia una nuova direttrice in realtà è sempre la stessa grazie allora grazie allora buongiorno a tutti per me è un vero piacere constatare una presenza così significativa al seminario di oggi particolarmente gradita la presenza dei ragazzi io ho un figlio della vostra età per cui insomma la vostra presenza mi commuove dicevo un seminario che va a toccare tematiche che stanno molto a cuore in particolare noi addetti ai lavori ma che stanno sensibilizzando ogni giorno di più ed è questo il dato più confortante l'intera opinione pubblica e le istituzioni locali e regionali anche qui nel triveneto a distanza di qualche mese dal convegno con il quale abbiamo avuto modo di confrontarci sugli interventi di ristrutturazione dell'istituto di Udine in linea con le più moderne esigenze trattamentali e di gestione della popolazione detenuta ci troviamo oggi ad affrontare più in generale la tematica carcere nelle sue diverse implicazioni a livello costituzionale poiché le competenze e le esperienze in materia sono le più disparate da quelle legislative a quelle politico-istituzionali da quelle dottrinari to cur a quelle di coloro che nella società civile si adoperano per dare il meglio di sé nell'universo carcerario cercherò di fornire un contributo dall'angolo visuale che più conosco ovvero quello di chi polizia penitenziaria e personale amministrativo lavora stabilmente negli istituti di pena negli anni che sono trascorsi dalle unità d'Italia ad oggi il sistema penitenziario è stato lo specchio dell'evoluzione storico-culturale del nostro Paese che come noto ha raggiunto l'espressione più alta e compiuta dello stesso concetto di democrazia nel secondo dopo guerra grazie all'articolo 27 dell'attuale carta costituzionale secondo il quale la pena non può essere contraria al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del reo e al suo reinserimento nel consesso civile non sono parole vuote non sono concetti meramente teorici perché da qui che partiamo ogni giorno per dare il senso più profondo al nostro lavoro Cesare Pavese in polemica con il sistema penitenziario dell'epoca fascista ebbe a dire che la prigione era destinata a diventare un foglio di carta con ciò volendo intendere che la punizione si prefiggeva all'epoca di riscrivere attraverso la correzione l'adesione del detenuto agli ideali anche politici di quel particolare periodo storico si trattava di un'adesione che secondo il giudizio di Pavese altro non era se non una sorta di riflesso condizionato quasi che il detenuto fosse con un bambino da plasmare a piacimento una sorta di automa incapace di elaborare un pensiero proprio e di intraprendere consapevolmente un autonomo percorso di reinserimento sociale e di adesione a determinati valori ebbene noi che nel sistema dello stato di diritto di oggi lavoriamo nel carcere e per il quale il carcere rappresenta davvero un tutt'uno con il vivere quotidiano abbiamo invece l'ambizione di ritenere che il nostro scopo primario sia proprio quello di fare in modo che la detenzione non sia un semplice foglio di carta da utilizzare come un qualunque strumento burocratico nelle mani della pubblica amministrazione e che il detenuto non diventi un mero soggetto passivo di valori imposti non condivisi un semplice problema da gestire e per così dire da tenere a bada il nostro compito è tutt'altro la nostra funzione è un'altra la nostra missione è un'altra ciascuno di noi conosce bene infatti la peculiarità del ruolo che ricopre e del compito delicatissimo che le istituzioni hanno inteso affidarci l'importanza esiziale di un impegno vero in prima linea fuori e dentro gli istituti di pena a dare reale e non nominalistica attuazione al principio costituzionale della finalità educativa della pena il nostro impegno in questo senso deve essere concepito in primis da noi stessi come per l'appunto una vera e propria missione alla quale è giusto e nobile dedicare ogni energia fisica e mentale mettendo in gioco soprattutto il nostro senso di umanità e di rispetto nei confronti dei detenuti e delle storie personali spesso drammatiche di ognuno di loro un sorriso una frase di incoraggiamento un gesto di fiducia o di considerazione sono importanti tanto quanto le attività trattamentali propriamente dette e la piena efficienza delle strutture carcerarie perché danno al detenuto il senso di essere compreso accettato aiutato in maniera sincera e convinta nel suo percorso di educativo e di elaborazione del reato l'amministrazione pur in un periodo di difficoltà economiche per il paese compie ogni giorno sforzi importanti nell'ottica di realizzare un sistema detentivo fatto di strutture di meccanismi sempre più al passo con i tempi Udine ne è un esempio e di questi sforzi noi operatori dobbiamo sempre essere non già meri esecutori ma degni e consapevoli interpreti soltanto così il carcere non sarà soltanto un foglio di carta grazie ringrazio la dottoressa Paolini che dirige il carcere di Udine avendo un altro carcere come titolarità quello di Pelluno e in questo periodo in cui ci siamo conosciuti e si lavora assieme ha aumentato le presenze a Udine si sta appassionando ed è importante che ci sia una presenza costante di direzione nel carcere e che ci siano gli educatori questo è il problema enorme che noi abbiamo perché anche a Udine noi oggi pensate abbiamo un solo educatore che viene due volte la settimana da un'altra città mi pare da Treviso poi per fortuna tutti si innamorano di Udine e quindi danno il massimo ma voi capite che è difficile reggere i progetti con queste risorse allora la parola alla comandante Monica Sensales per un un intervento che anche sicuramente affronterà dei nodi delicati buongiorno a tutti a distanza di sei mesi ci ritroviamo in questa splendida sala per parlare ancora una volta del carcere di Udine all'esterno delle sue mura in pieno centro storico è difficile dimenticare la data della precedente incontro come ha ricordato poco fa il dottor Corleone l'11 e il 12 novembre dello scorso anno proprio i giorni in cui il covid è entrato in carcere rimanendoci per circa due mesi e mezzo con tutte le riserzioni che lo stesso porta con sé in un ambiente che di per sé è fatto di restrizioni siamo comunque riusciti a superare quel periodo e vorrei sottolineare oggi la grande collaborazione avuta proprio da detenuti con loro è stato mantenuto per tutto il periodo un dialogo costante di continuo aggiornamento e senza alcune obiezioni hanno sempre accettato le restrizioni necessarie per combattere il virus restrizioni indicate dalle autorità sanitari ma talvolta richieste addirittura dagli stessi detenuti ed è proprio ciò che deve indurci a riflettere che nel carcere ci sono persone persone che hanno sbagliato e che stanno pagando il loro debito con la giustizia ma che sono e restano persone con le loro emozioni i loro sentimenti le loro paure e anche le loro gioie è su questi aspetti che il carcere come istituzione deve lavorare l'esperienza detentiva deve far emergere la persona che ogni ristretto è con i suoi pregi e i suoi aspetti positivi per fare ciò corresta avvenire un contatto umano con ciascun detenuto per conoscerle e costruire quindi per lui un progetto di rieducazione in modo da restituire alla società una persona risocializzata non è facile non sempre si riesce ma è doveroso provarci perché comunque qualunque insegnamento pur sempre rimane in quella persona occorrono quindi spazi dove organizzare attività incontri lavorazioni ed è in questa direzione che ci stiamo muovendo stiamo appunto ridisegnando spazi da anni inutilizzati per offrirli detenuti e dar loro la possibilità di impegnarsi ed esprimersi al meglio al fine di tornare nella società esterna cambiata in meglio e capace di dare un loro contributo positivo e costruttivo sostanzialmente recuperati e risocializzati quindi rieducati d'altronde ciò ci è chiesto dalla stessa Costituzione la finalità rieducativa della pena ci impone di predisporre tutti i mezzi idoni a realizzarla ringrazio ancora il dottor Corleoni che apre la città al carcere che fa parlare del carcere fuori dal carcere stesso il carcere c'è esiste ed è una realtà che deve essere vissuta quotidianamente non solo da chi ci lavora dentro ma anche da tutti i cittadini perché anche i detenuti sono cittadini e anche a me fa molto piacere vedere che sono presenti dei ragazzi anch'io ho due ragazzi ho due figli e mi fa anche piacere rincontrare queste ragazze che prima del covid venivano ogni anno e spesso all'interno del carcere per conoscere il carcere per visitare anche le camere detentive facevano delle domande addirittura mi chiedevano dei ragazzi però hanno anche il televisore allora io li portavo a riflettere hanno sì il televisore ma gli manca ciò che di più importante ogni persona deve avere la libertà allora riflettevano ed è bene che questi ragazzi conoscano il carcere per dare anche loro un contributo al carcere stesso e conoscano anche i detenuti per capire che non sono dei mostri ma sono delle persone degli esseri umani che hanno sbagliato ma che sono come noi delle persone come noi grazie grazie rispetto a questa insistenza persone che hanno sbagliato l'avvocato Raffaele Conte può dire che alcuni sono in attesa di giudizio e dobbiamo mantenere anche la presunzione di non colpevolezza però io mi riferisco ai definitivi perché appunto si parte dal presupposto che ancora bene grazie per questa promessa che ci ha fatto la comandante Sensales di aprire il carcere il carcere dobbiamo farlo vivere non solo la mattina ma anche il pomeriggio non dico la sera perché è un po' più problematico ma almeno il pomeriggio e non che chiuda alle ore 14 proseguiamo con i saluti la dottoressa Pellizzari che è direttore del distretto sanitario di Udine mentre si avvicina dico che è giunto il messaggio della dottoressa Maria Rita Bonura responsabile direttore Uepe di Udine Portenone che in possibilità di essere presente comunica il suo impegno la sua disponibilità a rafforzare la collaborazione fra soggetti istituzionali e associazioni per migliorare le buone prassi già in uso creandone di nuove ecco questo abbiamo in effetti costruito un tavolo istituzionale stiamo lavorando su questi aspetti la salute la salute è un diritto ovviamente un diritto primo diritto fondamentale la vita però il diritto alla salute è un diritto costituzionale articolo 32 della costituzione in carcere è un diritto difficile perché il carcere spesso è patogeno quindi produce malattia il fatto che oggi lo dico ai giovani presenti il fino a pochi anni fa il servizio sanitario era gestito dalla stessa amministrazione penitenziaria poi si è fatta una grande riforma io credo quella del passaggio al servizio sanitario pubblico proprio per affermare che i detenuti sono cittadini nella pienezza delle prerogative e quindi c'è questo compito che vede un'istituzione pubblica come il servizio sanitario universale che deve garantire la salute questa riforma è a regime noi abbiamo qualche incertezza a dirlo c'è anche una novità che non c'è solo il problema della salute ma emerge sempre più nelle carceri la questione della salute mentale ci sono persone che hanno sofferenze e stiamo discutendo in questi mesi e il 18 giugno faremo un seminario non pubblico ma di approfondimento su questi temi della tutti gli aspetti della salute salute mentale in carcere d'accordo con la ASL per approfondire quello che non va sia per quanto riguarda le persone il consumo smodato di farmaci le prescrizioni che hanno una funzione di stabilizzazione il problema dell'uso di sostanze stupefacenti e così via per poi arrivare in autunno a un convegno pubblico ieri con gli architetti eravamo abbiamo fatto una visita al carcere per alcuni aspetti particolari in funzione della parte architettonica e a un certo punto al pian terreno abbiamo sentito esplodere urla terribili e questo ha confermato che c'è una situazione che non può essere affidata solo alla polizia penitenziaria c'è un problema di sofferenza che ha bisogno di trovare fuori dal carcere delle soluzioni e poi devo dire lo dico qui perché noi abbiamo molti mesi fa messo in piedi tolto una cella dal suo uso e resa palestra e tutti gli attrezzi si stanno riempiendo di polvere perché manca l'autorizzazione di compatibilità sanitaria per usare la palestra anche questo è un dato di disattenzione che non è accettabile quindi abbiamo molto molto da fare abbiamo consapevolezza dell'orizzonte e quindi mi è gradito proprio dare la parola alla dottoressa Pellizzari per il suo saluto grazie senatore buongiorno a tutti ringrazio il comune di Udine il senatore Corleone per aver organizzato questo evento che di fatto focalizza l'attenzione su un progetto che è volto la costruzione proprio di una partecipazione fattiva concreta per la promozione della dignità e dei diritti nella vita delle persone private della libertà è un progetto ambizioso carico di valori di ideali ma anche di una forte intenzionalità a dare concretezza a questi principi a questi ideali a questi principi sanciti dalla Costituzione in un recente articolo pubblicato da l'anset global health pubblicato proprio nel febbraio del 2022 è comparso un appello non dimentichiamoci dei detenuti secondo un report dell'ONU pubblicato recentemente nei primi 19 anni del millennio stiamo assistendo ad un aumento del 25% della popolazione detenuta in tutti i carceri a livello mondiale e se guardiamo i detenuti secondo la lente della sanità pubblica la salute della popolazione detenuta non la possiamo ritenere assolutamente equiparabile a quella della popolazione generale infatti a livello mondiale il 3,8% è affetto da HIV il 15,1% da epatite B il 4,8% da epatite B il 15,1% da epatite C e il 4,8% da epatite B e il 2,8% da tubercolosi e possiamo dire che sono proprio le malattie infettive a farci da specchio per le condizioni abitative e di vita che sono determinanti fondamentali per la condizione della salute senza contare poi che questa popolazione approda all'istituto carcerario già con condizioni di rischio di non poco conto e almeno il 40% con problematiche correlate alla salute mentale ovviamente le condizioni di reclusione hanno un notevole impatto sulla salute mentale perché l'assenza di privacy l'assenza di movimento appunto e di attività importanti per la salute sulla quale appunto come diceva molto bene il senatore Corleone stiamo investendo ci sono delle problematiche di tipo tecnico che stiamo cercando di risolverle alle volte le pastoie burocratiche diciamo così rendono le procedure e le soluzioni dei problemi più difficili ma insomma ce la mettiamo tutta per portare a casa i risultati l'impatto poi del rientro dell'ex detenuto in comunità non è assolutamente un aspetto da sottovalutare e tutto quello che non è affrontato in carcere durante il periodo della detenzione poi può peggiorare una volta rientrato in comunità e quindi andare necessario andare di investire in cultura per cambiare le prospettive della società sulla detenzione che deve divenire sempre più strumento riabilitativo anziché uno strumento punitivo occorre adottare tutte quelle strategie per prevenire identificare trattare le malattie dei carcerati quindi già nella fase detentiva è importante individuare quali sono i cluster diciamo delle malattie e intervenire in modo educativo nel 2014 l'OMS Europa ha pubblicato un rapporto sulla salute e prigione dicendo che appunto il 40% della della popolazione è affetto da malattie da malattie mentali le condizioni di reclusione sono condizioni che assolutamente pongono le premesse per un'attenta per un'attenta valutazione e screening delle malattie infettive e delle malattie mentali questo è un punto chiave è fondamentale quindi agire sul setting e andare a implementare politiche di prevenzione primaria e investimenti anche sulla formazione degli operatori la garanzia di diritto la salute nelle carceri non è una tematica che riguarda soltanto la popolazione detenuta ma anche il personale e l'intera società investire in questo ambito agire sulla comunità di provenienza fornire servizi sanitari al detenuto e occuparsi di programmi di rientro sono obiettivi che sono destinati sono obiettivi del futuro che sono destinati a restituire dignità e umanità a queste persone questo progetto è l'inizio di un percorso che va proprio in questa direzione nella direzione di far resuscitare i diritti delle persone private della libertà quindi un grazie particolare a tutti coloro che danno un contributo fattivo e concreto per la realizzazione di questo obiettivo grazie a tutti grazie vorrei avvertire che tutto quello che si dice qua è registrato e diventa un impegno a cui chiameremo perché ci sono delle urgenze non rimandabili Nicoletta Stradi è dirigente del servizio sociale dei comuni ambito territoriale Friuli Centrale credo che sia un incarico recente se non sbaglio a metà febbraio grazie ringrazio innanzitutto il senatore Corleone per gli stimoli e le sollecitazioni che appunto ho avuto modo di così rilevare proprio in questi mesi del mio incarico sia attraverso le occasioni di incontri ma anche grazie alla qualità dei temi che vengono proposti e grazie anche per l'accompagnamento e la guida che ci portano alla concretezza della gira assieme come spesso accade quando ci si prepara ci si precede la partecipazione ad un seminario ci si concede lo spazio di un approfondimento di uno sguardo alle attività che in qualche modo si realizzano con un pensiero alle persone alle criticità agli ostacoli ma anche ai piani per il futuro e vorrei quindi utilizzare questi pochi minuti per dare un contributo rappresentando anche quello che un po' in questi temi una visione del servizio che rappresento il comune di Udine che è l'ente gestore del servizio sociale dei comuni che è un ambito territoriale composto da più comuni sono nove in tutto nel nostro contesto è il soggetto destinatario di una pluralità di finanziamenti sia di livello regionale ma anche sempre più di derivazione statale ed europea e gli elementi gestionali sono sempre più complessi e richiedono indirizzi programmatori chiari per articolare le connessioni tra servizi affidamenti e flussi finanziari differenti è evidente che per realizzare soprattutto in questo campo nel campo della grave marginalità realizzare interventi prestazioni e servizi c'è la necessità di trovare sia in ambito istituzionale ma soprattutto a livello territoriale dei partners attivi e qualificati per definire assieme strategie comuni e condivise e per attivare non solo risposte ai bisogni emergenti ma anche per sperimentare modelli diversificati integrati proattivi nei pochi minuti di questo saluto ovviamente non mi è possibile presentare nel dettaglio le attività che sono state realizzate in passato ne cito solo alcune brevemente perché possono essere di interesse anche per le progettualità future sicuramente è importante ripercorrere il percorso fatto fin dal 2012 per mappare tutte le risorse locali del privato sociale operanti a favore beneficio delle persone adulte minorenni che si trovano in esecuzione penale o che sono ex detenute attività che in collaborazione con gli enti dell'amministrazione penitenziaria aveva predisposto un protocollo di intesa anche collegato ad una fase di realizzazione di prima pianificazione regionale dei piani di zona con tutti i soggetti del terzo settore che nell'ambito avevano profondamente collaborato alla programmazione e alla realizzazione di attività questo protocollo è rimasto in vigore fino alla fine del 2015 ma rappresenta sicuramente un'esperienza positiva che ha poi segnato e rappresentato la mappa e la rete dei soggetti che hanno proseguito il proprio lavoro ovviamente non cito tutti i soggetti che avevano aderito sia di livello istituzionale ma anche del terzo settore del privato sociale perché sono veramente numerosi un intervento importante che forse qui va messo particolarmente in evidenza è quello tuttora in corso che è volto a favorire l'empowerment e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e promuove interventi di giustizia riparativa e che viene realizzato attraverso l'ATI Working Process che è composta dal Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio dalla Caritas Arcidiocesi di Udine e dalla Società Cooperativa Sociale Arte Libro un progetto che è stato avviato nel marzo del 2021 che ha una durata biennale quindi dovrebbe concludersi nel marzo del 2023 ma ha la possibilità di un rinnovo ovviamente subordinato anche alla determinazione di un flusso finanziario adeguato questo è un progetto attualmente finanziato da Cassamende integrato con quote del Fondo Sociale Regionale che prevede una pluralità di interventi in particolare i tirocini inclusivi che vengono realizzati sia intramurari ed extramurari e che sono un aspetto importantissimo come in più interventi è stato evidenziato e che andrebbero sicuramente potenziati anche attraverso quelle esperienze che sono state sollecitate di inserimento anche nelle realtà degli uffici delle istituzioni locali e un altro aspetto importante di questa progettualità è caratterizzata dallo sportello informativo che viene realizzato all'interno della casa circondariale e che ha la finalità di garantire un canale di connessione strutturato tra istituto di pena e territorio ed è volto proprio a favorire l'inserimento sociolavorativo delle persone prossime alle dimissioni con una particolare attenzione alle persone in questa fase nella fase di fine pena che hanno la necessità di un accompagnamento di un supporto di una guida particolare vi vengono date ovviamente tutta una serie di informazioni importante sarà integrare anche questo aspetto dell'anagrafe come è stato prima detto e è previsto anche un sostegno materiale proprio per le persone per i dimittenti per le persone indigenti che escono spesso e sono prive di qualsiasi bene materiale ma anche di una piccola somma che possa dare sostegno nell'ambito di altre iniziative di altre procedure che realizziamo come servizio viene garantito anche il sostegno abitativo attraverso il finanziamento di spazi abitativi dedicati e arricchiti dalla presenza di educatori le dimensioni esistenziali sulle quali attualmente noi ci muoviamo sono quindi quelle della casa del lavoro e della socialità riflettendo sulle esperienze concrete messe in campo la sede dell'abitare e mi riferisco anche all'esperienza dell'housing first ma non solo sembra essere quello che presenta maggiori sinergie con le realizzazioni degli ultimi anni a favore di adulti in situazioni di disagio e grave marginalità comprendendo quindi anche una parte delle persone che concludono al periodo di pena la dimensione della socialità e quella culturale come è stato evidenziato anche in recenti incontri della rete ha invece proprio bisogno di cura siamo in una fase in cui stiamo ritornando alla normalità dopo un periodo di due anni che ci ha molto penalizzato e i cui effetti negativi valgono per tutti non solo per i detenuti valgono per tutti noi e quindi sembra poter essere una fase anche opportuna per sollecitare le comunità in questa direzione è un percorso difficile per tutti ma ridisegnare i processi che determinano i legami sociali la partenenza che passa attraverso anche piccole esperienze concrete di partecipazione attraverso singoli momenti di costruzione di fiducia quindi è la partenenza la fiducia e la partecipazione sono elementi centrali per un progetto che vada al rafforzamento dei legami sociali e quindi è emersa in più sedi anche a livello di servizi l'esigenza di una sperimentazione progettuale che sia legata a un percorso culturale in molti interventi è stato detto ecco non rubo altro tempo ma approfitto solo per informare che a breve pubblicheremo un avviso per una manifestazione di interesse per l'avvio di tavoli di coprogrammazione come voi sapete noi siamo destinatari di fondi del PNRR che riguarda delle linee di investimento che vanno nella direzione dei supporti alla grave marginalità in particolare lo sviluppo dell'Housing First e anche di altri nuovi servizi la stazione di posta in particolare ed è intenzione del servizio aprire al territorio la partecipazione degli agenti locali la partecipazione alla programmazione di questi servizi che ha una durata ovviamente triennale che si realizzeranno in un triennio ma che iniziamo a programmare insieme grazie grazie questa apertura che vogliamo che vogliamo cogliere in tutta la sua importanza l'ultimo intervento di contenuto ormai chiamati saluti istituzionali è una formula riduttiva Flavia Virgilio che è dirigente scolastico del centro provinciale istruzione adulti magari poi potrà intervenire anche successivamente con il confronto con il volontariato il terzo settore buongiorno a tutte e a tutti un grazie a tutte le istituzioni presenti e un grazie soprattutto alla scuola che è presente con i ragazzi ai docenti che li accompagnano naturalmente la presenza dei ragazzi è importantissima perché ci mostra come la scuola può essere un soggetto attivo nel processo di cambiamento e di miglioramento del futuro e soprattutto la presenza dei ragazzi dentro una situazione come questa ci mostra come fare scuola non è stare solo dentro le classi ma anche partecipare alla vita della città diventare cittadini comincio diciamo richiamando un po' il tema di questo di questa nostra giornata di lavoro che ruota intorno alla costituzione al problema degli spazi e del ripensare gli spazi per le scuole gli spazi sono in questo momento al centro della riflessione culturale e anche professionale dei docenti e dei dirigenti scolastici una volta potevano sembrare come dire indifferenti e neutri oggi sappiamo anche grazie alle ricerche della pedagogia e delle scienze che si occupano dell'educazione che gli spazi non sono assolutamente un elemento neutro nel processo di apprendimento degli studenti e per il lavoro dei docenti si parla quindi sempre di più di ambienti di apprendimento e quindi dell'importanza di pensare questi ambienti per facilitare i processi di apprendimento quindi è sempre più frequente il coinvolgimento di architetti specializzati nella pianificazione degli spazi che favoriscano l'apprendimento ma è anche sempre più diciamo frequente che nella progettazione di questi spazi vengano coinvolti coloro che lavorano nell'apprendimento e coloro che sono i principali protagonisti dell'apprendimento cioè gli studenti quindi intorno al tema della progettazione degli spazi di apprendimento ci deve essere una componente professionale che è quella sicuramente degli architetti e anche di coloro che si occupano della progettazione degli arredi per esempio che possono fare la differenza nel processo di apprendimento se noi entriamo in un'aula e vediamo la cattedra sulla pedana come usava forse la professoressa di cui il dottor Corleone ha parlato prima i banchi schierati in file e righe abbiamo una certa idea di apprendimento se noi entriamo nelle moderne aule con i banchi a isola e i monitor digitali e i tablet per tutti sicuramente abbiamo un'altra idea di apprendimento abbiamo un'altra idea anche del ruolo dei docenti e del ruolo degli studenti quindi è importante ripensare i muri diciamo ma è importante ripensare il contenuto di questi muri ed è importante ragionare sulle idee di imparare di insegnare che dentro questi muri poi le persone agiscono passo al secondo diciamo pilastro della nostra giornata di oggi che è il tema della Costituzione e il diritto all'istruzione in carcere è strettamente legato a poi ciò che avverrà e deve avvenire fuori dal carcere cioè l'inclusione sociale e quindi è strettamente legato a un'idea di cittadinanza quindi è importante che insieme e ringrazio il dottor Corleone perché in maniera determinata e come dire molto insistente ci richiama periodicamente a ragionare su questo è importante che insieme noi ragioniamo su che cosa vuol dire per noi essere cittadini su che cosa significa per noi essere cittadini che temporaneamente stanno dentro un carcere che hanno diritto a fare un percorso che li accompagna all'esterno migliori di come sono entrati quindi il tema della condivisione del senso del fare scuola in carcere è un altro tema importante su cui riflettere proprio perché ci consente su ragionare sullo stare dentro e sullo stare fuori e sullo stare dentro e sullo stare fuori non solo come dire di chi in carcere dei detenuti ma sullo stare dentro e sullo stare fuori del carcere stesso il problema dell'apertura del carcere alla città e anche il problema dell'apertura della città al carcere e sullo stare dentro e sullo stare fuori degli operatori e io naturalmente so dei miei docenti ma ci sono tanti operatori, abbiamo sentito i responsabili dei servizi che hanno parlato qua, che lavorano tutti i giorni dentro al carcere e anche fuori dal carcere, i volontari che lavorano dentro e fuori dal carcere, quindi questo tema della porosità dei muri e del movimento e non della staticità della dimensione del carcere è un altro tema importante. Per ragionare su questo, credo che forse ne parleremo di più nel pomeriggio, al centro della nostra attenzione ci deve essere l'ascolto, l'ascolto di chi appunto lavora e che ha presente i problemi, le criticità, le sofferenze, le difficoltà, ma ha presente anche le prospettive. Quindi ascoltare queste speranze, diciamo, e però mettere insieme i passi che sono necessari per farle diventare concretezza, magari non domani, ma speriamo dopo domani sì. Questo ascolto e quindi il coinvolgimento delle persone implica responsabilizzare le persone, le persone che saranno ascoltate, che verranno in qualche modo recepiti i propri bisogni, i propri suggerimenti, saranno sicuramente persone più in grado di partecipare in maniera consapevole a quelli che sono poi tutti i processi che mettono in moto i momenti di rieducazione dentro al carcere. Concludo, diciamo, con due questioni. Una questione è il tempo, come non sono in differenti luoghi, non è indifferente neanche il tempo. Ascoltare le persone e in qualche modo dare voce e accogliere quelli che sono i bisogni, poi deve essere collocato in una scala temporale, che sia, come dire, coerente e che sia rispettosa di quelli che sono proprio il bisogno delle persone di trovare una risposta anche concreta alle proprie problematiche di vita. Ecco, non è possibile pensare che ascoltiamo oggi le persone, ma poi quello che le persone ci chiedono venga realizzato tra vent'anni, no? Quindi questa dimensione del tempo è importante. Una parola che ha percorso per tanto tempo gli incontri che abbiamo fatto a Zuliano con Pierluigi è stata sicuramente la parola cura e quindi con questo invito al prenderci cura delle persone e degli spazi e al guardare, al costruire il bello anche in una situazione dove forse il bello non è la cosa prima a cui pensiamo. Il diritto a vivere in un ambiente non solo dignitoso ma curato è una cosa a cui dobbiamo aspirare in maniera tenace proprio per curare quelle cicatrici di cui ha parlato il nostro Presidente Mattarella e che altrimenti diventano indelebili. Grazie e buon lavoro a tutti. Ricordo, mi è venuto in mente sentendo questo intervento sulla importanza e centralità della scuola e guardo la direttrice e la comandante e capisco, so bene tutte le difficoltà, però pongo questa questione della centralità della scuola. L'esperienza nel carcere di Volterra, che è un carcere, è una fortezza, è diventato famoso perché da carcere duro è diventato il carcere in cui c'è l'esperienza teatrale più formidabile in Italia, quella della compagnia di Armando Punzo. Ebbene, in quel carcere la direzione ha fatto questo esperimento negli anni scorsi di fare entrare alcune classi dei corsi di scuola media superiore e svolgerli dentro il carcere. E' una cosa straordinaria se vogliamo, cioè sono non i detenuti che vanno a scuola da soli in carcere ma sono una classe come la vostra che potrebbe andare tutti i giorni in via Spalato a fare l'esperienza appunto di scuola in un luogo diverso rispetto all'istituto. Ecco, ci sono anche queste esperienze nelle carceri italiane che andrebbero conosciute eccetera. Allora, Massimo Brianese ha già detto che siamo in un ritardo terrificante ma in realtà non abbiamo perso tempo e quindi adesso passiamo anche alla fase che è centrale e che credo interessi molto gli studenti presenti, che è quella del ridisegno del carcere e quindi chiamo l'architetto Daniela Di Croce del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha costruito il progetto, oggi lo ripresenta, presenterà anche gli sviluppi del progetto rispetto a quello che riguarda la sezione di semilibertà e il recupero dell'ex femminile e con lei c'è la dottoressa Linda Roveredo che è dottoranda di architettura non ci sarà il professor Lavarra perché non riesce a fare un collegamento ed è fuori Udine però diciamo che oggi, ecco, questa presentazione in coppia dimostra il lavoro dell'amministrazione penitenziaria e dell'Università di Udine in un rapporto che dovrà vedere coinvolti le associazioni di volontariato il terzo settore ma anche le scuole medie superiori per questo progetto partecipato che dovrà vedere coinvolti tante energie anche i detenuti stessi a ridisegnare il carcere stesso dalle stanze ai corridoi e così via. Allora la parola a Daniela Di Croce e a Linda Roveredo e poi ci saranno gli interventi degli architetti Corrado Marcetti e Leonardo Scarcella. Grazie Buongiorno a tutti. Un anno fa, sei mesi fa ci siamo incontrati per presentare questo progetto ma in realtà questo ambizioso piano di ristrutturazione è stato avviato molto prima faccio un rapido riassunto per chi non ha seguito questa vicenda nell'inizio del 2021 è stato inserito un programma di interventi e la cosa interessante di questo progetto che stiamo affrontando per fasi è che correttamente questo progetto è stato programmato su base triennale come ci chiede di fare l'amministrazione per i lavori pubblici è stato inserito nella programmazione triennale del Ministero della Giustizia e poi anno per anno stiamo procedendo a realizzare una parte di questo intervento Allora voglio riassumere un po' quali sono i vari aspetti che hanno fatto parte di questa progettazione La grande sfida e la grande difficoltà è che questi interventi di ristrutturazione dell'intero carcere sono localizzati in vari punti dell'istituto penitenziario e la cosa più importante è stata quella di prevedere una tempistica di interventi in quanto l'istituto penitenziario durante i lavori di ristrutturazione dovrà comunque funzionare Questa è una difficoltà enorme perché voi immaginate un istituto interessato da una serie di lavori importanti consistenti di demolizione, di ristrutturazione, di imprese che si avvicenderanno nei cantieri che comunque continua la sua funzione istituzionale, continua ad avere il personale che ci lavora i detenuti che svolgono le attività Per cui questi interventi programmatine per il trienno 2021-2023 hanno interessato una serie di settori che adesso vi indico la prima fase è stata incentrata sull'edificio su via Spalato che è un edificio dove al piano terra è collocata la portineria centrale dell'istituto mentre al primo piano era l'alloggio del direttore, erano alloggi dei maniali e per anni è stato completamente abbandonato Quindi queste due aree che vedete in blu più quest'area qui del campo di calcio sono le tre aree che fanno parte del primo intervento importante per il quale è stata già eseguita la progettazione esecutiva Abbiamo deciso di avviare l'intervento su queste zone perché queste zone attualmente sono abbandonate non sono utilizzate, sono completamente vuote per cui è facile lavorare su ambienti vuoti senza dover preoccuparsi di spostare attività o di spostare attività che attualmente servono per la gestione dell'istituto e poi abbiamo inteso riqualificare tutta la parte di questo cortile che è attualmente destinato al calcetto Questo gruppo di interventi sono attualmente stati sono in corso di esecuzione siamo arrivati alla fase finale della progettazione esecutiva e poi alla fine della presentazione vi farò vedere un cronoprogramma dove potete capire come vanno queste dal punto di vista gestionale dal punto di vista previsionale e progettuale come vanno le tempistiche man mano che le varie fasi che sono previste dalla legge ci fanno, dobbiamo rispettare Invece per quest'anno, per il 2022 noi abbiamo in programmazione questi altri interventi dislocati su altre due zone differenti e sono la realizzazione di una sala polivalente e questa è la cosa più delicata per la quale vi illustrerò come stiamo procedendo e in più la ristrutturazione delle sale colloqui familiari detenuti e l'ampliamento di questa fase in più sono previsti altri interventi che riguardano l'efficientamento energetico dell'istituto in questa parte della caserma nella zona totalmente esterna all'istituto penitenziario e in programmazione la realizzazione di pensiline dotate di pannelli fotovoltaici che serviranno anche sia alla produzione di energia che alla ricarica dei veicoli elettrici dell'amministrazione per i quali in futuro si prevede l'utilizzo in più è già stato affidato un appalto sempre per l'efficientamento energetico per la sostituzione di tutti gli infissi dell'istituto li sostituiamo integralmente per avere un'efficienza energetica maggiore e questi interventi sono stati fatti anche a seguito di un'indagine di una relazione di diagnosi energetica che abbiamo affidato all'esterno che è stata già conclusa e realizzata per la quale noi abbiamo già indicazioni su come procedere per attivare tutte le procedure di risparmio energetico che ci faranno andare avanti nei prossimi tempi allora dicevo gli interventi che andremo a vedere per quest'anno per i quali è in corso il progetto di fattibilità tecnico-economica riguardano la realizzazione di una sala polivalente e l'ampliamento della sala colloqui sono stati già inseriti nella programmazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per cui i fondi sono stati già stanziati tant'è vero che il programma è stato già pubblicato sul sito del ministero quindi è un lavoro che comincia a trovare concretezza in questo caso le esigenze dell'amministrazione per quanto riguarda la sala polivalente erano proprio quelle di avere uno spazio perché come vedete l'istituto non offre grandi superfici per poter fare delle attività noi dobbiamo muoverci in una situazione in cui dobbiamo andare a ricavare dei piccoli spazi e cercare di trovare quelli più adatti a quelle che sono le nostre esigenze particolari in questo caso una sala polivalente che possa avere funzioni sia di effettuare dei convegni effettuare delle rappresentazioni teatrali oppure essere aperta anche all'esterno è una sala che deve avere una certa conformazione e non può assolutamente essere ricavata nei piccoli spazi a disposizione dell'istituto anche perché poi è proprio difficoltoso trovarli per cui la proposta di realizzazione della sala è una proposta che ha dovuto essere motivata dal confronto di soluzioni progettuali previste dalla legge che ci dice che l'amministrazione deve motivare delle scelte progettuali questa scelta progettuale che è quella più invasiva diciamo perché noi realizzeremo un nuovo volume ma è quella più conveniente per l'amministrazione perché realizzeremo un volume finalizzato alle nostre esigenze e non continueremo a ricavare volumi negli spazi a disposizione come stiamo facendo da un po' di anni a questa parte dove ci serve lo spazio noi andiamo a imbucare una situazione ma in questo caso affrontiamo un progetto più ambizioso l'altra esigenza è quella di avere uno spazio adeguato per i colloqui con i familiari detenuti che attualmente è collocato in una piccola area qui al piano terra allora sono già passata qui ecco attualmente i colloqui sono limitati a una stanza in questo punto noi invece prevederemo poi di prendere un'area molto più estesa allora passiamo a illustrare brevemente la sala polivalente e come abbiamo inteso nel progetto di fattibilità di sviluppare la parte centrale dell'istituto è occupata da un volume un volume che è stato realizzato nel 2005 è stato realizzato questo volume proprio come si diceva prima nel discorso che è stato fatto fu realizzato giusto a seguito della ristrutturazione generale dei padiglioni detentivi serviva un volume per avere attività comuni attività sociali e quindi fu affidata la realizzazione di questo volume tramite trattativa privata alla ditta che ha realizzato i lavori più generali di ristrutturazione dei padiglioni detentivi fu affidato a trattativa privata e fu realizzato un volume denominato all'epoca area sociale questo volume fu realizzato adesso vi farò vedere un percorso per il quale questo volume non fa parte dell'impianto originario dell'istituto è un volume che non ha nessuna valenza architettonica non ha nessun nesso con l'istituto e con l'impianto originario tant'è vero che nelle ricerche che abbiamo fatto anche in direzione siamo riusciti a risalire a tutte le trasformazioni che furono fatte per tutto l'istituto in generale ma soprattutto limitatamente a quell'area dove andremo a intervenire nelle planimetrie antiche che abbiamo recuperato e che sono custodite presso la direzione abbiamo reperito la planimetria per l'inserimento nel catastro del 1939 questa planimetria ci fa vedere come l'istituto era stato realizzato era stato progettato al posto del cortile di passeggio attualmente questo cortile dove attualmente è stato realizzato questo volume in realtà c'erano questi nove cortiletti che erano cortili di isolamento per cui tutta l'area era occupata da questi cortili di isolamento successivamente questi cortili anche perché le esigenze di detenzione sono completamente cambiate nel corso degli anni questi cortili furono demoliti completamente e questo lo abbiamo potuto confrontare in una planimetria del genio civile che conserviamo presso gli archivi del dipartimento in cui questi cortili sono stati completamente demoliti e ne rimanevano all'epoca solo quattro nel secondo spazio questo ci fa capire come l'istituto la conformazione dell'istituto che è un istituto penitenziario dei primi istituti finanziati con una legge nazionale emanata nel 1879 proprio per la costruzione di istituti penitenziari abbia nel tempo subito numerose modifiche dopo questa planimetria noi abbiamo avuto contezza di quello che c'era al posto dell'attuale volume da un rilievo fatto eseguire dall'amministrazione del 2004 questo rilievo portava che in questa zona c'era un deposito attrezzature che poi doveva essere demolito perché era realizzato con coperture di amianto quindi andava smaltito e in quell'epoca in concomitanza ai lavori fu demolito al posto di quello proprio perché c'era esigenza di avere degli spazi perché si è lavorato sempre in emergenza senza un piano fu realizzata l'attuale area che fu denominata area sociale nella quale adesso c'è una piccola biblioteca e due aulette quindi è un'area che viene utilizzata per questo allora la proposta che viene fatta è una proposta che deriva da una valutazione allora l'amministrazione potrebbe tenere quest'area per quest'area era prevista addirittura un secondo piano che non fu più realizzato nel tempo noi potremmo utilizzare quest'area riorganizzarla ma quello che riusciremmo a ottenere come vedete qui nella piccola simulazione di quello che potrebbe essere il progetto affrontato noi avremo una piccola sala stretta e lunga perché naturalmente dobbiamo garantire l'accessibilità, i percorsi dobbiamo garantire determinate norme tecniche adeguate alla sala una sala polivalente che sarebbe veramente di pochissimi posti per cui anche l'intervento che potremmo fare tenendo questo manufatto non ci consentirebbe di avere una sala che potrebbe soddisfare le esigenze dell'amministrazione in più questo manufatto fu realizzato la struttura fu realizzata ancora prima dell'emanazione delle prime norme tecniche per le costruzioni del 2008 per cui probabilmente questa struttura neanche non è adeguata alle norme attuali che sono state aggiornate nel 2018 e noi dovremmo fare degli interventi enormi per adeguarla sismicamente tutto dimostra come la cosa più conveniente sarebbe proprio quella di demolire completamente questa struttura che è stata tra l'altro realizzata senza autorizzazioni diciamo che era un po' consuetudine cercare di tamponare e saltare tutte le fasi autorizzative e invece al posto di questa realizzare adesso qui è una proposta un volume che possa avere una superficie tale da contenere fino a 100 persone quindi una sala che può sicuramente diventare un posto di aggregazione un posto che può essere poi organizzato in vari modi adesso ecco qui ci sono delle ipotesi di organizzazione degli spazi in funzione degli eventi che potrebbero essere organizzati all'interno come proiezioni conferenze anche dei convegni delle riunioni per le associazioni per i familiari potrebbe diventare un luogo vissuto vissuto continuamente tra l'altro la posizione in cui questo questo punto questo edificio verrebbe realizzato sarebbe molto vantaggioso perché anche l'esterno gli operatori esterni la città i familiari le associazioni potrebbero entrare direttamente senza fare accesso all'interno dell'istituto ma dall'esterno da una porta carraia che esiste quindi anche i percorsi di accesso sarebbero molto semplificati questa sala potrebbe diventare qui ci sono delle immagini che non sono della sala ma sono delle immagini che possono far capire come possiamo immaginare questa struttura che deve essere ancora progettata e potrebbe diventare una biblioteca permanente con una parte anche sopraelevata qui si potrebbe prevedere una scala che porta a un soppalco dove ci sono degli angoli di lettura e dove c'è un'esposizione permanente per esempio qui vedete una cosa che potrebbe assomigliare potrebbe essere organizzata invece come una sala per riunioni come una sala per proiezioni conferenze ecco diciamo immaginiamo che la sala ha queste potenzialità e potrebbe essere pensata come una sala completamente aperta verso l'ambiente esterno che verrà organizzato secondo le esigenze con degli spazi verdi degli spazi pavimentati e degli spazi da poter utilizzare all'occorrenza ecco come diceva il dottor Corleone poi saranno anche le associazioni che proporranno una serie di eventi di utilizzo noi faremo faremo una struttura quanto più possibile leggera aperta non invasiva che non occupa un volume in altezza cercando di tenerla il più contenuta possibile in modo da poterla organizzare come serve questo è l'intento dell'amministrazione questo progetto di fattibilità è in corso di redazione dopodiché verrà affidata la progettazione esecutiva a uno studio di progettazione verrà fatta una gara per affidare la progettazione esecutiva dopodiché verrà fatta la gara e la procedura continuerà un altro intervento è quello di riorganizzazione del settore colloqui per questo utilizzeremo tutta questa parte qui del piano terra dell'istituto e verrà organizzata una fascia esterna in questo caso è una fascia che potrebbe essere anche più estesa poi si vedrà in fase esecutiva e il settore colloqui verrà organizzato in maniera tale da avere una sala molto grande aperta completamente sempre controllata dal personale con degli spazi attrezzati come ludoteca per i bambini accessibile ai portatori di handicap dotata dei servizi igienici e sulla parte finale sarà prevista anche una piccola saletta per i rapporti con le famiglie per consentire alla direzione di soddisfare quello che è previsto dal regolamento all'articolo 61 cioè consentire a una famiglia un detenuto con la propria famiglia di trascorrere una giornata insieme con i figli di poter pranzare insieme di poter cucinare quindi verrà attrezzata con un piccolo angolo cottura con un tavolo un divanetto in una sala che può essere utilizzata in questo senso sempre controllata dal personale oppure utilizzata per colloqui qualora non si riesca a fare questa procedura allora per tutto questo volevo farvi vedere brevemente come stiamo ecco come appuntamento come stiamo con invece i lavori che sono relativi al primo lotto alla ristrutturazione del settore colloqui del settore area trattamentale non colloqui e alla realizzazione della zona semiliberi il progetto è partito l'anno scorso io però nelle slide non ce l'ho diciamo qui rappresentativo nel dettaglio però l'anno scorso siamo partiti con la progettazione di fattibilità con tutto il ciclo progettuale previsto dalla norma l'attività è iniziata a marzo a maggio è stato ecco come vedete questo è un cronoprogramma che illustra tutte le attività dalla progettazione iniziale del progetto di fattibilità fino all'esecuzione dei lavori che è questa parte qui allora adesso noi ci troviamo in questa fase qui vedete la manina cioè noi abbiamo iniziato il progetto di fattibilità fatto approvare il progetto di fattibilità fatta la gara per la progettazione abbiamo avviato la progettazione esecutiva con una società di progettazione esterna abbiamo dovuto sospendere perché è stato necessario fare delle indagini di vulnerabilità sismica vabbè non vi ho detto anche che nell'ambito di questo arco temporale sono state effettuate l'indagine geologica sul sito che è fondamentale per la redazione dei progetti e l'indagine di vulnerabilità sismica la valutazione per la quale è stato necessario fare dei saggi sulle strutture ecco uno potrebbe chiedersi come mai stiamo ancora a questo punto non abbiamo ancora iniziato i lavori l'inizio dei lavori è subordinato a tutta questa serie di adempimenti dopodiché sono stati ripresi i lavori di progettazione la progettazione è stata conclusa e adesso la progettazione il progetto è andato in verifica esterna siccome il progetto è un importo superiore a un milione di euro precisamente siamo circa un milione ottocentocinquantamila euro di lavori il progetto è stato sottoposto a società di verifica esterna che sta procedendo alla verifica ha già completato la prima fase e stiamo in integrazione di alcune richieste che ci hanno fatto tutto questo dovrebbe concludersi la prossima settimana spero dopodiché verranno avviate le procedure di gara qui vedete voi successivamente la procedura di gara che è questa parte qui affidamento lavori che prevede queste fasi la fase esecutiva dei lavori è l'ultima fase che vedete qui in fondo quindi da questo potete capire come in una programmazione fatta secondo le norme attuali previste dal codice dei contratti in una programmazione tutta la fase di adempimenti progettuali adempimenti di verifiche adempimenti autorizzativi sia completamente preponderante rispetto poi alla fase esecutiva dei lavori quindi noi teorizzeremo qui secondo questo cronoprogramma di completare i lavori alla fine di agosto 2023 ecco e questa è la prima fare però intanto visto che abbiamo diciamo fatto questa programmazione cominceremo già da quest'anno a progettare la seconda fase e niente per il resto tutto procede vi posso garantire che stiamo andando avanti con molta solerzia e quindi speriamo che presto si possa attivare l'esecuzione dei lavori io per adesso mi fermo così la mia collega qui vi presenterà io ringrazio l'architetto Daniela Di Croce per questo lavoro intenso come avete visto le procedure sono defatiganti perché ci sono sempre richieste di adempimenti paradossalmente poi si scopre che c'è un manufatto che è stato un abuso edilizio poi però quando si vuole fare una cosa bella invece i controlli sono continui e assillanti pigliamo però ormai mi pare che siamo sulla via della soluzione adesso la parola all'architetto Linda Roveredo che brevemente ci indicherà come si vuole operare questa collaborazione sul soprattutto poi delineando già preparandoci al secondo lotto dei lavori che avete visto riguarda il teatro ma poi le celle i corridoi gli spazi collettivi grazie allora buongiorno a tutti sono sì mi avvicino un po' sono Linda Roveredo come anticipato sono una dottoranda in ingegneria civile ambientale e architettura no non si sente ok presso l'università degli studi di Trieste intratteneo con l'università degli studi di Udine e innanzitutto vi ringrazio a nome mio e del prof Giovanni Lavarra per l'invito a questo seminario e in particolare vi porto i suoi saluti le sue scuse che per impegni e con dispiacere non è potuto essere presente a questo incontro oggi come è stato detto andrò ad illustrarvi brevemente il programma e gli ambiti di ricerca del workshop che vedrà coinvolto il dottorato di ricerca in Trateneo Udine Trieste e che ha come oggetto la casa circondaria di Udine come tutti saprete il dottorato di ricerca è considerato il livello di istruzione più alto sul territorio nazionale e si tratta di un percorso di studio che viene intrapreso dopo il conseguimento della laurea magistrale e ha come obiettivo la ricerca e un'ulteriore specializzazione nel proprio campo di studi ha una durata di tre anni e il percorso di ogni dottorando termina poi con l'elaborazione di una tesi finale in particolare il dottorato in oggetto è un dottorato come ho detto interateneo in convenzione tra l'Università di Trieste e l'Università di Udine in ingegneria civile ambientale e architettura e quindi è composto sia da architetti che da ingegneri nel corso dei tre anni il dottorato propone una serie di esperienze progettuali più o meno diversificate e questa che oggi vi accenno la riteniamo particolarmente importante e formativa ovviamente per i motivi di incrocio tra gli aspetti fisici concreti materiali dello spazio e gli aspetti sociali e la ricchezza delle soggettività che sono coinvolte per avere un quadro di riferimento la casa circondariale di Udine si trova in via Spalato a nord-est del centro di Udine in origine il complesso carcerario era sito all'esterno del centro urbano della città ma con il trascorrere del tempo e con lo sviluppo della città di Udine è stato inglobato all'interno del tessuto edilizio cittadino e del tessuto urbano e oggi quindi si colloca immediatamente all'esterno dell'ambito del centro città la superficie totale dell'area di Maniale è di circa 16.000 metri quadri dei quali la parte detentiva vera e propria a sinistra che è delimitata dalla cinta muraria è di circa 7.000 metri quadri la costruzione del nuovo carcere di via Spala fu iniziata nel 1921 e terminata nel 1925 e successivamente a partire dalla metà del novecento furono edificati altri edifici nell'area De Maniale adiacente all'istituto originario quindi sulla destra che erano destinati diciamo a caserma per gli agenti di polizia penitenziaria palestre uffici alloggi dei maniali e un poligono di tiro passerò ora a descrivervi brevemente la dislocazione delle funzioni attuali presenti all'interno del carcere non so se si vede bene ma nelle planimetrie che ora scorrerò sono stati evidenziati in giallo gli spazi attualmente non utilizzati e in particolare in giallo meno intenso gli spazi non utilizzati che però sono già stati inseriti nel progetto di rifacimento e di ricostruzione presentato dall'architetto di Croce e con un giallo più intenso invece gli spazi inutilizzati o poco utilizzati che poi saranno oggetto del workshop quindi partendo dalla planimetria del piano terra a partire dall'ingresso su via Spalato il primo edificio su fronte strada è destinato alla portineria è costituito da un piano terra adibito attualmente ad ingresso principale a servizi di portineria e ad accettazione colloqui mentre il primo piano era adibito dall'oggio di servizio ma attualmente è inutilizzato e quindi oggetto del progetto di rifacimento e ricostruzione infine poi l'edificio termina con un piano di sottotetto ritornando poi alla planimetria del piano terra l'edificio retrostante a forma di C invece attualmente ospita i servizi generali il settore dei colloqui alcuni uffici il settore sanitario e invece l'ex settore di detenzione femminile l'edificio si sviluppa su due piani più un piano di sottotetto e anche in questa parte cioè parte di questi spazi come abbiamo visto in precedenza sono oggetto del programma di interventi presentato dal DAP partendo quindi nuovamente dalla planimetria del piano terra individuando l'ultimo edificio l'edificio AT sul retro che è destinato unicamente a detenzione si sviluppa su tre piani detentivi e un piano di sottotetto e questi spazi sono stati oggetto in passato di un intervento edilizio importante di adeguamento delle sezioni detentive al nuovo regolamento che si è concluso nel 2005 l'istituto ha una capienza di circa 90 posti detentivi collocati principalmente in questo edificio AT che si sono suddivisi in stanze singole e in stanze multiple e attualmente la presenza dei detenuti comunque è superiore alla capienza regolamentare di questo edificio il piano di sottotetto che poi vedremo nelle planimetrie successive in parte viene già utilizzato con funzione di luogo di culto e di spazi destinati ai colloqui con il garante mentre la parte di sottotetto invece evidenziata in giallo sarà probabilmente oggetto del workshop infine poi il complesso si completa con una serie di edifici monopiano che ospitano scuola biblioteca attività varie per il trattamento cucina centrali e una sezione di isolamento quindi come è facilmente riscontrabile da questa analisi planimetrica la casa circondariale di via Spalato ha uno sviluppo verticale chiuso ed è carente di spazi aperti e di ritrovo quindi il tentativo progettuale su cui stiamo ragionando da attuare è quello quindi di recuperare lo spazio in salita e la serie quindi di spazi che sono stati liberati e che non sono stati ancora occupati ammonta circa 1400 metri quadri che come abbiamo visto quindi comprendono uffici corridoi sottotetti e via dicendo e questo qua fatto sottolinea che nonostante l'istituto di via Spalato sia un carcere molto denso con pochi spazi aperti esso abbia tante risorse interne che possono essere sfruttate aumentando la superficie utile senza costruire senza consumare nuovo suolo ma unicamente aumentando la densità verticale e le relazioni interne all'interno quindi del programma di interventi che è stato presentato dal DAP che per frammenti e singoli episodi comincia a ripensare al carcere di Udine il nostro compito è quello di continuare ad indagare spazi e potenzialità ma soprattutto inquadrare queste potenzialità all'interno di un quadro generale quindi l'obiettivo del workshop è quello di proseguire ad indagare dove sono dislocati gli spazi voti e che cosa è possibile realizzare all'interno di questi spazi voti quindi quali funzioni non ancora garantite dal master plan funzionale predisposto dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria possono essere portate in questi luoghi per andare verso una direzione di un carcere di servizio abitabile per i detenuti per gli agenti di polizia penitenziaria e per gli esterni come le famiglie ma anche per quel mondo variegato di associazioni e di comunità di volontariato sociale che gravitano intorno al carcere per portare sapere formazione ed attività questi sono degli schemi che sintetizzano in un quadro di insieme gli spazi e gli interventi che interessano il carcere associando quindi al programma di interventi già ultimati in corso di gare in corso di redazione e di fattibilità che abbiamo visto in precedenza che stanno interessando la casa circondariale di via Spalato gli spazi dei quali si occuperà invece il workshop che qui vedete evidenziati in giallo e di cui vi parlerò brevemente in particolare quindi l'attenzione del workshop si concentrerà nel cortile al piano terra quindi nel quale potrebbe essere prevista ad esempio un'attrezzatura leggera capace di stimolare la socialità mentre nelle giornate di bel tempo o nella buona stagione il cortile potrebbe fungere anche da spazio di esercizio di meditazione e poi nei grandi corridoi che si sviluppano nei tre piani destinati alla detenzione dell'edificio a T che sono uno spazio ampio e generoso che può essere ripensato come luogo di incontro ma anche di svago di lavoro destinato anche allo sport al benessere fisico così come alle attività collettive di piccola scala infatti i corridoi di distribuzione delle celle potrebbero essere ad esempio resi più abitabili attraverso l'introduzione di piccoli moduli da disporre isolati o in aggregazione orizzontale o verticale che potrebbero quindi essere utilizzati occasionalmente come seduta come piccoli tavoli o anche come scaffali trasformando quindi il corridoio non solamente in un ambiente di percorso ma anche in spazi di socialità alla piccola scala o come sale da pranzo informali individuando una dimensione quindi intermedia fra il pasto parcellizzante somministrato in cella e quello in refettorio vista poi l'importanza dell'esercizio fisico soprattutto se costretti entro quindi le mura di un penitenziario nello spazio del sottotetto tra le varie attività potrebbe essere ipotizzata la creazione di una palestra intesa anche come spazio di esercizio ma anche come spazio di meditazione nella quale prevedere anche dei corsi collettivi condotti da istruttori esterni o da detenuti stessi se hanno una preparazione specifica infine poi lo spazio di sottotetto dell'edificio che abbiamo visto in precedenza che in parte è occupato dalla chiesa e dallo spazio destinato ai colloqui potrebbe essere una preziosa risorsa occasione per introdurre una serie di funzioni capaci di compensare alcune magari delle carenze che sono presenti che sono della situazione presente come ad esempio degli spazi interni di vita quotidiana dei detenuti e anche degli agenti di polizia penitenziaria o spazi dell'affettività quindi queste sono alcune delle suggestioni su cui stiamo ragionando in preparazione di questo lavoro seminariale che verranno poi approfondite esplorando ed indagando attraverso gli strumenti del progetto il tema dello spazio del carcere e delle sue condizioni di abitabilità con l'obiettivo quindi di qualificare e riqualificare le valenze relazionali dell'istituto di pena attraverso interventi puntuali di riuso e di trasformazione della pluralità dei tipi di spazio che sono stati individuati e anche esterni al perimetro murario che fungano da interfaccia tra l'ambiente del carcere e la realtà urbana in cui esso è inserito il programma quindi del workshop prevede una prima parte di lezioni di esperti e una seconda parte di lavoro in situ presso una sala del carcere sono in programma anche alcune giornate di sopraluogo e di confronto in presenza durante le quali i dottorandi poi verranno accompagnati a visitare le aree del carcere e attualmente inutilizzate e ogni dottorando verrà poi incaricato della definizione di un pezzo di carcere da riqualificare in modo da comporre in un secondo momento l'insieme di un progetto in unità coerente in conclusione sono poi lieta di comunicarvi che attualmente è in corso la condivisione e lo scambio dell'accordo di collaborazione tra università e DAP che permetterà ai due enti alla pari di scambiarsi informazioni e saperi e che permetterà quindi anche lo svolgimento del presente workshop nel mese di settembre 2022 e l'workshop idealmente si allinea e va in prosecuzione di una politica pubblica portata avanti dal DAP e siamo molto contenti di entrare in risonanza e di andare di essere una sorta di prospettiva di una politica pubblica fatta comunque di interventi concreti e questo è anche uno dei fulcri dei fuochi della terza missione dell'università con la quale si fa riferimento all'insieme di attività di trasferimento scientifico tecnologico e culturale e delle conoscenze attraverso processi di interazione dell'università con la società civile con l'obiettivo in questo caso di promuovere crescita sociale del territorio affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura sociale e culturale grazie 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 davvero a Linda Roveredo che ha arricchito il quadro questa promessa di workshop deve dovrà vedere coinvolti come ho detto dall'inizio stamattina anche gli studenti che sono qui oggi che almeno alcuni si potranno appassionare essere coinvolti in questo lavoro le associazioni di volontariato e del terzo settore per costruire in maniera partecipata io dico anche con i detenuti tutto il progetto fino alla sua conclusione che non è molto articolato come avete sentito va per fasi eccetera quindi questa presenza dell'università della scuola è molto significativa io credo adesso di chiudere questa parte saluto il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin che interverrà ad aprire la fase della della tavola rotonda del terzo settore del volontariato siamo è vero siamo in ritardo ma credo che recuperiamo io mi affido poi al buon cuore dell'architetto Scarcella e dell'architetto Marcetti per chiudere per mezzogiorno questa questa fase quindi solo con mezz'ora di ritardo l'architetto Scarcella ha già partecipato a novembre venite già intanto qua così guadagniamo tempo perché siete lenti vedo nei movimenti quindi e quindi l'architetto Scarcella viene da un'esperienza nel dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia abbiamo collaborato molti per molti anni assieme ha costruito tre volumi con la storia di tutte le carceri italiane dal punto di vista architettonico e l'architetto Marcetti è oltre che essere un amico è stato per molti anni direttore scientifico della fondazione Michelucci non so se l'architetto Michelucci è stato uno dei più grandi architetti del secolo scorso è vissuto esattamente cento anni credo sia morto alla vigilia del compleanno di cento anni e l'architetto che ha costruito la stazione Santa Maria Novella Firenze la chiesa di San Giovanni sull'autostrada vicino a Firenze e molte altre cose importanti si è occupato non del carcere ma ha ragionato sul significato del carcere in rapporto con la città ha collaborato e ha avuto un rapporto d'amicizia con Alessandro Margara e la fondazione Michelucci si è occupata per molti anni e a metà giugno ha organizzato un convegno proprio sul carcere è una dimensione è una dimensione e quindi Corrado Marcetti ha collaborato con Michelucci alla costruzione del giardino degli incontri che è un'opera d'arte la più bella che c'è nelle carceri italiane tutti dicono che il carcere di Sollicciano è brutto in realtà sono espressioni un po' approssimative in realtà è un carcere difficile perché è frutto di un progetto che può piacere o no ma l'abbiamo arricchito con la costruzione del giardino degli incontri che è di una straordinaria bellezza il problema è che il carcere è in crisi per molti motivi per il sovraffollamento per tutto quello che ci diciamo e quindi la bellezza del giardino non si espande in tutto il corpo dell'istituzione penitenziaria allora non so chi parla per primo Corrado Marcetti che è la la new entry nel nostro lavoro collettivo grazie sì allora cerchiamo io e Leonardo Scarcella di fare una cosa a due passandoci più volte l'argomento sui temi che riteniamo di interesse ho messo questa fase iniziale le carceri italiane sono in gran parte carceri di celle corridoi e cortili recinti non riusciremo a intervenire adeguatamente nel carcere se il pensiero progettuale rimane imprigionato nella spirale caustrofobica del recinto carcerario abbiamo la necessità di declinare le azioni progettuali nello scenario vasto della città nella complessa realtà urbana contemporanea di cui il carcere è un frammento socio-spaziale che non può rimanere separato e questo è il motivo anche per cui ho accolto con molto piacere l'invito degli organizzatori che ringrazio di partecipare a questo questo incontro questo secondo incontro sul carcere di Udine sulle operazioni progettuali nel carcere di Udine perché vedete nella nella discussione sul carcere come che ci siano due piani c'è da una parte c'è le discussioni che avvengono nei convegni gli appelli alla all'applicazione della Costituzione e tutto ciò che riguarda l'articolo 27 e questo è un mondo che sembra sia la realtà ma in realtà poi la realtà vera concreta avviene in un altro mondo ed è un mondo di sedimentazioni di comportamenti di consuetudine che nulla hanno a che fare con questo mondo di cui noi spesso discutiamo e allora siccome ultimamente da un po' di tempo cerco di evitare questo mondo parallelo di cui spesso ci nutriamo e di frequentare invece quel mondo di azioni concrete ecco perché ho accettato di venire a Udine perché questa mi sembra anche con la frase che abbiamo messo qui dietro di noi un'azione concreta un'azione concreta un'azione che fa nel senso di pensare il carcere senza la pretesa di risolvere i problemi del carcere nel carcere solo col carcere perché questo porta solo fallimenti il problema del carcere del recupero si risolve se lo sguardo è alla città è alla città perché portare lo sguardo alla città significa recuperare il patrimonio togliere carcere mettere città dentro il carcere come qui a Udine ho visto fare cioè la caserma è uscita dal recinto sta fuori la caserma perché dentro il recinto c'è quello spazio purtroppo ridotto di trattamento dei detenuti la casa della casa della semilibertà è la direzione che importa sta andando verso la città e prende la parte più come si può dire più di raccordo con la città con il suo ingresso quindi le persone che stanno in seguito di libertà da un punto di vista della loro condizione si sentono già in una condizione più da cittadini che da detenuti questo è un sentimento importantissimo e poi c'è il tema del recupero quando noi abbiamo iniziato a occuparci del giardino degli incontri e io frequentavo l'ufficio del ministero a Roma dove Franco Corleone era sottosegretario cercando di trovare i finanziamenti per realizzare il giardino degli incontri ultima opera di Michelucci a cui ho collaborato a cui ho collaborato incontrai per la prima volta Leonardo Scarcella e l'architetto Daniele Di Croce Daniele Di Croce che stavano facendo un repertorio del patrimonio edilizio delle carceri italiane come mai era stato fatto perché con la scusa della sicurezza non c'era mai stato fatto un repertorio del patrimonio quindi quanti fossero come fossero in che condizioni fossero che cosa si poteva fare per recuperare questo straordinario patrimonio pubblico non si sapeva è soltanto grazie a questo lavoro che è partita questa attenzione al patrimonio edilizio dell'amministrazione penitenziaria con tutte le ipotesi che da qui si possono aprire e qui lascio la parola a te non so se mi sentite perché sono con la voce un po' innanzitutto ringrazio il senatore Corleone la società della ragione gli amici che ci hanno invitato questa è la seconda volta è la terza volta che vengo qui a Udine e devo dire la verità che questa mattina si mostra un lavoro molto produttivo e peraltro molto avanzato poi la presenza dei geometri no? io l'istituto per geometri arricchisce moltissimo di contenuto umano e culturale questo incontro perché pure io devo dire la verità sono diplomato geometra e poi non sapevo se finivo come avvocato come medico come ingegnere o come architetto quindi vi chiedo per l'esperienza vissuta ascoltate bene perché vi servirà tutto questo non solo per diplomarvi in geometra ma per le scelte future chiarirvi le idee su questo argomento potrebbe servire a chiarirvi le idee sugli altri argomenti che dovrete affrontare questo è un argomento nuovo ma è un argomento antico per noi per voi è nuovo per noi dopo 30 anni forse è una minestra ulce e rivulsa sì 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 è una minestra ulce e rivulsa però cosa dire si è un po' un imbarazzo quando si tratta questo argomento in un incontro come quello di oggi dove Daniela Di Croce ha mostrato un intervento chiaro preciso ti ringrazio per aver ricordato il punto di partenza siamo nel 96 non si trovava quel progetto perché l'amministrazione penitenziaria aveva altri grossi problemi quello tecnico era lì da poco arrivato c'erano i primi tre architetti i primi quattro ingegneri siamo nel 93 arriviamo al 96 e il 97 in un mese decidiamo di fare questo lavoro perché il presidente Di Gennaro che era il consulente del ministro Flick e del senatore Franco Corlione si chiese d'urgenza lui curava la riforma dell'amministrazione penitenziaria di trovare materiale per dimostrare lo stato del patrimonio e lì scoprimmo che c'erano parti di istituto del tutto inattive del tutto abbandonate e forse era il caso di soffermarci e fare un'attenta lettura sullo stato di fatto di questi edifici sulle parti abbandonate anche non in termini edilizie sanitarie anche poco di cose e quindi è uscito fuori che è stata fatta una catalogazione in sette tipi delle carceri italiane quella che stiamo discutendo oggi è cosiddetto appalo telegrafico notate bene no? ecco bene si è scoperto che c'erano su 219 istituti allora adesso sono 190 quelli attivi 29 sono di questo tipo come giustamente afferma la mia collega amica e amica Daniela Di Croce non si può intervenire in maniera standard su tutto questo è fondamentale quindi per ogni istituto occorre fare un'analisi precisa una valutazione distributiva degli spazi omogenei così come si è soffermata a fare la nostra amica dell'università per poi procedere e capire come quella struttura va utilizzata adeguandola l'esigenza dell'amministrazione e quindi esigenze innanzitutto dei cittadini che sono reclusi all'interno della struttura e poi del personale che deve lavorare e deve gestire queste strutture che non è di facile a questo punto concludo questa prima parte dicendo che siamo molto in avanti e il progetto rappresentato da Daniela e nel caso potremmo definire il caso utile perché diventerà un caso nazionale dimostra come è possibile intervenire su questo tipo di edifici ma cos'è la cosa più importante e qui poi ti passo la parola in considerazione del lavoro che tu hai svolto al tavolo 1 degli stati generali dell'esecuzione penale la relazione sua era il rapporto tra città e carcere e qui sta emergendo stamattina benissimo il mio invece era come intervenire per ristrutturare per adeguare per ampliare un istituto presente questa mattina si sono discusse le due cose e quello che più mi soddista è che a discutere di questi argomenti che sembrano tecnici arricchisce la discussione e la soluzione da adottare il contributo pluridisciplinare di operatori interni all'amministrazione di volontari di esperti esterni sia del mondo della giustizia o giudiziario sia del mondo tecnico e culturale politico più ampio dunque volevo un ultimo commento sul sul lavoro che ci è stato illustrato stamani quello che mi ha colpito è la ricerca della misura nell'intervento che è stato fatto il desiderio non di come si può dire di manifestare con un'invenzione architettonica un monumento architettonico straordinario con cui contrassegnare l'appropriazione progettuale ma invece la ricerca dà la misura attenta quasi da sarta quasi da sarta questo spazio come si può cucire che storia c'ha ecco questo questo secondo me è un atteggiamento giusto non particolare tipicamente femminile non so se è femminile però è da architetto dunque faccio velocemente tre esempi allora questo è il carcere della Sant'E a Parigi era un carcere di cui da tanto tempo si chiedeva fosse trasferito perché è inadeguato perché è vecchio perché eccetera eccetera il quartiere a maggioranza si è espresso per mantenere il carcere la direttrice del carcere ha detto non si può privare una città non tanto del carcere inteso come punizione quanto della consapevolezza che i cittadini devono avere del carcere e quindi passeggiarci vicino e quindi avere relazioni e quindi è fondamentale non solo per i detenuti è fondamentale per i cittadini è fondamentale per i cittadini alla fine è stata fatta la scelta di mantenere è stato mantenuto la parte più vecchia la parte meno importante è stata ristrutturata e poi vediamo che la scelta della semilibertà che è stata fatta qua a Udine naturalmente sono scale differenti qui siamo nel quattordicesimo di Parigi questo è il carcere dove c'è passata la migliore intelligenza parigina per dirvi Guillaume Apolinere Paul Verlaine Jean Genet sono stati prigionieri insieme a tantissimi altri insieme all'esercito liberazionale lì non so è una storia enorme perché ogni carcere è una storia della città in cui il carcere è e vabbè quindi andiamo avanti veloce ecco questa è la ristrutturazione della Sant'E è stata fatta da un gruppo di architetti Pier Vurpas agli architetti ecco la struttura della semilibertà che è stata portata un po' come è stato fatto qui a ridosso della città a ridosso della città nella freccia nella direzione del rapporto con la città ecco perché ecco andiamo avanti questo è il carcere di Solliciano questo è il giardino degli incontri lo potete vedere qui è vicino alla cinta come vedete quando con Giovanni Michelucci si scelse quest'aria insieme ai detenuti che l'avevano proposta perché questo è un progetto partecipato il primo progetto gli schizzi primi sono stati fatti dai detenuti che erano prigionieri fu fatta una lettera a Michelucci perché Michelucci era un architetto che interveniva sui temi della città e non soltanto a parlare delle sue opere Michelucci accettò l'invito si recone il carcere progettò con i detenuti e alla fine dopo 16 anni non so come non so dove Franco Corleone non so ha tirato fuori dal cassetto questo progetto che era stato donato al ministero di grazia e giustizia donato e come donato era stato sepolto in un cassetto andiamo avanti questa è l'immagine della planimetria generale del progetto di Massima come vedete c'è un teatro all'aperto c'è un ruscello d'acqua c'è un padiglione nuovo interamente destinato alle visite e colloqui questa è la vista dell'opera realizzata perché è bello vedere i progetti quando poi c'è la realizzazione perché altrimenti è come un lutto per noi uno di noi che fa un progetto non viene realizzato poi se lo porta come lutto come sconfitta è anche la città dove doveva sorgere e non sorge e questo è il teatro all'aperto e questo è l'area ora voglio dire velocissimamente alcune cose sapete qui i detenuti con le loro famiglie entrano e escono cioè aprono la porta perché fuori c'è il sole oppure piove e stanno dentro ma non sono i detenuti dentro le carceri che aprono le porte è un gesto importantissimo a livello umano e allo stesso tempo la polizia penitenziaria ha dovuto abituarsi a un rapporto con i detenuti che non è quello del tavolino dove come si può dire i pensieri dell'una o i pensieri dell'uno scivolano sul tavolo e non vanno verso il partner no perché vanno vanno a passeggio magari sotto questo pergolato e quindi hanno dovuto abituarsi a vedere le persone in movimento e nell'intervista e se poi chi ha tempo di voi mi ha detto con leone lasciamo il filmato dopo nell'intervallo che lo vuole vedere un breve filmato senti i detenuti vi diranno che in quel momento non si sentono detenuti in quel momento ritornano ad essere babbi genitori sposi e questo all'interno sono le radici sono le sedute con gli alberi pilastro che reggono e i percorsi sono naturalmente percorribili che ti puoi muovere anche in quattro velocissimamente questo è il carcere di Marassi a Genova un cortile dismesso mi sembra come quello che è stato individuato qui dopo la rivoluzione degli ingombri fatto con i detenuti utilizzato per la realizzazione di un teatro in autocostruzione assistita da parte dei detenuti questa è la fase di realizzazione naturalmente sono state anche competenze specifiche ma tutte volontarie e tutte e tutte con questa passione che c'è anche a Udine nel intervenire e fare delle cose belle anche in un carcere e questo è il teatro dell'Arca inaugurato nel 2016 promosso dall'associazione teatro necessario sede della compagnia teatrale scatenati e ospita rappresentazione laboratori conveni rapporto con la città mi sembra di sentire parole che ho già sentito stamani la sala è da 200 posti questo è il carcere di Volterra ne ha parlato Franco Corleone velocissimo uno direbbe la peggiore delle carceri italiane no ma dipende da che spirito da che spiritello ci abita capite è vero brutta storia pesantissima qui siccome non c'era il teatro hanno teatralizzato i cortili gli spazi che c'erano finché come si può dire anche qui c'è un po' di Zampino di Corleone sono in corso è in corso la gara per l'analizzazione del progetto del teatro all'interno delle carceri ecco queste sono tre modalità di intervento un po' sul tema in armonia con quello che è stato fatto vedere stamani io intanto vi saluto e passo la parola a scacere si andiamo verso la conclusione perché Franco Corleone si è messo qua per dirci brigatevi allora il problema allora che poniamo è questo mi rivolgo innanzitutto ai nostri futuri geometri potrebbero essere anche architetti ingegneri o avvocati l'interrogativo è se sia possibile anche attraverso la natura architettonica di un luogo influire sull'animo e i sentimenti che di chi lo abita e vive e quindi influire sulla coscienza nello specifico di un carcerato e la domanda che mi sono posto nel 1993 a Venezia quando ho preso servizio nell'amministrazione penitenziaria da allora ad oggi questa domanda me la porto appresso e devo dire la verità che da calabrese e da meridionale ho fatto un'analisi profonda prima da architetto e urbanista sullo stato delle nostre città e sullo stato diciamo fisico delle nostre città e l'influenza che lo stato materiale della città ha sull'uomo o sulla donna il carcere non è diverso quindi una qualità diciamo architettonica spaziale non cerchiamo l'opera d'aste ma purita trasparente che possa far stare sereno chi ci sta dentro e sperare veramente che l'articolo 27 si possa realizzare ma lui da solo il carcerato non può fare dobbiamo aiutarlo noi e qui le istituzioni sono importanti e incontri come quelli di oggi sono sostanziari ma voglio ricordarvi una cosa ho fatto un'esperienza forse pubblicamente è la prima volta che lo dico dal 97 al 2019 ho gestito l'edilizia giudiziaria di questo paese al ministero a via regola unico e solo tecnico nel 2016 decisi di far venire otto detenuti da Re Bibbia con l'articolo 21 a lavorare al ministero fabbri elettricisti pulizie muratori bene ho scoperto una cosa semplicissima quando sono andato in pensione nel 2019 quattro di questi mi hanno chiesto fortemente se era possibile insistere per la loro presenza all'interno delle società con cui lavoravano perché li ho fatti venire con l'articolo 21 e poi li ho fatti assumere nelle imprese Giovanni un caro amico napoletano mi ha detto architetto le chiedo una cortesia non mi faccia ritornare a Napoli se ritorno a Napoli ho paura di ritornare nuovamente a Re Bibbia mi ha fatto riflettere la richiesta di Giovanni perché la recidiva avviene molte volte perché l'esterno non riceve l'esterno non aiuta io penso che l'opera che Franco Corleone sta realizzando a Udine dietro la sua ormai cinquanti quanti anni oltre i quaranta impegno politico e sociale è utilissima perché apre concretamente il carcere alla città la città al carcere se c'è questo smossi tra l'uno e l'altro penso che sarà difficile cambiare il carcere e a quel punto dovremmo anche comprendere perché chi sta all'interno del carcere e lavora all'interno di quel carcere che noi conosciamo si è in difficoltà si è in difficoltà a gestirlo e a cambiarlo quindi noi dobbiamo stare di vicino per questo e questo è il motivo perché noi ancora dopo 30 anni ci interessiamo di questo argomento ma dal carcere come dice Corrado si passa alla città quindi la speranza è che coniugando queste due realtà si riesca a migliorare il carcere oddio abolire il carcere lo vedo un po' difficile ma liberarci da un certo tipo di carcere lo vedo possibile grazie 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 avete sentito due architetti che si occupano con passione delle questioni della civiltà non si occupano di appalti e affari e questa è la ragione per cui sono qui oggi a Udine in questa occasione mentre invito il presidente del consiglio regionale Zanin a intervenire e chiedo a Corrado se può far scorrere le immagini del giardino degli incontri quelle che hai fatto vedere non il filmato lo vediamo nella pausa pranzo le immagini grazie grazie Franco buongiorno si sono anche architetto infatti prendo anche i crediti spero perché sempre con l'impegno istituzionale faccio una fatica a star dietro ai crediti che non avete ogni tanto l'ordine mi richiama all'ordine allora faccio un'infornata di crediti no buongiorno a tutti ai ragazzi ai colleghi agli avvocati un saluto particolare al professor Pittaro garante dei diritti presso il consiglio regionale a Franco agli architetti che ho avuto modo di conoscere ecco no ma io vorrei fare con voi due due semplici riflessioni insomma la prima cosa possiamo fare c'è molte volte anche chi ha responsabilità rispetto a problemi così storici così grandi si sente un po' inerme rispetto a le difficoltà che ci sono di fronte la burocrazia la complessità tutte le cose che conosciamo allora su cosa possiamo fare un insegnamento me l'ha dato Franco Corleone più di vent'anni fa quando ci siamo conosciuti in un'altra istituzione la loro provincia anche su questo insomma si apriva una parentesi questa è l'unica regione che non c'è più le province caro Franco ma noi in quella in quella cioè in quel consiglio provinciale pur da schieramenti opposti nel senso che non eravamo della stessa parte politica io ero in maggioranza lui era in in opposizione e abbiamo trovato una situazione in quel consiglio provinciale nel quale tutta l'azione politica era spostata sulla giunta cioè le attività che si potevano fare le iniziative le strutture erano tutte diciamo così indirizzate verso l'amministrazione verso il governo di quella provincia mentre la parte rappresentativa il consiglio poi insomma dentro del merito di quello che è stato la democrazia rappresentativa rispetto alla democrazia governativa c'è tutta la questione che c'è sulla limitazione degli organi di rappresentanza il fatto che si è trasformata la nostra società da un qualcuno dice da una democrazia che è progressiva cioè una democrazia emancipativa come era quella degli anni 60-70 in quale la democrazia aiutava l'ascensore sociale a una democrazia oggi recitativa di fatto per cui la democrazia è solo nel momento in cui si va a votare poi dopo si delega tutto ma già in quei 20 anni fa questa cosa cominciava a vedersi proprio dove c'era lo spostamento diciamo così dell'attenzione sul governo rispetto a coloro che rappresentavano i cittadini e tutti i cittadini perché in consiglio rappresentano di tutti beh in quella fase lì con Franco pur da opposti schieramenti ci imponemmo e restituimmo spazi strutture a questa rappresentativa per dire che insomma se c'è un interesse generale se c'è una ricerca di un bene comune che va al di là dello schieramento secondo me si possono fare le cose se c'è questa convergenza e quindi credo che insomma gli sforzi che fa il garante regionale quello comunale per rendere insomma l'applicazione del rispetto della Costituzione anche per ciò che riguarda diciamo così le carceri di questo Paese credo che vada fatto e credo che questo sia ecco mi ha fatto ricordare un po' le iniziative che 20 anni fa facevamo per dare più voce ai rappresentanti del popolo la seconda cosa brevemente è una riflessione che ho fatto che è un fil rouge insomma forse Franco è una cosa un po' ardita però la dico noi istituzioni gente che ha responsabilità cioè abbiamo una responsabilità sociale che va al di là di quello che siamo o di quello o del gruppo che noi rappresentiamo cioè c'è una responsabilità nei confronti degli ultimi cioè se gli intellettuali le istituzioni cioè chi ha il governo non si pone una riflessione sulle persone che stanno indietro io credo che noi tutti quanti non assolveremmo uno dei compiti che è quello proprio di favorire la convivenza civile il progresso umano i valori e lo dico perché con Franco noi su queste cose dell'attenzione sugli ultimi stiamo lavorando da un po' di tempo e mi spiego chi moriva nella prima guerra mondiale chi moriva erano i soldati che venivano magari dal Catanzaro dalla Sicilia dalla Sardegna messi sul fronte i generali stavano a Udine decidevano sbagliavano li mandavano a morire poi se non obbedivano li fucilavano anche ed erano persone umili erano la parte finale della nostra società che obbedivano perché erano stati educati ad obbedire rispetto all'autorità che davano e l'autorità si disinteressava e addirittura li usava per salvare la propria coscienza mezz'ora fa un'ora fa vengo da Peteano dove c'è stata quella strage tre carabineri uccisi cinquant'anni fa due carabineri semplici non ha puntato Pasolini diceva quando ci fu il problema del brigatismo lui si schierò con i carabinieri e con i poliziotti perché dice quelli sono i figli del proletariato non voi brigatisti che siete figli della borghesia della classe dirigente giusto la fioravanti se non faccio dei nomi ma tutti intellettuali negri e Pasolini disse non siete voi che rappresentate la rivoluzione sono loro il proletariato io difendo i figli il proletariato i carabinieri uccisi volte e volte per dovere per riscattarsi lasciavano la campagna dei paesi della Puglia si arruolavano giovanissimi e poi facevano i carabinieri l'avano la divisa e poi venivano appunto colpiti perché rappresentavano diceva io non colpisco l'uomo colpisco la divisa ma purtroppo dietro a quella divisa c'erano i proletari e c'erano gente umile chi riempie le carceri oggi in Italia chi riempie le carceri in Italia il sovraffollamento dice Franco è fatto da chi da chi è fatto da povera gente da gente che viene condannata per reati minori ma che dopo siccome non ha la formazione non la struttura non le risorse poter difendersi perché noi siamo una democrazia nella quale chi sa usare bene la giustizia voglio dire è più avvantaggiato di chi non la sa usare no? ma legittimamente no? nel processo gli avvocati mi insegnano le prescrizioni rinvisi se uno è un bravo avvocato ma quella gente che è nei carceri gli avvocati ha quello d'ufficio e vengono dimenticati lì anche lì è parte del proletariato allora e chiudo forse è stato ardito questo però mi sembra che insomma c'è una responsabilità da parte diciamo così delle istituzioni tutte in qualche modo a rendere più egualitario questo nostro paese perché questo avvenga non possiamo immaginare che ci sia da parte di quella parte di popolazione un'autodeterminazione in sé se non viene aiutata dalle istituzioni che hanno la responsabilità di tirare su tutti perché il bene comune non è il benessere personale non è la carriera non è cioè il bene comune è trovare una società nel quale il senso di giustizia sia un senso realmente democratico allora credo che intervenire in queste cose vuol dire sviluppare questo senso democratico grazie grazie come sempre come sempre noi dialoghiamo e quando io sento parlare di peteano mi bruciano le cose perché fu una strage fascista come coperta con un ruolo di copertura di non i carabinieri umili ma i carabinieri traditori della Repubblica e quindi è una vicenda che nella storia d'Italia è particolarmente delicata e ha ricordato insomma si è riusciti a fare in Friuli Venezia Giulia una legge per la restituzione dell'onore ai fucilati della giustizia militare è una cosa che dobbiamo ricordare e vantare venendo stiamo facendo scorrere le immagini del giardino degli incontri del carcere di Firenze perché è l'opera cui ha lavorato Marcetti con Michelucci ma perché io credo nella bellezza e che la bellezza aiuti il cambiamento e quindi un'opera del genere in un carcere deve farci dire che è possibile che ci sia il teatro di Punzo a Volterra che è rivoluzionario e che ci sia una cosa del genere in un carcere che è forse la cosa più bella in Italia e in Europa eccetera quindi lavoriamo per la bellezza e per questo il rifacimento delle mura deve essere arricchito dall'opera delle associazioni che oggi sono qui presenti sono 15 credo adesso Massimo Brianese deve venire a gestire questa fase fino alle 13.30 o qualche minuto in più perché avremo poi un buffet quindi potremo mangiare qui e non muoverci e poi ritrovarci questa fase è stata molto piena e credo che proseguiamo con impegno grazie a tutti buongiorno a tutti anch'io come Franco penso da molto tempo che in un'epoca in cui la bontà per molti è diventata addirittura un disvalore la bellezza possa essere l'ancora di salvezza proverò in un minuto davvero cercando quindi di favorire tempi solleciti a dare il senso della parte diciamo la missione della parte che arriva adesso parlo dopo quattro cinque architetti e io architetto non sono non sono nemmeno geometra come i ragazzi che per fine orario ci hanno salutato però ho capito una cosa molto bene che anche oggi noi non abbiamo parlato di edilizia noi peraltro noi della società della ragione da molto tempo ripudiamo la via edilizia come soluzione dei problemi della condizione carceraria si è parlato di architettura e io che architetto non sono capisco alcune cose semplici per l'edilizia parliamo di un muro di una cosa morta fredda lì da sola e in architettura parliamo delle relazioni fra quel muro fra i muri la società il mondo circostante la comunità la città lo diceva anche prima l'architetto Scarcella certo c'è un tema che è quello del rinnovamento architettonico quello trattato stamattina va di pari passo con quello del rinnovamento del quadro normativo sarà quello che viene affrontato questo pomeriggio l'obiettivo quindi non è quello di avere nuove carceri ma carceri nuove sotto questo profilo qualcuno diceva che Udine sta diventando un laboratorio d'avanguardia ecco e noi vogliamo davvero che questo diventi un caso scuola e perché quest'operazione riesca hanno detto coloro che mi hanno preceduto il carcere dovrà diventare aperto perché quello che conterà sarà la relazione fra carcere e città fra dentro e fuori a favore di coloro che stanno dentro ma anche a favore di coloro che stanno fuori io penso ormai forse sempre di più a favore di coloro che stanno fuori tutto ciò non è possibile non lo è stato non lo è non lo sarà senza la mediazione l'impegno incredibile di un mondo che è quello del volontariato e del terzo settore e da questo punto di vista Udine è un terreno fertilissimo dove questa rete è consistente importante con grandi competenze quella rete non può essere un elemento decorativo non può essere il tappabuchi dei difetti delle carenze delle falle del sistema giudiziario in Italia deve essere protagonista ecco io credo che il momento che apriamo adesso debba in qualche modo sancire l'upgrade solo mediatori o meglio gestori solo gestione o addirittura se possibile autogestione dei nuovi spazi che si vanno ad aprire perché questo è il momento in cui si comincia interloquendo lo diceva l'architetto Daniela Di Croce per tempo in tempo utile con chi progetta per decidere quali spazi per fare cosa mettendoci cosa il progetto partecipato c'è una quindicina circa di associazioni di enti della formazione del volontariato che interverranno in sequenza io li chiamerò qui nell'ordine dell'invito e così non facciamo difficoltà diranno chi sono cosa fanno cosa non va in questo momento ma soprattutto che cosa vogliono e che cosa si aspettano comincio se è presente da Massimo Marino del CEFOP che è un ente di formazione molto impegnato soprattutto in attività di tipo pratico operativo all'interno del carcere grazie sì me lo stavo ricordando mentre Franco mi sollecitava io prego di tenervi intorno ai 5 minuti riuscire a parlare tutti grazie mi blocchi lei quando vuole ma innanzitutto grazie per l'invito ma cercherò di essere rapido perché appunto siamo andati lunghi capisco quindi che il tempo è stretto ci sono delle suggestioni insomma i lavori di stamattina sicuramente sono lavori che fanno pensare fanno fanno venire anche molte idee io riprendo alcuni dei concetti che sono stati più volte sottolineati stamattina quindi vado assolutamente abbraccio non si preoccupi se vede questi fogli sotto vado assolutamente abbraccio ma stamattina abbiamo parlato l'ha detto lei un attimo fa Udine come laboratorio progettazione partecipata progettazione partecipata assieme anche con i detenuti ha detto il dottor Corleone abbiamo visto negli esempi che sono stati fatti su alcuni carci interventi di autocostruzione assistita no fate qui i detenuti allora brevemente noi come CEFAP ente di formazione operiamo all'interno delle strutture carcerarie con interventi formativi legati in particolare ad esempio per la nostra esperienza all'ambito dell'agricoltura e l'ambito delle lavorazioni alimentari poi colleghi degli altri enti illustreranno sicuramente anche la tripologia di intervento mi piace portare degli esempi che abbiamo fatto a Tolmezzo noi abbiamo operato soprattutto nella carcere di Tolmezzo perché gli spazi verdi ci hanno consentito di operare con i nostri interventi formativi e lì siamo riusciti e qui parlo di progettazione partecipata lavorando assieme visto prima entrare Paolo Felice con il consorzio COSMA a far sì che gli interventi formativi non fossero come dire a fine a se stessi seppur importanti perché comunque l'attività formativa è sempre un percorso di educazione a una quotidianità normale che consente poi di focalizzare l'attenzione al lavoro all'autoficacia a dare dei riferimenti per quando una persona esce dal carcere però abbiamo lavorato assieme in che senso abbiamo lavorato insieme costruendo dei progetti in cui ad esempio in un ambito agricolo siamo riusciti a far sì che nel corso dell'intero anno quando c'è la presenza di corsi di formazione le attività appunto formative che consentivano di mantenere il verde del carcere diversamente tramite appunto questa progettualità costruita insieme al Cosmo attraverso poi i bolsi di lavoro i tramurari i tirocini di lavoro veniva mantenuta questa attività all'interno del carcere e chiaramente prima c'era un intervento di formazione di queste persone questo ha consentito anche di operare con un'altra esperienza a far sì che la produzione ad esempio agricola potesse essere utilizzata ed evoluta al programma di protezione alimentare attivato da delle cooperative sociali quindi diventata la formazione un momento anche non solo come un momento di riabilitazione ma di riscatto sociale allora porto questi esempi perché il progetto di Udile è un progetto appunto che viene portato e verrà portato come esempio e dico ci può essere l'occasione per costruire guardando solamente alla parte verde vediamola così delle lavorazioni alimentari ragionando in termini di piccoli spazi verdi ma si possono costruire delle cose delle cose appunto non fine se stesse solamente alla formazione ma che possono dare anche delle progettualità che abbiano ricadute all'esterno e consideriamo quanto poi la formazione è anche sull'ambito del verde la formazione ha una funzione terapeutica una funzione importante per le persone allora dico questi aspetti in un momento come questo in cui c'è una progettualità il fatto di poter lavorare assieme e qui dico appunto c'è la disponibilità nostra lavorare assieme alle cooperative sociali lavorare assieme a chi in questo momento sta progettando gli interventi di strutturazione perché si può fare questa abbiamo visto autocostruzione assistita anche delle piccole parti del verde ad esempio allora diventa fondamentale ecco quindi sicuramente c'è bisogno l'avete detto all'inizio di un tavolo di lavoro che insomma di fatto è già avviato con questi incontri e che questo tavolo di lavoro prosegua assolutamente perché possiamo appunto apportare delle idee rispetto a quanto si può fare all'interno c'è la necessità secondo me anche che però gli strumenti ad esempio che noi utilizziamo per finanziare le attività formative diventino più flessibili perché diversamente sarebbe molto complicato no Paolo l'abbiamo visto nella buona volontà che ci abbiamo messo sotto il mezzo a fare col progetto che è riuscito ma con estreme difficoltà perché appunto poi diversi anche strumenti devono interfacciarsi c'è lo strumento del finanziamento della formazione gli strumenti che ha usato la cooperativa per le borse quindi ecco è importante e dico a questo tavolo di lavoro quindi ci deve essere la presenza anche di chi poi questi strumenti li mette a disposizione in maniera tale che ci sia un'attenzione da questo punto di vista altrimenti tutta la buona volontà rischia di cadere non dico nel nulla ma comunque di far sicuramente come dire rallentare molto le possibilità invece di successo che ci possono essere rispetto a iniziative formative condivise chiudo qua coordinamento e flessibilità le parole che ci sono venute da Massimo Marino credo che da questo punto di vista le dimensioni della casa circondariale di Udine possono essere un punto di favore per sperimentare un certo percorso chiamo Raffaella Cavallo del CSG Micesio grazie buongiorno mi concentrerò ovviamente visto il tempo a disposizione su quelle che potrebbero essere le proposte che come centro di formazione professionale all'interno di un tavolo potremmo portare avanti insieme per garantire quell'apertura dentro fuori che è stata più volte richiamata come centrale nella pianificazione nella progettazione di un carcere nuovo in particolare dalle esigenze che sentiamo quando lavoriamo in carcere una che non può essere assolutamente dimenticata è quella di tenere profondamente vivo e attivo il contatto con la realtà esterna e quindi un'idea potrebbe essere in fase di progettazione quella già di prevedere la possibilità di avere un collegamento internet sicuro per garantire la possibilità di formare le persone che stanno per tempi più o meno lunghi in carcere a quelle che sono le nuove tecnologie perché non dimentichiamo che chi ha anche pene brevi in realtà non ha la possibilità di mantenere un contatto continuo con tutta quella che è l'evoluzione in termini di opportunità che sia la possibilità di saper utilizzare la carta per i servizi regionali che sia la possibilità di saper utilizzare uno speed o che sia la possibilità di usare una web app per fare una locandina per un evento allora in un'ottica di promozione della cultura un elemento come questo diventa centrale nel momento in cui vogliamo garantire che quel processo poi di reinserimento sociale della persona che è inciampato e che deve reinserirsi possa effettivamente essere efficace questo dal punto di vista di un fronte che cerca di mettere insieme quella che potrebbe essere un'offerta formativa ma anche una capacità di fornire strumenti concreti alla popolazione che in questo momento si trova ristretta allo stesso tempo però il richiamo a quell'altra fondamentale esigenza che è quella del reinserimento lavorativo e quindi il promuovere continuamente queste attività formative non solo ma anche di possibilità di inserirsi in contesti lavorativi diciamo così dedicati quindi l'aumento della possibilità di avere tirocini intra ed extra murari e sono stati richiamati prima il progetto che già prevede la partecipazione di Caritas Centro Solidarietà Giovani e Cooperativa Arte Libro ma non solo adesso presento questa piccola esperienza sul carcere di Trieste dove riusciamo a far partire un progetto con due tirocini inclusivi che coinvolgono una filiera di cooperative del territorio del medio Friuli la cooperativa DES su un progetto che forse a molti sarà già noto che è la filiera del pane e della farina e faremo una produzione interna all'interno del carcere proprio per dare un'opportunità dopo un percorso formativo di sperimentare le abilità acquisite per poi poterle spendere all'interno del mercato del lavoro allora se questo è un intento condiviso penso che tutte le realtà del terzo settore del volontariato possano effettivamente contribuire a progettare quel carcere nuovo di cui non si può più rimandare l'esigenza e la necessità mi fermo grazie 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 davvero per la capacità di sintesi voglio ricordare ce lo siamo detti anche in fase preparatoria che comunque eventuali ragionamenti più articolati e altri contenuti possono essere forniti anzi sono auspicati in forma scritta e verranno utilizzati nel proseguo del nostro percorso e comunque verranno pubblicati necessità di contatto con l'esterno diceva Raffaella Cavallo l'Enaip è un importante ponte con l'esterno chiedo di proseguire su questo ragionamento Antonella Bandeneuvel grazie grazie cercherò anche io di essere sintetica parlando un po' di formazione quindi di strumenti è stato ampiamente detto quanto importante sia che il carcere si apra all'esterno allora come fare in modo che la formazione aiuti questo processo di apertura all'esterno perché sicuramente per esperienza personale possiamo dire che la formazione all'interno del carcere serve proprio come momento per migliorare la qualità della vita per aiutare le persone a crescere ma non può fermarsi lì se per questi aspetti sono certa che tutto il sistema della formazione di questa regione che è un sistema che funziona bene che riesce a mettersi in rete che riesce a dialogare anche con le cooperative con tutti gli altri enti del terzo settore ancora manca secondo me per quanto riguarda il valore di quanto viene fatto in carcere è il dopo noi lavoriamo bene per fare acquisire competenze tecnico professionali lavorando all'interno del carcere lavorando anche non solo per imparare un mestiere ma per provare a fare un mestiere per esempio con tutta la parte di cura dei propri spazi anche interni sul carcere di Tolmezzo noi abbiamo lavorato moltissimo con i carcerati per fare dei corsi durante i quali loro hanno ristrutturato le loro docce i loro bagni hanno ridipinto e non solo hanno avuto possibilità di accedere anche al bello provandolo proprio parlando di architettura e di spazi la cosa che più mi ha colpito è questa importanza del fare partecipare al progetto architettonico di sviluppo anche i carcerati anche chi quegli spazi li deve utilizzare nel nostro piccolo con la formazione siamo riusciti a far sì che per esempio nel carcere di Tolmezzo il parlatori gli spazi di incontro fossero abbelliti dai detenuti stessi con murales che loro hanno deciso e progettato quindi questo è sicuramente ci sono molte buone prassi in questo senso ci manca un pezzetto dopo che sia un po' più coordinato perché se è vero che ci sono tirocini inclusivi la possibilità forse manca ancora il coordinamento e una possibilità più lineare di attivare i vari strumenti che ci sono all'interno quindi prima cosa che direi all'amministrazione regionale è quella di riuscire per quanto riguarda per esempio i nostri bandi ad avere a permetterci di fare una programmazione più lineare meno assalti perché questo fa sì che tutta la rete tutte le relazioni poi ogni volta debbano ripartire quindi negli avvisi nei bandi per la formazione una certa continuità ci dà la possibilità a noi e soprattutto a chi opera dentro il carcere di programmare le attività e quindi poter far crescere questi aspetti questo secondo me è importante dal punto di vista strettamente della formazione cosa si può fare beh già questa amministrazione ha pensato non solo alle competenze tecniche professionali ma anche alla formazione trasversale quindi ha la possibilità di lavorare su se stessi ad un proprio progetto di vita quando si esce dal carcere aggiungo che potremmo lavorare di più sul tema dell'autoimprenditorialità perché ci sono quindi sul proprio sul rendere il detenuto anche capace di affrontare il mondo esterno nel momento in cui si trova a doverlo affrontare e abbiamo visto che uno dei problemi è che si trova molto spesso solo e quindi dargli delle competenze anche di autoimprenditorialità c'è tutto il tema del microcredito che può portare allora questo è un aspetto e ancora un'altra cosa che secondo me potrebbe essere inserita all'interno della formazione in carcere e che in qualche modo Raffaella prima di me ha accennato è il tema dell'e-learning noi abbiamo ragionato sulla formazione a distanza o torto collo anche se Enep in particolare da molti anni che lavora su questi temi perché con il covid abbiamo dovuto o così o niente è però uno strumento che permette di far uscire che può permettere di dare opportunità a chi sta dentro in un luogo chiuso quindi può aprire per cui effettivamente prevedere degli spazi e delle modalità sicure per poter accedere alla rete per poter accedere all'esterno con la tecnologia può essere forse una soluzione grazie grazie ad Antonella Vandenewel che nel tempo d'Atole ha portato un mucchio di spunti io me li sono annotati e cito fra essi anche i detenuti partecipino alla costruzione della bellezza insieme a Raffaella la sottolineatura sulle opportunità date dalle nuove tecnologie chiedo a Guido Fradeloni eccolo per lo IAL del Friuli Venezia Giulia di portare il suo intervento buongiorno a tutti come IAL Friuli Venezia Giulia siamo perfettamente in linea con gli interventi anche precedenti gli strumenti ne abbiamo ce ne sono tanti li abbiamo sperimentati siamo ben coscienti di quello che possiamo fare e di quello che è l'esito dei nostri interventi formativi abbiamo visto come non ci sono solo i corsi di formazione professionalizzanti ma anche la presa di consapevolezza del proprio percorso di vita rispetto a questo volevo raccontarvi semplicemente quello che mi è successo stamattina perché ieri sera io sto seguendo un corso in carcere a Pordenone di tinteggiatura mi chiama il docente manca la vernice stamattina prima di venire qui corro a prenderla arrivo lì con le quattro frecce corro dentro in carcere guardo l'assistente e dico sono qui con la carta in identità le chiavi della macchina ho lasciato tutto in macchina entro un attimo ed esco subito lui con la calma Serafica mi dice dicono tutti così esco subito questo mi ha fatto pensare e rispetto a questa cosa perché ogni volta che io entro in qualunque casa circondariale il tempo si ferma il tempo che io vivo lì dentro è una cosa molto diversa dall'esterno preparare con corsi di formazione professionalizzante le persone lì dentro non è la stessa cosa che prepararli fuori quando incontriamo i detenuti per fare le selezioni dei corsi va bene qualunque corso li presentiamo basta che il loro tempo sia impegnato poi quando la leva del corso è avviata diventa difficile magari tenerli perché parte un corso che gli interessava di più quello che gli proponiamo di fare non gli piace più per quanto sia bello la comandante nello scorso convegno ricordava anche il il mosaico che è appeso fuori sulla cinta miraria no? allora io non mi ricordo bene che anno fosse però vi assicuro che degli otto detenuti che c'erano e si impegnavano un sacco nel corso del mosaico non ce n'era uno che volesse fare quello stemma perché devo fare qualcosa per il carcere? ci è voluto del tempo capire che il valore del tempo è diverso da fuori a dentro e il tempo ci è voluto perché prendesse qualità per capire che quella tessera che mettevano era una tessera di riscatto una tessera che dicesse anch'io che sono un delinquente sono capace di fare qualcosa di bello anch'io che sono passato di qua lascio il mio segno positivo anch'io ho la possibilità di fare un qualcosa che resta ed è positivo allora prima ancora della professione del trovare lavoro molto spesso ci troviamo a lavorare con queste persone e non possiamo avviare un corso e poi terminarlo senza dare un proseguo abbiamo come diceva prima l'Eneip bisogno di una linearità nei processi che noi svolgiamo dare una continuità in quello che noi facciamo e forse il tempo è anche maturo adesso per unirci come ente di formazione e come unità cartacellarie per andare dalla regione e dire abbiamo bisogno di questi strumenti e di questa continuità spero che di uscire da questo convegno da questi tavoli con un progetto davvero compartecipato di un accordo anche partecipato di tutto questo vi ringrazio grazie a Guido Fradeloni che ci ha parlato del tempo durante l'espiazione della pena io poi invito coloro che vorranno a parlare anche dello spazio che è parte ovviamente di questo progetto partecipativo perché forse anche lo spazio condiziona determina poi la gestione e il senso del tempo per l'IRES Friuli Venezia Giulia chiedo a Tania Agnola di venire al banco grazie buongiorno a tutti io condivido le posizioni di tutti gli enti che mi hanno preceduta gli enti di formazione sicuramente la ristrutturazione della casa circondariale di Udine con degli spazi dedicati all'istruzione e alla formazione un primo passo verso un miglioramento della vita dei detenuti proprio attraverso la possibilità di non ci sarà più la scusa dello spazio potremo realizzare le progettazioni che magari fino ad oggi non abbiamo potuto realizzare perché mancava sempre lo spazio questi spazi ci offriranno sicuramente l'opportunità di migliorare i percorsi formativi consolidati negli anni e di attivare nuovi percorsi che ci permettono di realizzare interventi di educazione anche al lavoro noi adesso stiamo svolgendo un corso presso la casa circondariale di Udine alcuni detenuti non hanno mai avuto l'esperienza del lavoro iniziare con dei percorsi formativi in cui si prevede un'attività pratica è un modo anche per avvicinarli a quella che è un'attività lavorativa vi faccio un piccolo esempio il detenuto più giovane che abbiamo in classe non ha mai lavorato ha tentato di lavorare per una settimana poi si è scocciato perché per 1800 euro non era disposto a fare quella fatica dopo un mese e mezzo di corso mentre ero in aula mi ha fatto questa osservazione ma perché in carcere non ci creano delle opportunità lavorative anche per uscire anziché stare sempre qui dentro forse era solo la riflessione di quel giorno però c'è stata e questo ci dimostra come è importante impegnarli far provare esperienze nuove anche all'interno del carcere l'inserimento lavorativa della persona detenuta è infatti un forte deterrente a ritorno alla criminalità come lo dimostrano le statistiche stesse in quest'ottica la formazione professionale diventa un percorso fondamentale che va affiancato ai percorsi di istruzione i percorsi di formazione hanno l'obiettivo di fare acquisire competenze tecniche spendibili nel mercato del lavoro e quindi favorire la possibilità di un inserimento lavorativo futuro ma anche di attivare delle attività lavorative all'interno del carcere stesso nel momento in cui ci saranno degli spazi l'ampliamento degli spazi dedicati alla formazione deve garantire la realizzazione di laboratori che abbiano determinate caratteristiche che li rendano permanenti favorendo così l'eventuale avvio di attività lavorative all'interno del carcere stesso ci era stato chiesto di presentare quali erano le caratteristiche delle aule e dei laboratori di cui potevamo aver bisogno allora il nostro istituto al momento svolge corsi che richiedono non tanto un'aula in senso stretto ma proprio dei laboratori che siano anche attrezzati laboratori che dovrebbero io mi sono attenuta un po' a quelli che sono i criteri richiesti anche dall'accreditamento regionale un laboratorio di tappezzeria sartoria o legatoria che sono i corsi che gestiamo hanno dovrebbero avere una metratura di circa 55-60 metri quadrati collocati al piano terra al fine di favorire l'allestimento dei diversi laboratori che ritiedono l'utilizzo di macchinari pesanti noi questi macchinari spesso li noleggiamo quindi dobbiamo portarli dentro e poi farli uscire quindi anche per rispettare tutta la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro sarebbe bene che fossero accessibili questi spazi o comunque al piano terra in modo da non doverli portarli di peso al primo piano il laboratorio inoltre dovrebbe essere dotato da 10-12 banchi da lavoro sedie dei tavoli centrali per la realizzazione del taglio dei tessuti o del cartone e dovrà essere dotato di più prese elettriche per l'attacco delle macchine se attiviamo un corso di sartoria dobbiamo avere una macchina da cucire elettrica per ogni allievo più altri macchinari che si aggiungono la ristrutturazione degli spazi rappresenta secondo me il primo passo per un miglioramento della vita carceraria per realizzare dei percorsi di rieducazione così come pensati dalla nostra Costituzione che favoriscono il riserimento nella società accanto alla ristrutturazione degli spazi dovrà seguire però una riorganizzazione anche della gestione delle attività proposte e una gestione dei tempi dei tempi e degli orari di accesso in modo da poter sfruttare al massimo gli spazi che ci verranno dati sia per la formazione ma anche per le attività culturali ringrazio per l'opportunità che ci è stata data da questi seminari di confrontarci e di condividere le esperienze vissute mi auguro che questo tavolo come è stato proposto possa diventare un tavolo permanente che veda coinvolto non solo i soggetti del terzo settore della formazione professionale ma anche con un coinvolgimento della casa circondariale di Udine con incontri periodici di progettazione e di programmazione degli interventi che devono essere necessariamente preceduti da un'analisi anche dei fabbisogni interni al carcere ma secondo me anche dei fabbisogni del mercato del lavoro un tavolo finalizzato a costruire progettazioni più ampie che abbiano una continuità rispetto ai singoli interventi quindi che vadano oltre al singolo corso che noi presentiamo con i bandi regionali solo attraverso un importante lavoro di rete sarà possibile una presa in carico della persona detenuta in tutti i suoi bisogni e in tutte le sue dimensioni a mio avviso ogni persona detenuta dovrebbe avere la possibilità di costruire un proprio progetto aiutato dagli operatori proprio cucito sulla persona un progetto individualizzato in cui si prevedano interventi relativi alla salute per chi ne ha bisogno percorsi di istruzione e di formazione e quindi poi anche di inserimento lavorativo all'interno del carcere oppure all'esterno del carcere grazie grazie a Tania Agnola credo che l'architetto di Croce abbia preso accurati appunti perché il suo intervento poi è anche sceso nel concreto delle cose oltre a ricordare anche altri aspetti necessari per la riuscita del tavolo che stiamo costruendo chi amo Fabio Dubolino del Soformo Buongiorno a tutti io sono Fabio Dubolino di Soformo è un ente che in realtà in area carceri lavora da poco e ha effettivamente rispetto al parterre degli altri riti formativi poche attività però mi rifaccio a un collegamento riguardo agli spazi e riguardo a spazi intesi non soltanto come ambiente fisico ma anche come ambiente mentale e quindi quell'arricchimento culturale che è necessario a queste persone che come si diceva prima perdono la concezione del tempo perdere la concezione del tempo come diceva giustamente prima Guido Fratelloni è un qualcosa a cui non siamo minimamente abituati noi è un altro mondo non ci siamo più abituati nella nostra vita ha dei tempi completamente diversi e molto più serrati da loro questo non esiste quindi l'arricchimento culturale la capacità di portarli a costruire quindi non soltanto subire passivamente nello specifico penso a un corso che abbiamo fatto a Tolmezzo in pandemia di tecniche di allestimento dello spettacolo che effettivamente come ente formativo di espressione di categoria di impresa non ha una finalità di reinserimento lavorativo perché non è questo questo è un altro tema è un tema legato al ridare fiducia e cultura a delle persone che ne sono svuotate quando entrano lì dentro e mi collego agli spazi a Tolmezzo c'è un teatro all'interno un teatro che però è mezzo abbandonato perché negli anni non si è riusciti a integrare banalmente le pelli della batteria le luci quando uno spazio non è vissuto e penso che gli architetti lo insegnino meglio di me io non sono architetto entra in gioco al degrado quindi quello che penso è noi abbiamo la capacità e la forza non soltanto come tavolo degli enti di portare quella che è tutta una linea come diceva la van dera e il diena o tutti i colleghi precedenti un'attività che non sia soltanto sul presente ma che ragioni anche dopo ecco dobbiamo farlo anche sull'ambito culturale sull'arricchimento culturale nei confronti di queste persone perché che si svuotano di questo potremmo dargli 1800 euro al mese come citava la collega prima ma probabilmente non avrà la spinta e quindi la capacità di affrontare la fatica la voglia di affrontare la fatica credo che riuscire ad arricchire quegli spazi a tenerli vivi garantire risorse garantire progettualità in un'azione condivisa sia l'obiettivo che dobbiamo darci almeno sotto questo frangente perché quello che ho imparato nella mia seppur breve esperienza nell'ambito carceri è che è veramente una situazione iper sfaccettata penso al numero di carcerati a Udine che mi pare se ricordo male siamo sui 130 qualcuno oltre in sovraffollamento possono sembrare pochi sarebbe da definire quanti effettivamente all'interno hanno interesse in una singola attività o no quali sono le potenzialità dirette o trasversali che possono acquisire quindi il nostro intervento rischia di essere veramente molto capillare e non dobbiamo dimenticarci che la loro ricchezza la loro capacità di rinserimento è il nostro vero obiettivo rinserimento sociale non solo lavorativo detto questo io mi ricordo un esempio di quando ci siamo lasciati a Tolmezzo con massima sicurezza con questi ragazzi che ci hanno seguito nel percorso il nostro obiettivo era riuscire ad aprire il carcere cioè riuscire a fare un evento all'interno cosa che purtroppo per mille motivi in quel momento non era possibile e probabilmente anche in altri momenti sarebbe stato molto molto complesso l'obiettivo di aprire il carcere di far uscire dal carcere e entrare in carcere persone informazioni capacità di collegamento con le tecnologie che abbiamo oggi a disposizione è alla portata e quindi è solo una questione di convinzione nostra nel stimolare le istituzioni a farlo e di supporto tecnologico vi lascio con un unico spunto un po' perché mi perviene dall'area formativa mia personale cioè la mia estrazione lavorativa in primis nel 2022 noi parliamo di metaverso il metaverso è un ambiente virtuale all'interno del quale si possono aprire infinite stanze per infiniti argomenti per infiniti lavori infiniti confronti e sono stanze di scelta scelta attiva prima che passiva sono architetture architetture virtuali noi possiamo oggi volendo con poco sforzo partendo da un CAD riprodurre un carcere far entrare le persone in carcere altrettanto possiamo far uscire le persone dal carcere quindi quello che chiedo a tutti è di non fermarsi a quella che non me ne vogliono le architetti una struttura fisica che ha un suo valore ha una necessità ha più necessità ma di andare oltre perché il mondo fuori è già oltre e se noi non riusciamo a ribaltare questo approccio in parte anche l'accenno fatto da Wandaeule sulla FAD quindi sulla capacità di interagire con l'esterno arriviamo tardi e quando queste persone si ritroveranno fuori troveranno un mondo che è già più avanti rispetto a quello a cui li abbiamo accompagnati grazie a tutti grazie credo che nelle parole di Fabio Dubolino ci siano richiami per il futuro a più componenti anche alle istituzioni allora è presente Marco Iob per il forum del terzo settore del frio di Venezia Giulia c'è anche credo non vedo bene tutti Elisabetta Burla della conferenza del volontariato chiedo però a Marco di fare un intervento un pochino di coordinamento perché intendevo dire ho concordato prima con Elisabetta di non farla intervenire per non appesantire oltre la nostra discussione prima Marco io ho usato una parola un pochino impegnativa e forse di antica memoria autogestione ho esagerato oppure pensi che ci siano le premesse insomma per un'idea del genere sì grazie dunque io parlo qui appunto come portavoce da poco tempo del forum del terzo settore del frio di Venezia Giulia e forse per chi ancora non sa che cos'è il forum del terzo settore giusto telegraficamente due parole per dire che è un'associazione naturalmente non profit che cerca di promuovere le attività del terzo settore soprattutto per ciò che attiene alle organizzazioni più rappresentative in regione e quindi alle reti alle organizzazioni che hanno insomma maggiore diffusione e presenza e quindi anche un ruolo un po' di rappresentanza e quindi benvenga anche un allargamento una nuova adesione quindi anche mi rivolgo insomma anche ai presenti detto questo l'autogestione diciamo che la parola diciamo che oggi mi sembra sia forse emersa che vorrei sottolineare è quella della coprogettazione della coprogettazione che è stata diciamo sottolineata dal punto di vista degli spazi come in un carcere insomma sappiamo l'importanza che hanno ma la coprogettazione attiene anche ai servizi quindi e volevo appunto sottolineare questo aspetto il nuovo codice del terzo settore ha introdotto con le sue luci ed ombre ha detto però in modo chiaro chi sono gli enti del terzo settore sono coloro che perseguono finalità di interesse generale al pari della pubblica amministrazione anche la pubblica amministrazione persegue finalità di interesse generale naturalmente ognuno insomma con i propri con le proprie caratteristiche con i propri e nei propri ambiti però questo significa che il rapporto tra la pubblica amministrazione e gli gli enti del terzo settore avviene proprio attraverso questo strumento della coprogettazione della coprogrammazione e oggi penso insomma ci sia emerso uno spirito molto interessante anche da questo punto di vista perché per coprogettare coprogrammare bisogna essere in più soggetti e bisogna che questi soggetti siano disponibili a farlo quindi ci vuole una pubblica amministrazione in questo caso diciamo l'amministrazione l'amministrazione penitenziaria alla casa circondariale ma anche per ciò che attiene ad altri servizi servizi sociali servizi educativi quindi nelle sue diverse sfaccettature ma anche dal punto di vista del terzo settore ci deve essere disponibilità e quindi a coordinarsi e a entrare diciamo in questo tipo di relazione con la pubblica amministrazione io penso che questo sia un aspetto fondamentale nuovo sul quale dobbiamo sperimentarci sul quale sono in atto già sul nostro territorio delle sperimentazioni e sul quale diciamo il rapporto a pari dignità tra questi due soggetti terzo settore pubblica amministrazione è un presupposto fondamentale perché perché questo perché i servizi e le attività fatte in coprogettazione coprogrammazione sono più efficaci funzionano meglio coinvolgono fin dall'inizio sono processi partecipativi ecco in questo diciamo il forum del terzo settore può dare il suo supporto grazie 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 a Marco Iob che ha direi precisato molto bene il termine provocatorio che avevo usato pari dignità fra istituzioni e operatori del terzo settore sono presenti rappresentanti sia della conf cooperativa alpeadria che di lega coop molto attive attraverso i propri associati anche nelle attività all'interno del calcere chiedo di cominciare a Paola Benini della conf cooperativa alpeadria buongiorno buongiorno e grazie grazie anche per l'attenzione che ancora avrete la pazienza di dedicare al nostro comparto allora io innanzitutto inizio con delle scuse nel senso che io sono una delle tante persone di questa città che via Spalato la conosce esclusivamente perché non capisce come è il giro che deve fare con la macchina quando arriva lì perché purtroppo si parla di un mondo che è veramente un luogo un luogo non visto non percepito che non entra nelle mappe del cuore delle persone e di questo così faccio outing e mi scuse e cerco quindi di dare un po' di senso al mio intervento dicendo allora perché invece è importante è importante che tutte le associazioni datoriali non solo le cooperative non solo il mondo delle cooperative che io ho l'onore di rappresentare insieme al collega Paolo Felice perché invece ci deve essere questa attenzione beh perché parliamo di pezzi di società comunque temporaneamente fermi immobilizzati ma che poi torneranno con noi verso i quali noi dobbiamo come associazioni datoriali come imprese avere un'attenzione un'accoglienza un'apertura perché alla fine riflettevo prima sentendo i colleghi e mi domandavo ma c'è un tema comune che è il tema dell'essere umano detto molto semplicemente i bisogni universali dell'uomo lo diceva Marsha Rosenberg di cui io sono una appassionata elettrice il fondatore della comunicazione non violenta diceva che i bisogni universali dell'uomo sono uguali per tutti e mi permettete ve ne leggo alcuno molto velocemente bisogno di festeggiare la vita bisogno di celebrare anche le perdite di autenticità di autorealizzazione di creatività di autonomia di libertà scegliere i propri sogni i propri obiettivi i propri valori bisogno di interdipendenza accettazione amore appartenenza apprezzamento bisogno di comunione spirituale bisogno di gioco divertimento ridere scherzare bisogni fisiologici aria acqua cibo contatto espressione sessuale riposo riparo a quali di questi bisogni da risposta al carcere beh direi riparo cibo aria e acqua aria anche poca non punto il dito è ovvio faccio solo delle considerazioni che mi interagono come essere umano e come essere umano e come cooperatrice penso che sia assolutamente necessario e ringrazio Roberta Casco per avermi coinvolto in questa giornata da cui esco sinceramente diversa con una percezione che il carcere sia entrato nelle mie mappe del cuore spero di non farlo uscire spero di riuscire a coinvolgere le cooperative che io rappresento nel tavolo che dovrà nascere dovrà vivere e continuare a vivere ma in generale direi che è importante che le imprese e su questo Paolo e Dio dobbiamo fare una riflessione di coinvolgere anche le altre associazioni datoriali a non chiudere gli occhi e ad essere in questi tavoli e a fare da ponte affinché con tutti i modi possibili affinché ci sia un futuro quando finalmente si apriranno le mura del carcere per le 138 persone che adesso lo stanno abitando grazie ringrazio davvero molto Paola Benini per la passione con cui ha preso degli impegni per la categoria per l'associazione di categoria a cui appartiene e chiedo di proseguire nel ragionamento a Paolo Felice di Lega Coop Friuli Venezia Giulia Buongiorno a tutti allora breve intervento che cerca di portare però anche quelle che sono le criticità perché se facciamo dei seminari a distanza dell'ultimo seminario e grazie a Roberta e a Franco per questa organizzazione io penso che bisogna avere anche così l'autorevolezza e il coraggio di dire le cose e sono tante che non vanno sicuramente dal punto di vista nostro come cooperazione sociale come Lega Coop Sociali che rappresento parto dall'esempio che faceva prima Massimo Marino del CEFAP che parlava di questo interessantissimo progetto che c'era anni fa sottolino anni fa in carcere dove l'azione formativa del CEFAP era assolutamente in sintonia con l'azione imprenditoriale di questo consorzio di cooperative sociali c'era la parte formativa e a seguito dalla parte formativa dalle persone venivano assunte assunte cioè la cooperativa XY assumeva quella mitica legge smuraglia questa sconosciuta in Friuli Venezia Giulia purtroppo assumeva dalle tre alle quattro persone all'anno ok quest'anno cosa succede lo dico volentieri anche al presidente del consiglio regionale succede che i fondi all'interno della convenzione ministero della giustizia regione i fondi che arrivano su questo progetto sono pari a 20.000 euro ora di cosa stiamo parlando di niente ma tant'è che lo dicevo ieri in una pre riunione proprio a Franco che posso anche dire che l'approccio che ha al mondo dell'imprenditoria sociale al carcere è un approccio che gradualmente è di demotivazione anche perché un discorso è fare volontariato e non voglio sminuire assolutamente il volontariato un altro discorso è fare imprenditoria ok sono due cose completamente diverse questo ragionamento qua lo collego al documento che è un documento interessantissimo scritto dal presidente Marco Ruotolo ed è il documento che la commissione per l'innovazione del sistema penitenziario ha inviato al ministro Cartabia per la riforma all'interno di questo documento leggo due righe veloci c'è la volontà anzi la proposta di istituire una struttura regionale per realizzare la programmazione integrata per l'inclusione sociale il lavoro e la formazione professionale delle persone carcerate equiparando il lavoro dei tenuti al lavoro a quello delle persone libere allora io non so come accade spesso se questo splendido documento andrà avanti o meno però penso che qua mi rivolgo a Franco soprattutto che ci sia la possibilità di fare un passo avanti rispetto all'ultimo seminario perché va bene che come terzo settore enti della formazione professionale noi ci presentiamo e diciamo quello che facciamo ed è tanto ed è veramente tanto forse un salto di qualità lo possiamo avere se può essere istituito una proposta un tavolo permanente sulla tematica nell'ambito di Udine nell'ambito territoriale di Udine sulla tematica del carcere perché altrimenti si corre spesso e io pratico il carcere da molti anni di rivederci fra sei mesi il progetto all'interno del carcere va avanti ma le tematiche che io vi porto sono sempre le medesime ok e questo è un grande problema perché il carcere è anche un tema culturale finché ce lo diciamo tra noi addetti al lavoro questo è un problema come ci insegnavano prima gli architetti il carcere deve respirare deve respirare mi ha colpito molto la frase spirale claustrofobica del recinto carcerario e cavolo parliamo di questo e ce lo diciamo da troppo tempo quindi l'auspicio che la forza l'energia di Franco e Roberta e anche del presidente del consiglio regionale portino alla creazione a una sperimentazione di un tavolo sperimentale qui sul territorio regionale dove terzo settore formazione professionale assieme ovviamente con la governance del sistema pubblico possono dialogare possono dialogare portando le proprie riflessioni i propri anche interessi in maniera unitaria e non separata a Silos in maniera unitaria al PRAP e anche alla regione un'ultima un'ultima cosa legge smuraglia quindi la legge che permette ai datori di lavoro cooperative sociali e non di assumere le persone detenute su questo anche su questo c'è un grande lavoro culturale da fare è vero che a Udine e nelle altre case circondariali eccetto Trieste come diceva Raffaella ed eccetto Tolmezzo non ci sono gli spazi ma su questo c'è da fare un grande lavoro culturale evitando di correre il rischio come è accaduto in altre situazioni che poi le imprese profit magari delocalizzano in carcere invece che delocalizzare in Romania quindi è un tema culturale però siamo fermi al palo qua in Friuli Venezia Giulia non ne parliamo purtroppo un'ultima nota legata a quello che diceva Marco Iob prima Marco Iob ha parlato dell'articolo 55 del codice del terzo settore quindi quell'articolo illuminato che parla di coprogrammazione e di coprogettazione tra la pubblica amministrazione ministero della giustizia ovviamente compreso e gli enti del terzo settore allora io auspico lo dico in maniera provocatoria che questo seminario possa avere una continuazione anche molto pragmatica molto pratica individuando però sia nella formazione professionale ma soprattutto nel terzo settore dei soggetti ai quali non delegare ai quali coi quali coprogettare in un'ottica di valorizzazione del terzo settore come protagonisti come protagonisti di questi processi e non semplicemente come attori che talvolta magari costano anche poco grazie grazie mi pare che questo intervento stia cominciando anche un pochino a chiudere tanti pezzi a mettere insieme tanti pezzi di quello che sta venendo fuori posso solo dire che conoscendo Franco Corleone e il suo modo di mordere i polpacci finché c'è lui il tavolo permanente ci sarà per forza mi prendo un impegno per lui allora Virginia di Lazaro che è già qui la ringrazio arte e libro società cooperativa eccomi io tenterò di essere molto concreta e molto veloce perché so che i tempi stringono siamo qui nuovamente a distanza di alcuni mesi a rivedere la nostra disponibilità a istituire un tavolo di lavoro ancora più felice di essere qui insieme nuovamente a tutte le varie cooperative i centri di formazione e alle associazioni questo non è una cosa gratuita è un grande risultato secondo me la presenza il continuo interesse per questa volontà di fare appunto un tavolo di lavoro diciamo che crediamo che l'idea di istituire un tavolo di lavoro coordinato tra i vari enti debba innanzitutto rimettere al centro la persona privata di libertà con le sue necessità e rimettere al centro la cultura la vita la qualità dell'insegnamento come strumento indispensabile per fare la differenza mi ricollego a Paola dell'intervento precedente credo che sia importantissimo ragionare sulla vita perché è la cosa più importante non si lavora per lavorare ma si lavora per vivere e quindi è fondamentale che al centro ci siano le persone come sapete la cooperativa arte libro si occupa di inserimenti lavorativi di persone con disabilità e persone con fragilità e per quanto riguarda la situazione del carcere diciamo che lo svantaggio si tenta di recuperare tanto all'interno della cooperativa con inserimenti lavorativi estremamente protetti diciamo che uno dei progetti era work in process per esempio che accoglieva le persone con estreme difficoltà di inserimento diretto nel mondo del lavoro per cui questo per dire che ogni realtà qui presente ha delle specificità estremamente diverse e quindi la volontà di istituire questo talo di lavoro non vuole accavallare le varie realtà ma vuole realmente creare una proposta secondo me interessante quindi ecco il mio intervento semplicemente si chiude qui la cooperativa arte libro ha assolutamente volontà di continuare a confrontarsi con le altre realtà dando la totale disponibilità in questo progetto grazie grazie a Virginia Di Lazzaro un vecchio amico un caro vecchio amico Alberto Bevilacqua è qui con noi per il centro servizi e spettacoli teatro stabile di innovazione di Venezia Giulia buongiorno ho detto centro servizi e spettacoli che non si dice più CSS ma perché la memoria scusami grazie grazie anche per aver ricordato quel quel nome molto brevemente anch'io telegrafico siamo allora siamo giusti ok allora io senza come dire credo peccare di troppo orgoglio mi dichiaro portatore di bellezza in quel luogo nel luogo delle case circondariali e quant'altro perché da 40 anni a questa parte come a dire abbiamo svolto questo compito volontariamente prima poi grazie anche al sostegno della regione sono anche cambiate tante cose ci sarebbero tante cose da dire al riguardo ma l'importante è che come dire abbiamo garantito la nostra presenza anche nei momenti di difficoltà nella consapevolezza che l'arte è uno appunto di quegli elementi sostanziali nel nel tentativo del cambiamento della persona ora vorrei vorrei dire che mi sento di precisare di rassicurare tutti che il teatro della casa circondariale del carcere di alta sicurezza di Tolmezzo non è abbandonato mi dispiace Fabio non è proprio per niente abbandonato perché per l'appunto noi da 40 anni lavoriamo lì e sarebbe opportuno che poi magari ci coordinassimo chi arriva per ultimo forse deve anche rendersi conto di che cosa sta succedendo prima di dire delle cose perché si sbaglia a parlare senza avere cognizione precisa di causa detto questo invece colgo sempre da Fabio uno spunto interessante dove probabilmente ci possiamo trovare insieme lo spunto interessante è proprio nelle nuove tecnologie le nuove tecnologie ci vedono ad esempio come centro di produzione teatrale essere all'avanguardia da questo punto di vista perché sono già cinque anni che stiamo sperimentando dell'uso ad esempio della VR della realtà aumentata della realtà virtuale nell'ambito dello spettacolo dal vivo sembra una contraddizione ma non lo è ma anche nell'ambito della formazione ed è di fatto uno strumento di potenza straordinaria questo e quindi è un elemento di grande riflessione perché qui spazio e tempo in qualche modo vengono messi in discussione lavoriamo tutti perché la persona che esce da un carcere sia diversa da quella che entra la domanda naturalmente è è diversa solo perché è sufficiente che abbia vissuto in un luogo bello è sufficiente che abbia imparato un mestiere è sufficiente solo questo è sufficiente che abbia scoperto dentro di sé degli aspetti attraverso l'arte è sufficiente questo è sufficiente che abbia acquisito un titolo di studio no io non credo io credo che di fatto l'impressione che io ho avuto anche oggi e se posso dare il mio contributo in questo è che Tania la collega Tania eccola lì mi trovo esattamente d'accordo con lei e cioè abbiamo credo la necessità di unirci e coordinarci in maniera legata al processo e al percorso della singola persona soltanto in questo modo credo avremo la possibilità di giocare in squadra e fare in modo che quella persona a quella persona si sia adattato un processo e un percorso che ha una serie di ingredienti più questo piuttosto che non quest'altro più quest'altro piuttosto che non quest'altro ancora che tipo di problema ha questo e di relazione sociale allora serve un certo tipo di discorso questo invece è quest'altra persona invece ha dei problemi soltanto di lavoro benissimo dobbiamo metterlo nelle condizioni di ma appunto quando si arriva in ospedale uno che si è rotto un osso non lo portano in cardiologia uno che ha problemi neurologici non lo portano in ostetricia si potrebbero fare dei grossi pasticci credo che ci si debba trovare e qua il caso è il caso di ricostruire una persona ricostruire di cambiare di cercare di cambiare una persona e questo è il nostro lavoro e lo possiamo fare solo attraverso un forte coordinamento tra di noi una regia comune grazie scusate grazie grazie a te Alberto una regia comune di tutto il movimento del volontariato del terzo settore della cooperazione con la persona del detenuto al centro e l'ausin sociale sta entrando in qualche modo nei ragionamenti ed è un bene perché oltre al lavoro per il reinserimento di una persona che esce da un'esperienza vissuta in carcere insomma ci sono anche altre esigenze a te Antonella grazie vicini di casa società cooperativa grazie grazie per vicini di casa è la prima volta di lavoro a questo tavolo per cui ringraziamo moltissimo Icaro Roberta Casco e questa che per noi è una immensa opportunità formativa innanzitutto con vicini di casa ci occupiamo di ricerca a casa di progettualità per l'abitare quindi per chi si trova in difficoltà e diverse volte ci siamo trovati sollecitati rispetto all'individuazione di soluzioni abitative di persone o in misura alternativa o libere e su questo abbiamo avviato una lunga riflessione anche grazie all'ambito territoriale Friuli Centrale cominciando a seguire delle progettualità di albergaggio sociale attraverso i fondi di Cassa Ammende e cominciando a capire quanto come per tutto il dopo è meglio se viene costruito prima per cui la possibilità di collaborare assieme alla costruzione di un dopo sostenibile che magari impedisca delle recidive ma che sicuramente sia in grado di garantire inclusione e socialità ci viede orgogliosi di poter dare un contributo un'ultima cosa riguardo alla sollecitazione sugli spazi allora sono qua con il collega educatore Tobia Stocco e molte volte occupandoci di casa di soluzioni abitative ci siamo resi conto di come il lavoro il lavoro educativo il lavoro dell'inclusione il lavoro sulla socialità venga molto meglio in spazi adeguati quindi ciò che avverrà anche sugli spazi del carcere avrà evidentemente un impatto anche sugli spazi del dopo carcere grazie 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 a te Antonella allora la carita se ci avviamo davvero agli ultimissimi interventi è presente la carita della cigliossisi di Udine con Anna Rita De Nardo a lei la parola grazie grazie a tutti dunque come carita siamo accanto alle persone che afferiscono alla grave marginalità prima durante e dopo la carcerazione e il nostro carcere a volte solo per qualche mese ospita soprattutto persone che afferiscono a questa situazione persone senza dimora persone che mancano di casa di alloggio di un lavoro di una preparazione professionale spesso sofferenti di malattie e questa condizione era già presente prima della carcerazione quindi oltre sono persone italiane sono straniere quindi il tema dei documenti è assolutamente centrale perché durante la carcerazione alcuni di loro rischiano di perdere i documenti quindi di perdere i diritti che prima avevano acquisiti e sono persone molto giovani abbiamo un gruppo abbastanza consistente di ventenni quindi credo che il lavoro da fare sia tantissimo perché nel momento attuale con la domanda che ci facevamo cos'è che non funziona funziona che purtroppo la rieducazione che ci richiede la Costituzione non viene attivata in questo momento anche per tutti i motivi i problemi che sono stati evidenziati prima soprattutto per la mancanza di personale educativo qualificato dedicato al lavoro di rieducazione quindi il lavoro è tanto ma accettiamo volentieri questa proposta che ci viene dal tavolo di partecipare di essere presenti a questo percorso che riveda la presenza nostra la presenza del pubblico assolutamente del tutto il privato sociale per rivedere assolutamente gli spazi perché ne abbiamo bisogno e potremmo pensare grandi cose dentro alcuni spazi perché abbiamo volontari con caratteristiche diverse che possono pensare a percorsi anche ricreativi cioè a percorsi alternative possiamo pensarci non è questa la sede abbiamo tutti fame ma siamo disponibili a partecipare anche per rivedere quello che è il percorso trattamentale ecco volentieri volentieri ci siamo perché dobbiamo ricordare le parole di Pierluigi di Piazza dobbiamo avere cura dei detenuti grazie 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 anche ad Anna Rita io chiamo è già qui è già qui Roberta Casco perché il movimento di volontariato italiano non ha potuto essere presente con Alberto Fabris ha mandato un messaggio credo ce l'hai tu lo leggerai e poi lascerò concludere questa fase prima di avvicinarci al buffet perché Icaro credo che ci abbia preparato un contributo giusto dico qualcosa prima in conclusione mi pare che quello che immaginavamo insomma sta prendendo forma e coinvolge non solo gli operatori che hanno partecipato a questa discussione in quest'ultima ora e mezza ma vengono chiamate in causa anche le istituzioni in un rapporto però che è paritario terzo settore volontariato non a tappare buchi ma come interlocutore con piena e pari dignità rispetto alle istituzioni e anche all'amministrazione carceraria per coprogettare diceva e coprogrammare come diceva Marco Iob a te Roberta grazie Massimo leggo con piacere il messaggio degli amici del Movi del Friuli Venezia Giulia un partner per noi importantissimo perché negli anni da oltre 15 anni sono la realtà che nel mondo del volontariato fa da capofila per tutti i progetti con le scuole superiori del territorio quindi sicuramente una delle attività cardine del mondo del volontariato dicevamo stamattina che la presenza dei ragazzi a questi interventi è per il mondo del volontariato fondamentale perché giustamente come sottolineava Paolo prima le competenze sono diverse e il volontariato come abbiamo detto stamattina si muove in direzione delle competenze relazionali dello stare assieme infatti anche ciò che abbiamo provato a fare in questo periodo di contattare ognuno di voi per cercare di essere qui tutti insieme credo sia un po' ciò che intendiamo come un po' come obiettivo del nostro operato traghettare le storie che ascoltiamo e che raccogliamo verso gli interlocutori giusti le persone che possono aiutare le persone recluse a intraprendere un percorso di evoluzione di cambiamento di riavvicinamento alla società con cui si è creata una frattura leggo quindi il messaggio di Alberto Fabris Buongiorno a tutti mi scuso di non essere presente causa impegni concomitanti il Movi Friuli Venezia Giulia da una quindicina d'anni a San Daniele e successivamente a Udine promuove all'interno di percorsi all'interno delle scuole percorsi di cittadinanza attiva e anche il tema della legalità e dell'esecuzione penale il tema è uno fra quelli affrontati in particolare nelle classi quinte anche se sono attività anche negli anni precedenti con due obiettivi principali il primo è sviluppare un argomento complesso in modo adeguato sviluppando opinioni e un approccio critico alle informazioni che ci arrivano il secondo è porsi la questione del nostro ruolo di cittadini rispetto a queste tematiche nelle scelte che facciamo nelle decisioni che assumiamo nel modo in cui interagiamo con le persone la comprensione della complessità e la capacità di ascoltare diversi punti di vista paiono essenziali in questo momento storico in cui si apre mura di trarre conclusioni a semplificare e non ascoltare come territorio è fondamentale essere supporto educativo alla scuola e alla famiglia rispetto a questi temi e a questo approccio alla realtà quindi ringrazio ancora Alberto Fabri se colgo l'occasione anche per ringraziare due persone presenti in questa sala che sono Elisabetta Burla presidente della conferenza regionale del volontariato giustizia e Francesco Santin di Antigone Friuli Venezia Giulia che sono per noi due interlocutori fondamentali perché assieme stiamo cercando di lavorare insieme di fare un lavoro di rete e di cercare spunti su tutto il territorio regionale e anche sul territorio nazionale come Icaro visto che comunque abbiamo già dato il nostro contributo questa mattina abbiamo pensato a una modalità diversa abbiamo pensato di dare voce ai nostri volontari quindi vi chiedo ancora qualche minuto di pazienza per un breve video e ringrazio i giovani anzi i giovanissimi volontari di Icaro che si sono fatti promotori e realizzatori di questo video come testimonianza delle motivazioni che portano la società civile in tutte le sue sfaccettature a voler entrare in un carcere a voler mettere a disposizione gratuitamente il proprio tempo per entrare in un carcere e quindi lascio la parola a loro grazie carcere ripartire dalla costituzione oggi si discute di come ricostruire lo spazio della pena in via spato tuttavia la ristrutturazione delle mura del carcere non basta ripartire dalla costituzione significa impegnarsi anche a costruire un ponte in direzione della società è questo il compito che ogni volontario ha chiamato a svolgere animato dall'obiettivo di promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera dispositivo dell'articolo 17 legge sull'ordinamento penitenziario sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza su parere favorevole del direttore tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera dispositivo dell'articolo 78 legge sull'ordinamento penitenziario l'amministrazione penitenziaria può su proposta del magistrato di sorveglianza autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale articolo 27 della costituzione le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato e tu perché hai scelto di essere mattone di questa ristrutturazione attraverso il volontariato in carcere? Marina Tofoletti e da oltre 15 anni vado in carcere per dare senso al tempo a quel tempo sospeso a lungo tempo dell'attesa a quei giorni fatti di piccole cose e di ozio forzato la nostra associazione vuole offrire la possibilità alle persone recluse di momenti di ascolto di incontri con l'autore di scrittura creativa di scambio di libri d'arte per consentire loro di essere protagonisti attivi e non passivi del loro percorso di vita anche all'interno delle mura di un carcere per questo motivo io Claudia vorrei entrare in carcere per risvegliare in chi ha ristratto il senso di curiosità per le opere d'arte consentendo ai detenuti di scoprire mondi nuovi nei quali si anni dà la bellezza sono Patrizia Ortenzi scelgo di entrare in carcere perché credo che il volontariato penitenziario sia uno strumento fondamentale per consentire alle persone ristrette di mantenere un contatto con la società libera con la cultura con l'informazione con il mondo del lavoro ed attuare così quanto previsto dalla Costituzione e cioè la finalità rieducativa della pena sono Lucia Sillani scelgo di entrare in carcere per aiutare i detenuti in una scelta individuale in una scelta di mantenimento di una regola e al contesto di libertà come farlo? attraverso attraverso l'uso del colore tutti conosciamo l'importanza dell'uso del colore nella vita è un esercizio semplice che tutti possono fare o attraverso un'attività guidata come può essere la colorazione di un mandala o attraverso la realizzazione di un disegno o di un'opera sono Anna Brusatin vorrei entrare in carcere per ascoltare prima o poi la detenzione termina riconoscere la dignità della persona e investire nel suo futuro nell'interesse di tutti la vita è luce relazioni scoperte novità occasioni di crescita continua fare la volontaria in carcere per me è portare luce relazioni novità occasioni di crescita a chi ha la vita bloccata imprigionata in un'inattività ripetitiva e annientante dove spesso l'unica compagnia sono i propri pensieri le proprie paure i propri ricordi mi chiamo Alessio ho 21 anni sono volontaria da gennaio ma non ho avuto la possibilità di poter entrare in carcere vorrei poterci entrare per poter migliorare un sistema che anche solamente ignorando il problema preferisce spezzare piuttosto che recuperare le menti di chi è chiuso in carcere che purtroppo non sono soffrendo del loro tempo per potersi redime ma vennero solamente puniti a freddo senza da loro occasione di potersi migliorare spero di poter essere d'aiuto il pieno possibile o perlomeno provare a dare il mio contributo al carcere e a questa causa che se ben perseguita vantaggia sia loro sia la società in te sono Beatrice Comuzzo e credo nel rispetto della dignità della persona in quanto essere umano il carcere è un luogo un dimenticatoio in cui i diritti che esistono fuori sembrano scomparire e con essi l'esistenza delle persone recluse per questo motivo chiedo di superare quel muro sia fisico che immaginario e di entrare in carcere per restituire attraverso gli incontri con l'autore e il servizio bibliotecario quella dignità quel contatto col mondo esterno fondamentali per il progresso sociale e personale dell'individuo sono Franca Patriarca scelgo di entrare in carcere perché vorrei trasmettere con la mia vicinanza e la mia parola la speranza a coloro che si sentono persi che tutto è possibile e tutto può essere realizzabile anche la speranza di una vita migliore sono Maria Novella e vorrei entrare in carcere perché credo che ognuno di noi possa sbagliare e in quel momento abbiamo bisogno di strumenti concreti e di essere circondati da persone che credono nella possibilità di cambiamento e miglioramento credo che questo cambiamento possa partire da attività concrete come un corso di scrittura creativa per poter cominciare a rimmaginarsi e ricostruirsi sono Marina Zucco e vorrei sviluppare in carcere l'attività di biblioteca Banco Libero impegnandomi anche nella promozione e nel sostegno del diritto alla paternità nelle occasioni di incontro e di ascolto di tanti giovani padri detenuti ricevo spesso richieste di aiuto a trovare le parole i modi gli strumenti per mantenere o recuperare il rapporto con i figli minori magari in presenza se le condizioni fossero migliori sono Giulia ho scelto di entrare in carcere come volontaria perché nell'incontro con l'altro ho imparato che non si conosce il detenuto ma la persona si crea così uno spazio di recupero in cui ciascuno ha il diritto di essere visto al di là del proprio errore per poter riprogettare la sua vita perché arriva da paesi stranieri attraverso i suoni di una lingua nuova come l'italiano si può dar vita ad un ponte tra il dentro e il fuori per guardare con occhi diversi i luoghi di arrivo e scoprire di poter far parte di essi in un modo nuovo sono Veronica Rupil studentessa di psicologia e vorrei entrare in carcere per riavvicinare i detenuti ad una dimensione umana che troppo spesso in questo luogo viene a mancare la presenza dei volontari in carcere gioca un ruolo molto importante nel riavvicinamento di queste persone alla società molto spesso anche un semplice colloquio può produrre un cambiamento positivo in virtù del fatto che queste persone riescono a sentirsi viste considerate ed ascoltate la direzione da seguire è quella rieducativa e non esclusivamente quella punitiva mi piace tanto viaggiare circa 30 anni fa ho cominciato un viaggio diverso dentro il carcere della mia città quanti incontri volti tristezze emozioni non riesco a ricordare tutto questo viaggio non è come gli altri perché sembra non finire mi piace anche sognare e il mio sogno è svegliarmi un giorno e non poter più viaggiare lì per cui questo luogo di miseria umana non esiste più Cristina 2022 il volontariato post pandemia numero totale volontari Icaro 27 numero volontari autorizzati all'ingresso in istituto 4 perché non credo di averlo fatto un ringraziamento a Liliana Mauro che è artefice di un impegno straordinario per raccogliere i giovani e l'esempio è stato poche settimane fa al teatro San Giovanni di Udine saluto c'è Cristina Benedetti che l'anno scorso ci ha letto le poesie del premio Battistuta e ultima cosa forse più triste voglio dire è arrivata la notizia della morte di Carlo Smuraglia che è stato l'artefice di quella legge ricordata poco tempo fa io allora ero sottosegretario e lui aveva presentato quella legge fu una grande fatica far approvare quella legge come quella fino chiaro delle detenute madri e molte altre purtroppo certe leggi buone hanno poi bisogno di forza per essere realizzate ci vediamo alle due e mezza puntualissimi grazie della mattinata io mi limito a dire poche cose questa mattina è stata una mattinata molto intensa perché i saluti istituzionali sono in realtà stati contributi molto densi sulle questioni sul tappeto da parte di tutti gli interlocutori poi abbiamo avuto una intensa parte relativa al progetto di ristrutturazione con la presenza dell'architetto di croce che ha presentato il progetto il primo lotto e il secondo lotto poi gli interventi degli architetti Marcetti e Scarcella e poi abbiamo avuto un contributo dell'università di architettura della facoltà di architettura dell'università di Trieste Udine che ci ha prospettato un workshop di lavoro e poi una carrellata dei 15 associazioni di volontariato e del terzo settore che hanno affondato il bisturi nelle criticità nelle prospettive nella loro voglia di essere protagonisti del cambiamento attraverso muri e spazi nuovi per riempire di formazione cultura artigianato lavoro questi spazi che ci saranno soprattutto nella sezione ex femminile poi ci sarà il secondo lotto con la costruzione degli spazi per i colloqui familiari e la costruzione di una sala polivalente un teatro di cento posti questo la mattinata insomma è stata molto densa e adesso iniziamo questa seconda parte che inizia con la tua relazione su che cosa si può fare subito per mantenere le piccole conquiste che nel tempo del covid sono state realizzate per quanto riguarda le telefonate o l'utilizzo dei mezzi telematici eccetera e dall'altra le prospettive di cambiamenti indicati dalla commissione ruotolo e anche dalla conferenza dei garanti regionali e territoriali stamattina abbiamo letto anche un messaggio di buon lavoro di Carlo Renoldi a cui poi forniremo tutti i materiali di questa giornata augurandoci che presto ci siano atti o di legge o a livello di circolari per realizzare i cambiamenti necessari partendo dal fatto comunque che qui a Udine si soffre la mancanza di un direttore fisso la mancanza di un educatore fisso e si soffre il sovraffollamento dopo la tua relazione ci saranno i contributi di Carmelo Cantone e Antonella Calcaterra e poi i contributi del professor Pittaro garante regionale del Friuli Venezia Giulia di Antigone e del responsabile della psichiatria destinato al carcere di Udine ecco mi pare che possiamo partire con quasi il quarto d'ora accademico e dopo questa parte presenteremo il libro la seconda edizione del libro di Margara dirò dopo le caratteristiche non è una ristampa ma è proprio una seconda edizione con l'intervento della Presidente Antonietta Fiorillo e del Presidente Pavarin e dell'avvocato Raffaele Conte Presidente della Camera Penale del Friuli Udine questa è fare la edizione esatta allora noi siamo pronti a iniziare spero che entrino tutte le persone che sono ancora al buffet mi stupisco perché il buffet non ha nulla da offrire più e quindi è solo un luogo per fare chiacchiere ma penso che il silenzio in questa sala sia più produttivo per tutte e tutti allora Stefano a te la parola bene spero che mi sentiate mi sentite sì benissimo grazie 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 scusatemi per il fatto di essere lontano da voi avrei preferito come sempre essere essere con voi lì ma diciamo sì non mi è non mi è stato consentito e quindi diciamo mi tocca fare questa introduzione da lontano ma è un'introduzione a cui seguiranno molti importanti contributi e quindi diciamo ovviamente qualsiasi cosa di approssimativo io possa dire potrà essere integrato contestato e migliorato da le autorevoli persone che seguiranno mi permetto quindi di fare diciamo sia un'introduzione di di cornice come si dice sulla riforma possibile il tema che noi abbiamo diciamo che cos'è la riforma possibile e cosa diciamo ovviamente complicato da dirsi però io articolerei il nostro almeno il mio la mia introduzione in in tre parti diciamo una prima parte registrando quello che sta accadendo in senso positivo in questi in questi giorni diciamo notizie di questi giorni mi riferisco evidentemente all'approvazione ieri nella alla Camera dei Deputati della legge della proposta di legge Siani che modifica la normativa sulle detenute madri e incentiva ulteriormente l'uscita dagli istituti penitenziari delle madri con i bambini mi riferisco alle notizie di stampa per quanto maldestre fossero dei giorni passati riguardo alla discussione della proposta di legge in materia di affettività che è depositata presso il Senato della Repubblica queste sono cose fatti istituzionali parlamentari che stanno accadendo in questi giorni e da cui forse vale la pena di partire e poi mi soffermerò sulle questioni come si dice post covid e poi per arrivare diciamo sia al nodo delle scelte fondamentali su la riforma possibile diciamo quella che in qualche modo a cui affidiamo delle speranze diciamo così di recupero del nostro sistema di esecuzione penale allora innanzitutto partiamo appunto dalle cose di questi giorni perché credo che sia importante per qualche verso anche insperato che in questi giorni ci siano state notizie riguardanti un'attenzione del Parlamento al tema penitenziario questo è sicuramente il voto della Camera di ieri della legge sulle detenute madri con tutti quanti i limiti che quella proposta può avere perché voglio ricordare che in corso d'esame alla Camera dei Deputati la proposta originaria dell'Onorevole Siani è stata per quanto possibile contenuta e limitata nei suoi effetti quindi farei molta attenzione dal dire che dalla sua eventuale approvazione al termine della navetta parlamentare si potrà effettivamente dire che non ci saranno più bambini in carcere questo è un obiettivo che inseguiamo da più di un decennio ed è difficile da conseguire se non si fanno scelte davvero molto radicali su alcune forme di devianza minore ma frequentemente reiterata come è il caso di molte delle persone che delle donne che ancora diciamo si frequentano i nostri istituti di pena con i figli però è un fatto importante che ci sia stato questo voto della Camera che certamente varrà anche come come indirizzo per gli operatori in questo caso mi riferisco parzialmente agli operatori penitenziari assai di più agli operatori inteso la magistratura e la sua responsabilità sulle decisioni riguardo appunto alle alle detenute madri io vorrei ricordare che la casa famiglia di Roma una delle due case famiglie già attive sul territorio nazionale eccetera 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 è stata come direi piena soltanto in alcuni diciamo drammatiche drammatici momenti quando c'è stata una tragedia accaduta a ribibbia femminile qualcuno lo ricorderà una madre che che ha ucciso i propri due figli e poi nel momento diciamo della massima recrudescenza del covid altrimenti la casa famiglia anche quando c'è non viene diciamo riempita in tutte le sue capacità perché c'è una prudenza nelle decisioni nell'ammissione alla casa famiglia che non sarà facile diciamo superare credo neanche con la normativa che ora si va a definire però ripeto è un fatto importante significativo che ci sia stata questa attenzione e quest'impegno in sede parlamentare così come credo che al di là delle polemiche strumentali agitate un po' maldestramente diciamo da alcuni organi stampa e a cui purtroppo è seguito anche un magistrato di grande fame e notorietà il fatto che il ministero della giustizia abbia fatto una valutazione di impatto quella di cui si è parlato nei giorni passati riguardo alla attuazione della proposta di legge promossa dal consiglio regionale della toscana e voglio dirlo visto che è qui presente anzi è il nostro padrone di casa Franco Corleone per gran parte diciamo su iniziativa di Franco Corleone quando era garante regionale dei detenuti della toscana il fatto che il ministero della giustizia abbia fatto una valutazione di impatto e abbia detto diciamo si valutato quanto sia quanto impegni l'approvazione di una di una legge che preveda spazi per la affettività e per gli incontri riservati delle persone detenute con i loro familiari credo che sia comunque un fatto molto importante e molto positivo perché fa passare la discussione astratta e per molti versi ideologica a giudicare diciamo si dalle opposizioni che sono si sono scatenate in queste in questi giorni fa passare appunto da questa discussione astratta ideologica alla dimensione concreta di quel che serve perché possa effettivamente arrivare a un a riconoscimento di un diritto all'affettività e anche di un diritto alla sessualità delle persone detenute su cui il nostro paese è terribilmente indietro rispetto a tutti quelli con cui amiamo confrontarci e anche con qualcuno con cui non amiamo confrontarci ma che è decisamente più avanti di noi oggi abbiamo nero su bianco un parere degli uffici tecnici del ministero della giustizia che ci dice quanto diciamo appunto costerebbe un'iniziativa di questo genere e ci dice anche come potrebbe essere affrontato dentro diciamo una programmazione di spesa pluriennale un'iniziativa di questo genere penso spero che possa essere il segno di una nuova attenzione di una ripresa di dibattito anche su questi su questi temi sono cose importanti perché sono cose che danno il segno del carcere che vorremmo un carcere appunto limitato all'estrema razio un carcere in cui sono affermati e riconosciuti i diritti fondamentali della persona e credo che questo è un passaggio che non dobbiamo evidentemente sottovalutare e poi però appunto verso il carcere la riforma possibile ha a che fare innanzitutto con le scadenze le emergenze le urgenze che abbiamo nella fase come si dice post post covid diciamo no una fase quella del covid che ha direi terremotato il nostro sistema penitenziario in gran parte stravolgendone anche la fisionomia gli istituti hanno dovuto ospitare come hanno potuto le persone detenute perdendo frequentemente la propria vocazione trattamentale quale che essa fosse c'è una difficoltà tuttora non certo autorizzatoria ma proprio di ripresa delle attività nel routine diciamo e nello svolgimento dei percorsi detentivi questi sono diciamo sì tutte difficoltà contro cui noi oggi ci confrontiamo e che però appunto richiedono anche delle decisioni diciamo e delle misure da prendere da prenderne l'immediato che non possono essere rinviate a partire da quelle che sono le principali pendenze che il covid ci lascia se ne è molto occupata la commissione ruotolo e quindi sicuramente Carmelo Cantone e Antonella Carcaterra ne potranno dire ma è ancora irrisolta la disciplina delle videochiamate e in generale diciamo sì dell'utilizzo degli strumenti digitali all'interno del sistema penitenziario che è stata la grande innovazione del covid perché come si dice talvolta ex malo bonum diciamo sì e quindi il covid almeno ci ha dato questo diciamo sì no il superamento del tabù che c'era dentro l'amministrazione penitenziaria nei confronti digitali eppure appunto non siamo ancora a una disciplina disciplina chiara che in qualche modo possa consolidare dentro l'ordinamento quello che con l'emergenza covid è stata sperimentata penso ovviamente in modo particolare principalmente alla questione delle videochiamate ma penso a tutti gli altri usi del digitale che è possibile fare all'interno del sistema penitenziario io credo che su questo serva diciamo nei prossimi mesi anche una una iniziativa legislativa da parte del del governo che in via d'urgenza definisca per esempio appunto cosa sono le videochiamate come devono essere disciplinate come possono essere garantite alle persone detenute e forse appunto con le videochiamate anche altre forme di corrispondenza digitale ed elettronica su questo appunto ci sono indicazioni che vengono già dalla commissione ruotolo e possono e devono essere acquisite e va fatto tutto questo va fatto subito perché il rischio è che invece diciamo così questo tipo di esperienza resti affidato a una normativa una normativa secondaria non sempre non sempre chiara non sempre limpida non sempre certa nella sua applicazione ma diciamo sì tra le le pendenze della fase della fase covid c'è anche noi lo abbiamo detto come conferenza dei garanti nell'incontro che abbiamo avuto con la ministra della giustizia il 29 marzo scorso c'è anche la soluzione di alcune questioni di giustizia che abbiamo definito in questi termini che in qualche modo ci restano dalle vicende del covid innanzitutto ovviamente quella macroscopica quella che vedono tutti su cui continuano a non ricevere diciamo sì obiezioni significative mi pare da tutti gli interlocutori con cui capita di discuterne che diciamo sì la soluzione del problema degli 800 semiliberi e dei permessanti e lavoranti che sono stati fuori dagli istituti penitenziari quasi per due anni se non per due anni senza aver commesso alcun tipo di illecito penale o disciplinare o sanzionato in qualsiasi modo quindi avendo dato piena prova della loro capacità di reinserimento nella legalità che non è pensabile che il 31 dicembre del 2022 tornino a dormire in carcere e sarebbe diciamo sì una regressione nel percorso trattamentale che il nostro ordinamento certamente non dovrebbe consentire e quindi qui si tratta di capire cosa ne vogliamo fare come si accompagnano in un passo successivo del loro reinserimento sociale queste persone che certamente appunto non possono tornare a come stavano prima prima del del covid altro problema di giustizia che abbiamo sottolineato in quella circostanza e su cui più volte è ritornato anche il garante nazionale delle persone priate della libertà è il problema della durezza della esperienza detentiva in questi due anni di covid e quindi la necessità di riconoscere la particolare durezza di questa esperienza detentiva attraverso forme di liberazione anticipata speciale e che in questo caso lo voglio dire chiaramente al di là delle dei tassi o dei livelli di sovraffollamento che ci sono non ci sono nel nostro paese non è questo l'argomento qui non stiamo discutendo della liberazione anticipata speciale per ridurre la popolazione detenuta sotto questo punto di vista sarebbe stato necessario non oggi ma due anni fa all'inizio dell'emergenza covid un serio e importante provvedimento di clemenza che avesse ridotto drasticamente le presenze in carcere consentendo di gestire gli istituti penitenziari in maggiore sicurezza per i detenuti e per il personale questo però purtroppo come tutti sanno il Parlamento e il Governo non hanno voluto fare quando avrebbero dovuto fare e quindi non stiamo più discutendo di questo stiamo discutendo ripeto di un provvedimento di giustizia cioè di un provvedimento che riconosca che la detenzione scontata in pandemia non è stata la stessa cosa che la detenzione scontata prima della pandemia ha avuto un coefficiente di sofferenza così rilevante che appunto uno stato giusto dovrebbe essere capace di riconoscere con gli strumenti normativi che ha a disposizione queste sono le pendenze che il Covid diciamo sì in qualche modo ci lascia superata la fase immediata d'emergenza però il Covid ci dice anche altro rispetto alla prospettiva si è discusso immagino ne abbiamo discusso questa mattina ne abbiamo discusso forse anche l'ultima volta che ci siamo incontrati a Udine in un precedente convegno promosso da Franco Corleone si è discusso molto delle risorse impegnate dal Ministero della Giustizia in modo particolare dall'amministrazione penitenziaria a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza per quel che riguarda sostanzialmente l'edilizia penitenziaria quindi la realizzazione di quei famosi otto padiglioni che dovrebbero aiutare a uscire dal sistema dalle sue condizioni di sovraffollamento non voglio tornare su questo e sull'efficacia di misure di questo genere come tutti sanno almeno coloro che possono documentarsi il sovraffollamento è abbastanza indifferente alla disponibilità dei posti dei posti letto negli ultimi vent'anni sono tanti gli anni che noi denunciamo il sovraffollamento anzi 30 anni e denunciamo il sovraffollamento la capienza degli studi penitenziari in Italia è aumentata è aumentata di circa 15.000 unità eppure il sovraffollamento non è mai diminuito quindi diciamo questo dimostra credo quasi scientificamente il fatto che lavorare sulla capienza non risolve dei problemi del sovraffollamento ma non è questo il punto quello che invece a me sembra più importante è che il piano nazionale di ripresa e resilienza dà altre opportunità oltre quelle tra virgolette edilizie diciamo e cioè opportunità di recupero innanzitutto dei nostri istituti penitenziari recupero e adeguamento alle normative igienico-sanitarie che peraltro sono normativamente prescritte e dà possibilità di innovazione in termini di appunto telecomunicazioni infrastrutture digitali telemedicina tutte cose su cui si può e si deve lavorare su cui credo l'amministrazione penitenziaria sta lavorando in modo particolare sul cablaggio e sulla la connessione di tutti gli istituti di pene delle sue delle loro attività di trattamentali ma su cui per esempio possono e devono lavorare le regioni nell'offerta dei progetti dei programmi di telemedicina che sono un punto fondamentale del piano nazionale di ripresa e resilienza rivolto alla generalità della popolazione l'offerta di servizi territoriali e l'offerta sul territorio di servizi di telemedicina e allora diciamo così questa opportunità va portata anche agli istituti penitenziari dando credo un grande diciamo sì sollievo sia ai detenuti che chiedono e domandano un'assistenza più tempestiva un'assistenza in modo particolare specialistica più tempestiva dentro gli istituti di pena e anche alla capacità dell'amministrazione penitenziaria di farvi fronte perché è chiaro che la telemedicina diventa una grande opportunità anche per l'amministrazione penitenziaria per gestire la domanda di salute che viene dagli istituti penitenziari il PNRR per il carcere deve essere anche questo non può essere soltanto i padiglioni deve essere questa idea di istituto e di istituti penitenziari queste sono le cose che abbiamo davanti in queste settimane in questi mesi scelte scelte che vanno fatte ora che non possono essere procrastinate diciamo e poi però c'è un problema diciamo appunto per cui io veramente spenderei la parola che Franco Corleone oggi ci propone cioè la parola riforma e decidere che cosa ne vogliamo fare di questo sistema penitenziario ora abbiamo diciamo così la come dire la buona scusante è che siamo passati attraverso una bufera quella del covid ma poi finita la bufera bisogna decidere appunto che cosa che cosa farne del sistema penitenziario e io quello che vedo quello che mi sembra diciamo è che siamo ancora troppo incerti al di là di pronunciamenti diciamo come dire rituali siamo ancora troppo incerti sull'alternativa tra il carcere dell'estrema razio e il carcere ospizio dei poveri le due cose non stanno insieme eppure diciamo così noi continuiamo tranquillamente a parlare dell'una cosa avendo presente l'altra in un altro delle meritorie iniziative di Franco Corleone cioè un convegno in ricordo di di Franco Margara svoltosi a Firenze mi pare un paio di anni fa due o tre anni fa ricordo che in quell'occasione avremmo un confronto molto sincero molto schietto con un magistrato diciamo tra i più autorevoli che abbiamo nel nostro paese con cui io ho avuto la fortuna di lavorare molto bene quando era procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma cioè il procuratore Giovanni Salvi che appunto ora è procuratore generale in Cassazione e Giovanni Salvi con grande diciamo sincerità in quel convegno diciamo a cui partecipavamo noi diciamo si tutti i profeti del carcere dell'estrema razza ci disse non già che lui non era a favore diciamo del carcere dell'estrema razza ma ci disse che il nostro paese non può non permettersi o non dover fare non avere un sistema penitenziario da 70.000 detenuti perché questi sono i tassi nei paesi europei con cui dovremmo confrontarci perché siamo un paese che ha un insediamento delle organizzazioni criminali importanti eccetera 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 e io non dubito diciamo sì che la tendenza naturale del nostro sistema penitenziario sia quella perché noi viviamo ora in un momento diciamo così di vacche grasse o magre a seconda come volete giudicare la cosa cioè abbiamo una popolazione detenuta che è ancora contenuta per effetto del covid ma tornerà a crescere diciamo ecco e quindi diciamo sì nella sua tendenza naturale può arrivare ai 70.000 detenuti profetizzati dal procuratore Salvi ma i 70.000 detenuti non sono il carcere dell'estrema razio 70.000 detenuti in Italia sono l'ospizio dei poveri sono quello che noi vediamo in carcere cioè il fatto che il carcere deve curare o gestire o sopportare le fragilità sociali le fragilità di salute fisico-mentale le povertà e quant'altro è il carcere con cui abbiamo a che fare diciamo viceversa sappiamo che dentro il nostro istituto di penitenziari abbiamo circa 10.000 detenuti nel regime di nel circuito di alta sicurezza ne avremo forse altrettanti ma neanche credo diciamo autori di gravi reati violenti contro la persona e forse qualcos'altro di custodia cautelare importante che non si può pensare che non stia dentro un sistema di interruzione delle comunicazioni con l'esterno ma questo è diciamo sì il carcere dell'estrema razio è questo cioè un carcere di 30.000 detenuti e questo dobbiamo dircelo allora noi vogliamo se vogliamo discutere di riforma del sistema penitenziario noi dobbiamo decidere se vogliamo un carcere un sistema penitenziario chiuso lasciamo perdere quello esterno un sistema penitenziario chiuso di 30.000 detenuti o di 70.000 detenuti e questa è una decisione preliminare a qualsiasi scelta politica conseguente se non si decide questo si fanno solo pasticci dopo perché se si decide questo allora bisogna investire risorse cioè i 30.000 detenuti investire risorse sul territorio nei servizi sociali sanitari esistenziali di accompagnamento alle fragilità se viceversa diciamo sì noi pensiamo che il carcere deve rimanere come tendenzialmente l'ospizio dei poveri allora noi dobbiamo investire le medesime risorse di sostegno sociale di accompagnamento dentro il sistema penitenziario perché dobbiamo avere i servizi di salute mentale rafforzati e qualificati perché dobbiamo avere i servizi per le dipendenze rafforzate e qualificate perché dobbiamo avere una capacità di comunicazione fra l'ospizio dei poveri dentro e gli ospizi dei poveri fuori allora questa è la scelta fondamentale se non si fa questa scelta io temo che noi resteremo diciamo così incerti avendo diciamo destinato il carcere a ospitare le fragilità che non siamo capaci diciamo così di gestire e di curare e di curare fuori con il rischio appunto poi di di dover fare i conti tutti i giorni con delle risorse che destinati al carcere per motivi appunto di accompagnamento di sostegno sociale assistenziale che non avendoli dati fuori non li si vuol dare neanche dentro che è diciamo così la croce quotidiana credo della gestione degli istituti degli istituti di tele insomma noi dobbiamo decidere 30 o 70 mili detenuti se vogliamo il carcere dei diritti fondamentali e delle offerte strategiche che vanno date alle persone agli autori agli autrici di gravi reati oppure vogliamo avere il carcere della marginalità e della devianza sociale qui c'è diciamo sì il discrimine fondamentale da qui poi viene il resto e quindi viene che tipo di politiche dobbiamo fare non nel penitenziario ma in senso lato sulle grandi questioni sociali che sappiamo essere associati al carcere quelle a cui eravamo più abituati diciamo le questioni delle dipendenze o le questioni delle delle migrazioni e quelle che invece abbiamo scoperto con la chiusura degli OPG abbiamo scoperto solo ora cioè diciamo la questione della salute mentale che prima veniva tranquillamente nascosta sotto il tappeto degli OPG perché la sofferenza che oggi si scopre in carcere viene esattamente di là dal fatto che il sistema non ha più la valvola di sfogo degli ospedali psichiatrici giudiziari e quindi che le sofferenze dei problemi di salute mentale vanno gestiti dentro il sistema penitenziario se non vi ha altro modo diciamo e nessun altro se ne fa carico e non possono essere gestiti con il vecchio modello di assistenza psichiatrica consulenziale a cui erano naturalmente portati i nostri istituti penitenziari insomma questa mi sembra la questione fondamentale che noi abbiamo davanti scegliere che tipo di sistema penitenziario vogliamo e a partire da questa scelta fondamentale derivare le opzioni conseguenti di politiche che evidentemente non possono essere comunque confinate nel sistema e nell'ordinamento penitenziario in senso stretto ma devono coinvolgere tutti gli attori che hanno a che fare con la complessità di queste questioni e quindi in modo particolare gli attori istituzionali territoriali appunto come quelli a cui fanno riferimento i garanti nominati dalle regioni dalle province dei comuri che sono attori fondamentali per l'attuazione dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione che non impegna il Ministero della Giustizia impegna la Repubblica e la Repubblica è il Ministero della Giustizia ma anche quello di distruzione quello della salute le regioni gli enti locali e la Repubblica sono le organizzazioni della società civile e quanti altri possono collaborare a perseguire il risultato dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione diciamo si può fare se si ha idea di dove si voglia andare e questa io credo che sia la prima urgenza e la prima necessità grazie chiedo scusa se sono stato troppo lungo grazie Stefano mi pare che il il tuo intervento sia stato ascoltato con interesse con attenzione perché pone un'alternativa tu hai avuto il buon gusto di dire carcere estrema razio oppure ospizio dei poveri Alessandro Margara nettamente diceva il carcere è una discarica sociale e così come ci sono i rifiuti vanno nelle discariche ordinarie i rifiuti umani vanno nella discarica che è il carcere ora è un'alternativa secca in realtà poi le cose sono probabilmente più intrecciate più complicate però in effetti questo ci aiuta a tradurlo in cifre 70.000 o 30.000 perché stamattina abbiamo sentito per esempio molti interventi delle associazioni del terzo settore del volontariato che hanno parlato delle cose che si fanno a tolmezzo cioè carcere di alta sicurezza lasciamo stare il 41 bis che non fanno nulla se non impazzire ma parliamo dell'alta sicurezza cioè molte cose si fanno dove c'è l'alta sicurezza dove c'è il carcere in cui entrano appunto quelli che qualcuno in passato definiva i poveracci che si fa che cosa è possibile fare si sopperiscono proprio alle necessità anche primarie la biancheria intima le felpe le maglie eccetera ma e questo vede impegnati l'amministrazione penitenziaria e i volontari cioè per persone che stanno in carcere grazie a leggi che sembrano intoccabili io adesso ho le cifre di ieri del carcere di Udine per violazione dell'articolo 73 della legge sulle droghe sono 36 adesso mi pare a spanna sono il 30% su 138 o no mi aiuta Cantone se a questi aggiungiamo quelli che sono qualificati come tossicodipendenti io credo che arriviamo alla metà dei detenuti sicuramente presenteremo a fine giugno il tredicesimo libro bianco e avremo ancora la conferma di questi dati a livello generale italiano ora è immaginabile nascondere questo aspetto cioè che il 50% della detenzione ha a che fare con una questione di stile di vita di possiamo definirlo in mille modi ma non mi interessa adesso ma comunque con una questione sociale e non si fa nulla anzi quando si è messo mano si è aggravato ora in Parlamento c'è una proposta timida di legge per affrontare i fatti di lieve entità ed è va avanti con fatica perché addirittura quelli che poi dicono di volere una giustizia giusta in realtà propongono per i fatti di lieve entità quasi più alte di quelle che sono oggi previste come reato base per il quarto comma dell'articolo 73 cioè le cosiddette droghe leggere cioè siamo alla ai mozza orecchi del diritto allora quindi la domanda che pone Stefano 70.000 o 30.000 sta sta qua non allora il problema è è vero forse Antonella Calcaterra ci dirà beh però forse si sta pensando a misure alternative al momento della cognizione non al momento successivo Antonietta Fiorillo sa bene che Margara non era contrario in assoluto a misure alternative anche immediate per esempio io credo che non avrebbe avuto nulla da dire sulla mappa sulla messa alla prova però sosteneva che dei progetti dovessero partire dalla conoscenza della persona che quindi noi abbiamo poi questa io ormai è un mio rovello che dico che noi abbiamo le persone che hanno che usufruiscono della mappa fino a sei anni di pena quindi qualcosa di non poco quindi con probabilmente reati che sono simili a quelli che entrano in carcere solo che hanno l'avvocato la famiglia un lavoro un'associazione l'UEPE che li segue perché è il canale privilegiato quindi noi abbiamo persone che fanno un progetto di un anno e il processo viene cancellato i disgraziati che entrano in carcere scontano fino all'ultimo giorno è inutile che il presidente Pavarin che è qua lo sa che io continuo a insistere perché poi ogni giorno che vado in carcere mi faccio dare la tabella e ieri è uscito un detenuto oggi ne è uscito un altro anzi salutiamo fra noi due detenuti semiliberi che sono qui a ascoltare il nostro convegno voi non li riconoscerete ed è bene che sia così benissimo allora 20 20 che hanno il fine pena 2022 alla faccia dell'idea di fare il grande progetto per evitare il fallimento io ripeto le parole testuali che mi sento dire questi staranno ieri ne è uscito uno oggi un altro e gli altri 20 usciranno senza fino all'ultimo giorno almeno vediamo di applicare la circolare di Mittendi per prepararli con un biglietto del tram qualche buono pasto qualche cosa ecco allora come usciamo da questo come usciamo da questo perché questo è una questione che che va nella discussione anche poi che faremo dopo sul libro di Margara si tengono assieme le cose quindi io mi dico questo che il rischio è che noi andremo a 70.000 no? a meno che non ci sia quelle proposte per in realtà aumentare le misure alternative prima e mantenerci su questi 55.000 e però è sempre un problema che bisogna affrontare questa qualità della detenzione come la trasformiamo non in un ospizio ma in una sede di laboratorio come scriveva Maurizio Battistutta in un luogo di sperimentazione sociale ce la possiamo fare e io mi rendo conto che è uno simolo un paradosso che noi diciamo che il carcere deve può diventare un laboratorio di sperimentazione sociale per fortuna abbiamo chiuso i manicomi se no ci ricovererebbero se diciamo cose del genere no? ecco come ne usciamo questo è la questione perché mi pare che nessuno si ponga il problema di rivedere le leggi criminogene questo e addirittura si pensa di costruire i padiglioni per aumentare la capienza quando invece noi qui da Udine diamo l'idea che si deve ristrutturare e usare gli spazi che ci sono e non creare nuovi luoghi di detenzione ecco per il resto io vorrei dare la parola al provveditore Carmelo Cantone che ho il piacere di conoscere oggi come ho detto prima e soprattutto per una questione come facciamo sì che il carcere sia un luogo in cui i detenuti si possano muovere senza essere scortati è possibile? perché noi abbiamo la comandante Senzale se mi dice ma io al pomeriggio non ho personale come si fa a fare la riunione nella sala convegni nella sala che abbiamo costruito a presentare un libro chi li porta e così e come facciamo a fare lo spaccio e poi come ci vanno i detenuti allo spaccio come vanno al colloquio con l'avvocato come vanno e fra entro quest'anno venti agenti vanno in pensione ecco allora come ne usciamo io so che forse qualche idea ci può venire per dire ma se vogliamo che sia un luogo aperto entro il muro ci si può muovere come ci si può muovere ecco per il resto le cose che ha detto Stefano Anastasia sono tutte chiarissime io insisto sulla questione della salute salute mentale perché noi ci nascondiamo il fatto non dei suicidi o dei tentati suicidi ma dell'autolesionismo sono numeri impressionanti adesso non ho il numero dell'anno scorso a Udine però sono decine 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 per di più alcuni sono concentrati su dieci detenuti che fanno ognuno dieci episodi di autolesionismo ora dove è Anzallo no no puoi stare lì mi ascolti però vieni vieni qua vicino vieni qua vicino in prima fila ora lo dico queste persone non saranno schizofreniche non avranno una psicosi ma hanno dei comportamenti che devono essere presi assunti e trovare delle soluzioni anche fuori dal carcere così come le persone che due tre non so quante sono oggi a Udine che sfasciano la cella una volta due volte poi se vengono affidate lo dico alla polizia penitenziaria che cosa può fare se non mettere in una cella senza materasso senza televisore e sperare e poi ogni tanto cercare di entrare perché si facciano una doccia tutto questo crea un clima di rapporti difficili anche con gli altri detenuti eccetera per e non scendo in dettagli eccetera ecco questo è il problema quindi dipartimento salute mentale in carcere ma per portare fuori queste persone dove dove quando ero giovane mi occupavo della chiusura dello zoo a Milano mi dicevano ma dove mettiamo la vecchia tigre il vecchio leone l'elefante l'abbiamo chiuso lo zoo voglio dire no perché se ci si dice ma dove li mettiamo questa era anche l'obiezione per chiudere gli OPG dove li mettiamo no non sono pacchi non sono sono persone bisogna trovare i luoghi giusti quindi la regione Friuli Venezia Giulia deve fare il piacere di offrire le soluzioni per chi ha problemi di dipendenza o di consumo o di abuso di sostanze e per chi ha dei problemi di equilibrio mentale trovare dei luoghi che siano comunità cooperative alloggio di tutti i tipi perché non può essere perché anche se il carcere è ospizio dei poveri non può essere anche il luogo della situazione di salute precaria in questo modo questo no possiamo accettare e possiamo lavorare per dire noi facciamo sorgere i diamanti da questa realtà va bene facciamo questo sforzo ma in carcere non è giusto che ci stiano persone che hanno dei gravi problemi di salute di ogni di ogni genere ecco io mi ho tradotto un po' le cose che ha detto peraltro con chiarezza Stefano Anastasia e do la parola a Carmelo Cantone che è provveditore del Lazio e dell'Abruzzo e Molise poi è stato anche contemporaneamente provveditore della Campania prima è stato in provveditore in Toscana e in Umbria Puglia Basilicata e poi Liguria e che ti manca? La pensione manca vabbè speriamo che facciano un provvedimento ad hoc per trattenerti grazie Carmelo di essere venuto qua grazie a te Franco sì in fondo sono come dicevi prima solo 36 anni che ci conosciamo quando mi venne a trovare un giovane europarlamentare al carcere di Brescia e ricordo che ammiravamo insieme la bellezza del neocarcere di Verziano con le docce che avevano le cascate d'acqua per dire appunto come come storia vecchia Verziano Verziano la prima volta che venisse a Verziano l'istituto appena consegnato ma già accadente vabbè ma insomma queste sono le storie che conosciamo in giro per l'Italia proverò a dare un piccolo contributo alla sollecitazione che mi dava Franco Corleone ringrazio ancora per l'invito e vedo anche di precisare qualche cosa su due tre questioni allora sentendo anche oggi una serie di cose che sono state sottolineate in particolare quello che ci diceva prima Stefano Anastasia allora noi assistiamo purtroppo da tempo in questo paese a le varie agenzie che intanto si occupano del nostro sistema non solo del sistema evidenziario diciamo in generale della cura della deviazione sociale vediamo che questo all'interno di questo sistema le varie agenzie troppo spesso parlano linguaggi diversi perché perché ci sono percezioni diverse interessi diversi e quindi anche una scarsa disponibilità ad ascoltarsi cioè ognuno la racconta dal proprio ambito questo almeno troppo spesso accade quando le cose vanno male mi viene in mente quella 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 gag di un vecchio film di John Landis quando si parlava del di cosa accade in una giornata in cui c'è un terremoto nella città di San Francisco e subito dopo il terremoto il cronista cittadino dirà grave evento sismico nella città di San Francisco il cronista sportivo dirà strani rimbalzi del pallone sul campo da gioco oggi a San Francisco sono due percezioni diverse da noi questo accade molto spesso è accaduto troppo spesso una serie di problemi che sono all'ordine del giorno in vari distretti nel nostro ambito appartengono purtroppo anche a questo qua non c'è un colpevole c'è un dato di fatto una difficoltà delle agenzie e delle ore insieme mi riferisco per esempio alla questione dell'assistenza sanitaria perché l'assistenza sanitaria esprime delle criticità epocali perché nessuno di noi dell'amministrazione evidenziaria si può nascondere che non è che vent'anni fa o prima del 2008 l'assistenza sanitaria quando era alle dipendenze del ministero della giustizia e del nostro dipartimento non era proprio un modello di vita però dopo il 2008 la difficoltà di coniugare insieme il linguaggio e le esigenze della sanità nazionale e regionale con le esigenze degli studi divenziari questa difficoltà la stiamo vivendo tutto e vi devo dire francamente che questa è una cosa che mi preoccupa molto io non faccio altro che troppo molto spesso a sottolineare ai miei direttori ma anche ai comandanti delle parti responsabili a tutti gli operatori trasversalmente una cosa stiamo molto attenti non soltanto alla qualità della cure standard ma stiamo molto attenti all'emergenza sanitaria perché chi ha un minimo di conoscenza del carcere sai che se stanotte c'è una persona in carcere che ha una colica renale e quella diventa la madre di tutte le coliche renali vi ricordo molto bene come quando ero in Puglia alcuni anni fa nel 2018 per una scarsa capacità di attenzione a un detenuto che era non si capiva se era semi infartuato comunque che era steso per terra nella stanza alle 8 di sera i compagni della sezione che erano due stanze davanti che vedevano quest'uomo per terra e non vedevano un'efficace risposta da parte della gente che era di sorveglianza in sezione con le brande hanno scassato hanno divelto le porte i cancelli e poi insomma c'è stata una situazione poco simpatica ma potremmo citarne tanti di questi episodi e l'emergenza sanitaria è quella soprattutto che crea un collante negativo fra le persone che stanno in carcere potremmo ricollegarci per esempio anche qui c'è una fetta di genesi di quello che è successo a marzo 2020 quando il problema non di due stanze ma di centinaia e centinaia di tenuti è stato proprio quello di ritrovarsi trovare un collante comune in quella che era la paura la paura maledetta di passare un guaio di stare male poi c'erano altre considerazioni vabbè ma insomma un convegno su quello che è successo in marzo 2020 lo facciamo un'altra volta e allora la difficoltà di coniugare i linguaggi i linguaggi però vanno messi insieme il linguaggio della magistratura magistratura giudicante e magistratura di sorveglianza il linguaggio dei politici il linguaggio nostro come amministrazione penitenziaria che cosa vogliamo essere nel prossimo futuro che è un prossimo futuro che non vedo ovviamente molto facile ma questo non ci deve fare demordere che cosa viene società politica abbiamo detto che cosa viene anche dalla società civile Stefano per esempio citava prima l'osservazione del procuratore Salvi che ha sottolineato secondo lui legittimo che il nostro paese deve avere la collocazione per almeno 70.000 persone in carcere devo dire che anche il procuratore Salvi però è lo stesso operatore che nella sua posizione di attuale procuratore generale corte cassazione nell'aprile 2020 quindi eravamo ancora dentro il lockdown fece un'importante circolare indirizzata a tutta la magistratura per quanto riguardava un uso importante delle scarcerazioni proprio per deflazionare gli istituti visto quello che stavamo vivendo quindi un'attenzione particolare a un mondo molto importante mi è capitato anche di recente di sottolinearlo che è quello della fase pre esecuzione degli ordi cosiddetti ordi di accelerazione prima cioè che si debba ricondurre una persona che deve scontare una condanna o un rossiduto di pena che la si debba ricondurre in carcere nel nostro paese su questo c'è e questo è un pezzetto del ragionamento che facevi tu Franco nel nostro paese su questo non c'è una sufficiente attenzione dalle varie agenzie e questo spiega come mi è capitato di raccontarlo altre volte come ti può capitare magari che una persona che deve scontare sette giorni questo accadde nel periodo del lockdown sette giorni di carcerazione viene assegnato al carcere di Regina Celi non è riuscito neanche a finire il periodo di quarantena perché poi è stato scarcerato è proprio necessario far fare sette giorni ma io potrei dire anche di più un mese due mesi soprattutto in un periodo di emergenza sociale non si può andare a verificare qual è la storia della persona che deve scontare un residuo di carcerazione perché se quella persona magari nel frattempo che lo vado a riacchiappare a casa quella persona nel frattempo ha un passato di dieci anni fuori dal carcere una famiglia regolare un lavoro un'occupazione eccetera una qualche domanda sul senso della sua nuova carcerazione ce lo dovremmo fare questo nel nostro paese non accade perché ognuno va per conto suo la propria repubblica se gli chiedete questo vi dirà ma io devo mettere l'ordine di carcerazione la forza di polizia vi dirà ma io devo eseguire l'ordine di carcerazione dopodiché il problema si pone quando lo porti in carcere allora ti scopri la possibilità che puoi cercare di mandarlo fuori di dargli qualche misura e tutto il resto ora io non mi faccio illusioni quindi nemmeno io sul fatto che condivido con Stefano e con tante altre persone il fatto che noi dobbiamo veramente fare una cura di deflazione veramente dimagrante delle presenze in carcere anche perché lo sottolineo all'attenzione di tutti tranne Di Marcetti e Scarcella che insomma sono sono architetti quindi le sanno queste cose che il sovraffollamento così come viene snocciolato in questi tempi è un grande inganno perché se si dice che in carcere in Italia il sovraffollamento è del 120-130% in realtà non è così perché se vai nella sezione per collaboratori di giustizia il sovraffollamento è del 70% devono stare separati se vai nella sezione alta sicurezza appunto se vai nella sezione alta sicurezza magari sarà del 120% se vai nella media sicurezza di Re Bibbia di Regina Celi se vai a Udine grandi o piccoli istituti che siano il sovraffollamento sarà del 180% allora non è che ci nascondiamo dietro sta foglia di figo che c'hai un sovraffollamento in linea con l'Europa non è così il sovraffollamento è molto più serio e lo si può toccare con mano già andando nelle grandi centrali penitenziari Poggio Reale io ho lasciato la campagna come ricordavi tu alla resina di febbraio Poggio Reale in questo momento avrà più di 2200 detenuti chi sa la storia di Poggio Reale sa che può campare dignitosamente tra virgolette con 1600-1700 presenze e dove li porti gli altri 500 allora in più ecco e qui si innesta un altro discorso su cui sta lavorando la nostra amministrazione il nuovo capo del dipartimento Carlo Renoldi insieme con la ministra è ritornato sta ritornando adesso sulla questione dei circuiti penitenziari perché ogni circuito evidentemente ha una sua storia è un tema nazionale quindi interessa a tutti interessa sicuramente anche i nostri amici friulani io personalmente ho manifestato qualche riserva più di una riserva nei ragionamenti che abbiamo fatto in queste ultime settimane sulla questione dei circuiti penitenziari perché francamente mi preoccupa molto la superfetazione di circuiti penitenziari perché questo rischio c'è noi veniamo da una stagione in cui un po' un po' alla rinfusa parlo della stagione del 2013-2014 si è aperto si è puntato di più alle sezioni a custodia aperta in un modo diciamo con le stanze aperte ecco perché parlare di custodia aperta a San Vittorio a Regina Celi dove oltre al corridoio cortile di passeggio c'è poco altro non ha senso bene noi vogliamo adesso rispondere a un problema che è molto serio cioè quello di un innalzamento dei rischi sulla sicurezza ma anche sulla necessità di migliorare il trattamento interno vogliamo rispondere con un aumento con una sminiaturizzazione dei circuiti penitenziari credo che invece sia e i rischi ci sono ci accennavamo ci sono detti una battuta stamattina col presidente Pavarin i rischi ci sono di aumentare i circuiti penitenziari perché a quel punto si lancia un messaggio non efficace il messaggio che noi dobbiamo lanciare a chi sta all'interno del carcere è che una vita normale una sorta di pacificazione all'interno degli istituti quello che in buona parte avvenne dopo l'86 con la legge Guzzini una sorta di pacificazione chiedere alle persone di non adesso necessariamente di cambiare vita ma di fare una detenzione normale deve essere difesa è un valore se non c'è questo inevitabilmente ma devono essere situazioni eccezionali le persone più problematiche devono essere separate e qui entra il gioco il discorso che accendeva Franco Corleone cioè aumentano i detenuti in questi ultimi anni per svariate ragioni ma su cui non mi voglio attardare aumentano i detenuti che hanno che manifestano i addetti ai lavori direbbero disturbo antisociale di personalità disagio psichico insomma non sono magari soggetti di importante disagio psichico ma sono soggetti che comunque hanno una forte pericolosità come la chiamiamo noi penitenziaria non sociale cioè veramente uno che dal punto di vista della pericolosità sociale all'esterno esprime poco molto poco ma quando in carcere è quello che ti sfascia i servizi igienici ti sfascia ti si barrica nella stanza aggredisce gli altri compagni aggredisce il personale andando avanti di questo passo qui è la vaterlò del sistema io non credo che se siano accadute determinate cose soprattutto in questi ultimi anni che sono state sottolineate dall'autorità giudiziaria giustamente e dalle varie agenzie se sono accadute alcune cose mi riferisco a Torino mi riferisco a San Gimignano mi riferisco ovviamente a Santa Maria Capoetere se accade questo è perché il livello della conflittualità è aumentato e rischia di aumentare costantemente detto questo non sarò io ovviamente quello che dirà che giustifico quello che è accaduto perché a fronte di quello che è accaduto di nefasto di squallido ci sono i comportamenti di migliaia di persone che ogni giorno si danno dieci pizzichi sulla pancia come mi diceva la direttrice di Secondigliano qualche tempo fa che hanno la pazienza di fare mediazione di fare moral suasion di fare in modo che le situazioni non degenerino ecco noi dobbiamo aiutare questi operatori altrimenti tutte le cose importanti fondamentali che sono state dette per esempio nella rassegna dei nostri amici nella seconda parte della mattinata non si possono fare se in un carcere anche come Udine noi loro c'hanno dico Udine ma vi potrei dire anche uno non Udine a Ribibbia a nuovo complesso tu ti ricordi di una persona su cui tu e il sempre ben ricordato Sandro Margara mi facesti l'ascito a Ribibbia nel 2010 era un detenuto non bisogna dire i nomi giustamente ma è molto noto è lui è lui è una persona che anche Antonietto lo conosce molto bene una persona in un carcere che aveva 1800 detenuti era il problema tutti i giorni posso immaginare se una persona con certi problemi si barica nella stanza aggredisce questa e quell'altra sface tutto anche in un carcere di 50 detenuti è il problemone a voglia di dire puoi fare trattamento quando il personale tra l'altro è sempre meno brevemente ma voglio anche cercare di dare un contributo alla Costituzione cosa facevi tu prima all'interno dei lavori della Commissione della Commissione Cartabbia in cui c'erano varie componenti c'eravamo alcuni penitenziaristi cioè il bene e poi c'era il male cioè questi garantisti che era una cosa impossibile poi c'era anche una componente diciamo di mediazione che cercava insomma di accordare la chitarra però sono uscite non è un caso che delle cose molto interessanti ecco lì non abbiamo fatto non siamo andati ciascuno per conto nostro io credo che il lavoro una cosa molto bella di questa esperienza di alcuni mesi è stato il fatto che linguaggi più o meno diversi ma poi non tanto ovviamente e si siano molto confrontate proprio su questi due temi Antonello lo ricorderà uno era l'uso della forza l'uso dei mezzi di coercizione chi lo dispone quando e in che misura entra l'intervento del servizio sanitario su questa attività e l'altro aspetto era proprio quello della collocazione dei circuiti essere separato entrare in un circuito tra virgolette differenziato senza ricreare i vecchi circuiti e i v di famigerata memoria che cosa può comportare ecco il fatto che abbiamo trovato come dire una mediazione su quell'ambito significa che insomma anche sensibilità diverse possono essere messe insieme la commissione ecco sì anche perché manca farla apposta sulla parte diciamo di innovazione tecnologica anche se la mia comprensione è molto bassa ho imparato la funzione in via ricevi sulla posta elettronica da due settimane quindi non è che devo fare passaggi però sull'innovazione tecnologica abbiamo molto ragionato perché in effetti il mandato che dava la ministra Cartabia era innoviamo il sistema vediamo cosa si può fare ora magari senza abbiamo fatto anche sono state fatte delle importanti e meno importanti proposte di modifiche legislative e regolamentare però che cosa si può fare ora e su questo ancora tuttora si sta si sta lavorando ecco allora anche attraverso tecnologie non complicatissime si possono fare due cose importanti di cui il sistema penitenziario ha bisogno uno semplificare le procedure e quindi semplificare la vita della persona vi ricordate di quando la commissione Palma nel 2013 ha dovuto sottolineare che in tutti gli istituti penitenziari ci devono essere i telefoni con la scheda prepagata a Rebibbia ce l'avevamo già dal 2003 qualcuno avrebbe potuto spiegare per quale motivo questo sistema si attuò solo in pochi istituti e ci sono potuti dieci anni per farlo diventare verbo nazionale ma vabbè ma questa è un'altra storia però anche con poche spese si possono fare innovazioni importanti noi per esempio Antonella lo ricorderà anche lì ci vuole una piccola modifica legislativa ma anche regolamentare per esempio noi non parliamo di telefonate dei detenuti un tot di telefonate al mese noi abbiamo parlato anche della possibilità di fare anche uno spazio temporale di 5-10 minuti al giorno di telefonare perché per la sicurezza degli istituti per il bene del paese non è un valore che una persona possa telefonare quando gli avvene solo una volta a settimana ma per me puoi telefonare anche tutti i giorni poi vediamo di dislocare la cosa però e si può fare per esempio anche con apparecchi con telefoni cellulari adeguati a questo scopo che hanno soltanto questa funzione ma sulle movimentazioni si può fare molto chi conosce il carcere di Rebibbia non complesso sa per esempio che tutti i detenuti media sicurezza quindi parliamo l'85% della popolazione detenziale di quel carcere quando dicevo io su 1800 detenuti quindi parliamo di circa 1550 persone si muovono tranne quelli che hanno problemi di sicurezza particolari quasi zero si muovono per uscire dalla sezione e raggiungere i vari servizi scuole area verde colloqui infermeria colloqui avvocati e magistrati ci vanno da soli con un bel cartellino con un codice a barre foto numero di matricola il colore della zona a cui sono destinati eccetera questo grande intervento si fa per dire epocale che è in vigore dall'aprile del 2010 costò se non vado errato tutto compreso 6.000 euro perché non hai neanche oggi con le intelligenze che ci sono sparse nei nostri ambienti di lavoro soprattutto ci sono giovani che hanno confidenza con i sistemi informatici lo fai anche con poco ma potremmo parlare per esempio anche di altre cose come l'accelerazione dell'operazione tu accennavi questo anche dell'operazione per l'acquisto dei generi di sopravvitto su questo si ritorna di nuovo bisogna essere però più concreti e di nuovo le agenzie si devono parlare insieme per esempio su questo purtroppo e mi preoccupa la cosa continuo a preoccuparmi e purtroppo questo è stato dall'amministrazione finanziaria passato armi e bagagli come competenza alla Digisia la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati quando io sento Digisia mi viene una cosa qua perché ora io mi auguro che no scusate io sono franco io mi auguro che il nuovo direttore generale della Digisia che so essere molto dinamico e viene dal mondo del privato abbia la capacità di intercettare questi problemi però non è possibile che per riuscire a gestire il sopravvitto in via digitale il sistema non dà l'autorizzazione a collegarsi direttamente dal carcere con le imprese di mantenimento non è possibile non pare che sia un mantra che non si può toccare così come rispetto alla questione l'ha evocata Stefano importantissima dei collegamenti dei videocolloqui sia per la DAD sia per i colloqui con i familiari registro che purtroppo siamo indietro invece dobbiamo fare di più perché però se per fare i videocolloqui in modo performante pensate per esempio a un carcere come Sulmona dove sono tutti alta sicurezza e non sono di Sulmona ma sono di tutto il meridione e si fanno 70 colloqui a settimana in presenza niente se ne fanno c'è l'esigenza di farne 70 al giorno a distanza allora è chiaro che io devo avere una sala videocolloqui performante può garantirci questo un sistema la linea dati della pubblica amministrazione o forse dobbiamo puntare di più a una linea dati separata con tutte le accortezze necessarie per fare in modo che riesco a fare in modo che il carcere del futuro sia soprattutto questo e allora questi sono temi sul tappeto e sono tante cose sono a portata di mano io credo che siano più che fattibili e credo che su questo c'è un grande alleato che è il personale penitenziario perché la gente che sta lavorando negli istituti a tutti i livelli direttori poliziotti penitenziari educatori contabili tutti avvertono una fatica che 23 anni fa era appena percepita e che oggi è enorme c'è bisogno di semplificare perché se no qui di trattamento non ne parleremo mai più e parleremo sempre più di problemi di sicurezza di disagio psichico o di maltrattamento o di maltrattamento grazie a Carmelo Cantone scusate per ragioni di logistiche l'avvocato Conte deve poi allontanarsi per un impegno personale triste e quindi gli chiederei un intervento proprio un saluto di 5 minuti lui doveva parlare del libro di Margara però se interviene in questo momento e poi Antonella Calcaterra qui 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 e mettetemi qualcuno vicino hai letto il libro? l'ho letto l'ho letto per fortuna si trovi in effetti su internet lo trovi completamente e quindi hai la possibilità effettivamente di leggerlo ed è veramente un bel libro scusate se intervengo in questo momento ma purtroppo ho un purtroppo un funerale diciamo purtroppo a cui non posso e non voglio mancare abbiamo abbiamo sentito tante cose una cosa che si può dire l'umanità l'umanità sono andato a guardare così lo faccio prima di ogni di ogni evento in cui si parla di carcere sono andato a guardarmi sul sito ristretti qual è la situazione dei decessi nei carceri ad oggi proprio in Italia e siamo sul livello degli anni scorsi non è mutato assolutamente niente adesso siamo dopo cinque mesi sono morte 56 persone di cui 26 suicidi quindi siamo nei limiti degli anni scorsi arriveremo sulle 120 130 morti di cui 56 60 suicidi ecco quindi non quest'anno non è cambiato nulla siamo sempre nella stessa medesima identica situazione io ho un segnale positivo un segnale positivo un segnale positivo un'altra volta Franco mi ha detto se sei sempre così pessimista non ti faccio più parlare e ha ragione allora ho cercato di trovare qualcosa di positivo ecco che ci dia un segnale di speranza ed è un piccolo segnale però secondo me è un segnale importante un segnale importante perché probabilmente la riforma Cartabia per la prima volta da alcuni anni a questa parte dimostra un'inversione di tendenza è un'inversione di tendenza da un certo punto di vista furba perché tende a risolvere il problema della giustizia dei tempi della giustizia offrendo scappatoie però introduce per esempio come si diceva prima le pene sostitutive semilibertà detenzione domiciliare per condanne fino a 4 anni aumenta la MAP fino a 6 anni e soprattutto ne aumenta anche il minimo cioè dice per reati che siano puniti anche nel minimo fino a 2 anni quindi c'è un aumento notevole aumenta i casi di la tenuità del fatto cioè cerca in qualche modo di anticipare la fase dell'esecuzione cercare di deflazionare un po' la fase dell'esecuzione il discorso che faceva giustamente che fa giustamente Malgara è il sistema giudiziario italiano oggi è preparato ad affrontare questa sfida ovvero sia io ieri sera ne ho parlato eravamo a cena con il professor Spanger Scella Amati e dico ma voi ce lo vedete un magistrato italiano che deve condannare una persona a 4 anni e gli dà la detenzione domiciliare o la semilibertà ma voi ce lo vedete io sinceramente no anche perché giustamente diceva Franco come fai ad effettuare una valutazione prognostica quindi di meritevolezza di un di un trattamento fino a 4 anni e quindi di una pena alternativa fino a 4 anni senza sapere chi hai di fronte giudicando solo il reato perché il magistrato del merito giudica il reato il magistrato di sorveglianza giudica l'uomo la persona e come fai? pare che si stia tentando di introdurre una cesura fra la fase della della responsabilità cioè decido che tu sei colpevole io decido che tu sei innocente e una volta che si è decisa la fase della della colpevolezza si farà una successiva udienza pare che questa sia l'idea dei legislatori si farà una successiva udienza a quello che negli Stati Uniti chiamano i sentencing in cui la giuria decide e poi il giudice in una successiva udienza stabilisce qual è la pena che viene applicata al soggetto condannato e pare che si voglia appunto sdoppiare la fase dell'accertamento della responsabilità con quella dell'irrogazione della pena e però questo richiederebbe richiederebbe ovviamente una valutazione approfondita del soggetto che hai di fronte cioè non è che sei tu ti riguardi le carte te le rileggi bene una settimana dopo hai ben presente chi hai di fronte e quindi puoi irrogarli con contezza una pena alternativa non è così ovviamente quindi ci dovrebbe prevedere che i servizi sociali l'UEPE facciano una valutazione della persona del suo passato del suo soggetto più o meno come si dovrebbe fare in un'udienza e si fa oggi in un'udienza di sorveglianza ma questo è compatibile con il sistema che abbiamo oggi per esempio c'è una bellissima descrizione la dottoressa Fiorillo di quello che dovrebbe essere il magistrato di sorveglianza splendida condivido tutto quello che c'è scritto ma è così non è così io voi lo sapete i colleghi del Lazio hanno protestato contro il tribunale di sorveglianza di Roma perché non solo perché è un disastro come procedure come situazione ma anche perché ed è stato riconosciuto anche da alcuni magistrati c'è una valutazione burocratica del soggetto che viene portato davanti al tribunale di sorveglianza non c'è una valutazione umana una valutazione prognostica comprensiva di tutti quanti i pareri ma viene fatta una valutazione un po' burocratica che ovviamente conduce alla reiezione della misura e allora anche queste aperture sono estremamente importanti perché per la prima volta da anni ci si rende conto che il carcere non può essere più la soluzione finale che il carcere non è più la risorsa elettiva ai problemi del diritto penale questo è il primo segno da un po' di tempo a questa parte che ci si è resi conto che non si può più valutare il carcere come rivalsa sociale che non si può più parlare di certezza la pena come certezza del carcere perché la situazione sta diventando rapidamente ingestibile e del resto se abbiamo il 30% dei detenuti che sono in attesa di giudizio che è una media superiore a meno di 10 punti percentuali a quello che succede nel resto d'Europa se dei detenuti il 32-33% è legato a problemi di droga quando negli altri paesi questa media scende al 21-22 è evidente che c'è un problema endemico patologico della giustizia che non può essere risolto solo nella fase dell'esecuzione ma che deve essere in qualche modo anticipato con quest'idea che ha avuto la professoressa Cartabia che è una che in materia di esecuzione penale ne capisce per essere molto sinceri viste le sentenze che ha reso al suo tempo quindi io mi scuso per per dover andare via però ecco la speranza è che si sia finalmente cominciati a rendersi conto che non si può abbandonare il destino del condannato semplicemente alla fase di esecuzione ma bisogna cominciare a pensarci prima il problema è formare la magistratura del merito formare la magistratura del merito a una rivoluzione copernicana a non giudicare più solamente il reato ma a valutare soprattutto la persona che si viene ritenuta colpevole questa è una grande sfida io mi auguro che i magistrati la vincano posso essere un po' pessimista ma spero sempre che di essere smentito scusate grazie grazie a voi grazie Antonella Calcaterra parte in causa e mi affido al tempo che saprai gestire dieci minuti ma vedi tu no anche qui allora tanto grazie grazie dell'invito sì sono stata un po' chiamata in causa perché quest'ultimo intervento un po' si interroga su quelli che saranno gli esiti di questa commissione esiti che non posso anticipare nella loro interezza perché i lavori non sono ancora stati depositati però io che poi sono anche un po' un inguaribile ottimista e se no diversamente non avrei dedicato tanto tempo e energie in tutti questi lavori di commissione che mi hanno impegnata perché ho avuto l'onore di partecipare alla commissione penitenziaria ma anche alla commissione di riforma va bene così anche alla commissione per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo per l'attuazione della legge 134 per la riforma del sistema sanzionatorio e dicevo appunto che sono un inguaribile ottimismo le riforme possibili che oggi diciamo dobbiamo tornando un po' al titolo sono ipotizzabili sono queste è un sistema che prevede un'anticipazione delle sanzioni sostitutive che chiamerò pene sostitutive una possibile quindi riduzione del serbatoio dei liberi sospesi che è un problema enorme questo soprattutto per chi vive in realtà come la mia milanese che abbiamo dei numeri tragici conseguente riduzione delle pendenze davanti ai tribunali di sorveglianza riduzione a questo punto anche dei numeri all'interno delle carceri e la possibilità di avere accesso a trattamenti più dignitosi e hanno una pena in esecuzione con maggiore dignità le risorse dell'UEPE stanno per avere un maggiore incremento e questo potrebbe garantire una messa a regime di un sistema appunto differente e quindi questo è un po' il quadro che si potrebbe ipotizzare sperare queste sono le riforme possibili all'esito dei lavori delle due commissioni dopodiché tra quello che è possibile davvero realizzare e quello che è l'esito di questi lavori io questo non so dirlo però certo che se devo avere un quadro di restituzione da una parte si sta lavorando per dare la possibilità di un'anticipazione di risposta sanzionatoria in una logica di maggiore immediatezza di risposta e guardate questo è un problema perché io lo dico e lo ripeto non è vero che la gente le persone si vogliono sottrarre le loro responsabilità le persone chiedono per lo più di poter espiare il loro debito nei confronti dello Stato in maniera dignitosa e in maniera ragionevolmente vicina alla commissione del reato perché tutto questo ha senso e tutto questo è comprensibile laddove invece le pene a me capita di accompagnare persone a costituirsi a 8 10 12 anni dalla commissione dei reati si fa fatica a capirne il senso quindi da un lato un'anticipazione della risposta sanzionatoria in una logica di maggiore immediatezza anche di riparazione di quella frattura che si crea tra le persone e lo Stato perché ogni reato in fondo è una frattura che si crea e dall'altra parte nella commissione penitenziaria si è cercato di fare in modo che che venga restituita dignità non solo alle persone che devono espiare la pena ma anche a tutti gli operatori penitenziari che devono operare all'interno delle carceri un termine che ricorre molto spesso nella relazione conclusiva dei lavori penitenziari della commissione ruotolo è il termine decenza decenza di assicurare una decenza da tutti i punti di vista e allora quello che gli interventi che sono stati abbiamo cercato di fare nella commissione penitenziaria sono riassunti nella relazione che è lunga 236 pagine e sono sottodivisi in vari argomenti in vari interventi e sono interventi che sono stati fatti sia per lo più sul regolamento di esecuzione penitenziaria quindi anche facilmente trasformabili molto più che quelli che vengono fatti sull'ordinamento penitenziario che peraltro sono pochissimi ci sono molte indicazioni di azioni amministrative accolgo con favore dal risconto dal quanto riferito dal provveditore cantone che qualcosa si sta muovendo ed è una buona speranza in questo senso come dicevo invece l'altra commissione sta lavorando in questo senso anticipazione noi ci siamo ritrovati a lavorare con delle indicazioni che all'inizio erano molto accattivanti e molto più dire apprezzabili nel senso che all'inizio la commissione Lattanzi aveva restituito la possibile come ipotesi la possibilità per il giudice di cognizione di applicare l'affidamento in prova al servizio sociale nel passaggio che c'è stato in Parlamento come sapete è stato perso quel pezzo quindi oggi le sanzioni sostitutive che sono applicabili dal giudice tra le sanzioni non c'è più l'affidamento in prova al servizio sociale ma restano soltanto la semilibertà e la detenzione domiciliare i lavori di pubblica utilità e la pena pecuniaria voi capite che questa è stata una limitazione pesante perché il rischio è quello di creare ci si sta lavorando intorno un sistema che abbia che crei una disparità di trattamento perché il giudice di cognizione all'esito del processo alla persona che non ritiene meritevole di una pena sostitutiva e quindi diciamo rispetto alla quale non può fare quella valutazione prognostica favorevoli di rieducazione applica la pena detentiva la pena detentiva può essere sospesa sarà sospendibile nella maggior parte dei casi col meccanismo del 656 del codice di procedura penale la persona potrà continuare a domandare la misura più ampia dell'affidamento in prova al servizio sociale al tribunale di sorveglianza e probabilmente a distanza di anni espiare quella pena detentiva in misura alternativa più ampia quella dell'affidamento in prova il giudice di cognizione invece quando ritiene una persona meritevole di una sanzione sostitutiva perché rispetto a questa persona può fare una valutazione di rieducazione favorevole applica che cosa non può che applicare la semilibertà e la detenzione domiciliare o i lavori di pubblica utilità voi capite che non è un problema di poco conto questo riuscire a far girare un sistema e non creare un sistema che abbia una disparità di trattamento ci abbiamo lavorato intorno gli esiti di questo lavoro saranno presto resi noti certo è che ovviamente si è cercato di lavorare nel senso per rendere più appetibile possibile più diverse dalle gemelle misure di detenzione domiciliare di semilibertà che sono previste per l'ordinamento penitenziario e quelle applicabili da parte del giudice di conizione che avrà tutti gli strumenti per poter fare una valutazione anticipatoria che ovviamente non può essere nella fase processuale perché si creerebbe anche il problema dell'anticipazione di giudizio rispetto alla persona che ha davanti certo la sfida è enorme perché il giudice di conizione deve imparare a valutare l'umano cosa che non ha mai fatto o perlomeno pochissimi sanno fare allora certo bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo quando è entrata in vigore la messa alla prova qualche anno fa nessuno ci avrebbe scommesso oggi i numeri della messa alla prova sono numeri enormi gli esiti di questi procedimenti alternativi sono esiti favorevoli perché anche le restituzioni in termini diciamo da parte della società sono molto apprezzabili quindi come si è visto quello che sembra irrealizzabile al momento delle entrate in vigore di soluzioni diverse poi strada facendo diventa invece sono invece percorsi apprezzabili la speranza è che questo accada anche con le sanzioni sostitutive il giudice di condizione potrà applicare la sanzione sostitutiva della semilibertà e della detenzione domiciliare per pene fino a 4 anni per pene fino a 3 anni i lavori di pubblica utilità declinando la disciplina della disciplina del giudice di pace e poi c'è anche la pena pecuniaria con ovviamente parametri differenti rispetto a quelli odierni perché la pena pecuniaria per come è è praticamente inaccessibile quindi diciamo che è chiaro che si tratta di sanzioni sostanzialmente paradetentive che però la speranza che si riescano perché la semilibertà vuol dire costringere una persona a dormire in istituto magari spesso a distanza di chilometri dall'abitazione dove si trova la detenzione domiciliare è conosciuta oggi come una misura sostanzialmente vuota la speranza è che invece queste misure vengano diciamo restituite in maniera differenti e riempite con contenuti in maniera differente quindi questa è l'avvio di una possibile riforma che forse questa ha più speranza di passare necessariamente avendo come dire l'Europa che ci domanda una riforma necessaria non solo sulle sanzioni non tanto sulle sanzioni ma su tutto il resto del processo penale però io in qualche modo voglio essere fiduciosa tra l'altro la messa alla prova viene innalzata anche rispetto a reati che si possono prestare a percorsi riparativi e riparatori e di di sostituzione anche con reati con pene fino a sei anni quindi diciamo un ampliamento importante frattanto e credo a questo punto di dover chiudere noi restiamo con i nostri problemi noi restiamo con la nostra quotidianità io non mi avventuro in quelle che sono le problematiche perché Franco qui tu hai accennato il problema che ci gestione all'interno delle carceri dei detenuti con problematiche diciamo sociali e psichiatriche perché questo è la quotidianità che però posso dire abbiamo gli strumenti per poterlo affrontare non bisogna per se per se questo lo sappiamo ora è arrivato pure l'Europa a mettere un faro grosso così quindi che si facciano i passi che debbano essere fatti e soprattutto in questo senso se posso dire va sollecitata per dove è possibile perché mi rendo conto che le risorse sono praticamente molto ridotte anche lì la sanità che per noi è un compagno necessario di percorso rispetto a questi percorsi che devono dovrebbero essere offerti a persone che all'interno delle carceri non dovrebbero starci vi ringrazio grazie come abbiamo percepito bolle in pentola una quantità di possibili provvedimenti che richiederanno riflessione ragionamenti perché sono questioni che in effetti possono cambiare molte cose io chiederei adesso tre interventi mi rendo conto insomma di testimonianza anche perché poi la stanchezza si accentua quindi al professor Pittaro di venire come garante regionale no state state ancora state non mi lasciate solo non voglio rivelare un segreto ma io con altre due persone che si occupano del carcere da tempo abbiamo presentato una lettera riservata a Carlo Renoldi con una serie di proposte che nascono dal lavoro di Antigone dal lavoro della conferenza dei garanti territoriali che toccano tutte le cose che sono urgenti per dare dei segni di ritorno a prima del covid e per immaginare un carcere appunto legato alla Costituzione noi ci auguriamo che ci sia uno studio sulla possibilità di affrontare riforme regolamentari il regolamento è del 2000 in molte parti è ancora non applicato quindi chiediamo l'applicazione del regolamento per quello che non è stato applicato in 22 anni e alcune modifiche necessarie chiediamo certo c'è questa questione dei circuiti delle sezioni o istituti dimittendi abbiamo posto il problema della vita comunitaria la questione della gestione delle richieste non più delle domandine però mi pare che nella commissione a ruotolo c'è l'idea di un come si chiama un totem in cui i detenuti possano fare la loro domanda e ricevere una ricevuta quindi sanno che hanno fatto una domanda e c'è la ricevuta il problema del sopravvitto i colloqui col 15 giugno dovrebbero cadere i plexiglass e quindi come ci si attrezza ai contenuti eccetera l'accesso a internet c'è il problema dell'indennità di disoccupazione i contratti di lavoro c'è la questione delle sezioni femminili le detenute madri le ricompense la sanità i servizi salute mentale in carcere il problema del rifiuto della contenzione suicidi autolesionismo insomma le cose sono tante c'è la commissione ruotolo ha fatto un quadro dei tre livelli noi ci aspettiamo che qualcosa accada rapidamente perché bisogna rispondere a queste necessità diceva Stefano Anastasia tutte le categorie hanno avuto ristori per il covid l'unica che non ha ricevuto un ristoro sono i detenuti o anche il personale che ha lavorato e che non ha avuto neppure una medaglietta non so ecco quindi questo è il punto in cui ci troviamo per rispettare un po' i tempi io chiedo appunto ai tre interlocutori professor Pittaro Anzallo e Santin di fare degli interventi e poi per il dossier che prepareremo ci potranno anche dare dei testi scritti che faranno parte di questo documento di indirizzo grazie come garante regionale io ho apprezzato interessato moltissimo intanzitutto l'incontro di questa mattina per quanto riguarda la ristrutturazione del carcere di Udine ovviamente dal mio punto di vista non posso dimenticare che i carceri sono cinque nella regione e ci sono ulteriori o anche diverse esigenze in questo momento non voglio soffermarmi ma cito quello di Trieste che sta in centro della città vecchissima nel 1902 eccetera proprio nel centro attaccato al tribunale e lo sappiamo tutti l'altra è Pordenone che è una rocca del 1200 che si parla non da anni ma da decenni di chiudere ed è lì anche nei giorni scorsi pare che qualcosa si muova non lo so ma chiudendo questa doverosa diciamo così licenza permettetemi rispetto a quello che si è detto stamane e per quanto diceva da par suo Stefano Anastasia che ha ricordato l'incontro che abbiamo avuto a marzo con la Ministra sono tutti i garanti e giustamente Stefano mette in luce due problemi emergenze di giustizia che ha chiamato da un lato da che sorte fanno i semilibe dopo il 31 di dicembre e dall'altra parte anche tu l'hai citato adesso il ristoro diciamo così da dare detenuti con la liberazione anticipata speciale proprio non come un provvedimento benigno ma proprio perché hanno avuto un'afflizione maggiore durante la chiusura evidentemente del Covid quindi non posso che come tutti i garanti che farmi io sottolineare ancora una volta tutto questo personalmente penso che forse si arriverà a una soluzione per i semiliberi sono molto più preoccupato per la liberazione anticipata ecco bene permettetemi di fare un'ulteriore riflessione per i semiliberi si parla di quelli che hanno usufruito di questa possibilità di stare fuori dal carcere ma non si potrebbe invece contemporaneamente pensare a un allargamento di questa possibilità per tutti i semiliberi a meno che non ci siano delle ragioni specifiche forti perché noi adesso parlavamo con la direttrice Paolini e la comandante a Udine ci sono 11 semiliberi che non sono pochi rispetto si tornano a dormire tranne due tornano a dormire in istituto se il problema è che non c'è posto per altri per dormire in istituto e quindi l'idea magari di avere qualche altro semilibero provvedimento di semilibertà si scontra con questo è uno dei problemi posti sul tappeto che necessita di una risposta politica evidentemente ecco perché io penso che forse su questo troveremo una soluzione per la liberazione anticipata sarà molto più difficile ma poi permetto non voglio deluderti Corleone vorrei fare una riflessione ahimè da vecchio professore di diritto penale e prendo lo spunto da quello che ha detto diciamo il quesito che ha lanciato Stefano Anatasia da par suo quando dice che carcere vogliamo quella distinzione che poi ha fatto eccetera io mi permetto di dire che diritto penale noi vogliamo non sembra un gioco di parole o qualcosa di banale perché se noi pensiamo sia la stessa cosa in fondo gira e gira la stessa cosa noi finiamo altro che identificare il diritto penale con il carcere ma il diritto penale non è così o non dovrebbe essere così e questo non solamente a livello costituzionale ma lo sappiamo il 27 qui si è scritto mille cose parla di pena al plurale quindi non solo la pena carceraria e la cartabia prima cosa che ha detto quando è entrata nelle sue funzioni ha detto esiste la certezza del diritto la certezza della pena ma non la certezza del carcere questo sicuramente quindi questo lo sappiamo ma che quindi le pene possano essere diverse dal carcere lo troviamo non solamente dal 27 nel momento di interpretare la parola pene ma lo troviamo anche altrove forse si pensa poco è una mia mania pensiamo all'articolo 25 l'articolo 25 mi dice nessuno può essere punito non sono in forza eccetera c'è la parola punito e per molto tempo si è pensato che il punito si riferisse evidentemente al diritto penale e poi sappiamo in base alla dottrina che le sentenze della Corte Costituzionale non è così è riferito al diritto punitivo quindi anche quello amministrativo e non quello diciamo delle sanzioni derivate da depenalizzazione ma anche quelle che aborigine erano amministrative allora il concetto di pena di punizione non si identifica con il diritto penale questo è importante potrei fare anche un salto ma non voglio rubarvi altro tempo anche sulla diciamo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che quando c'è la punizione eccetera mi dice non mi importa niente come la chiamate o che ramo di diritto faccia parte se c'è un'afflittività valgono le garanzie indipendentemente dall'etichetta faccio un passo avanti sembrerebbe quasi provocatorio uno si domanda ma quali sono le sanzioni le pene del diritto penale uno dice beh facile dico 17 reclusione arresto multa ammenda ergastol e io posso dirvi è corretto ma non è del tutto esatto perché noi abbiamo nella competenza penale del giudice di pace abbiamo la permanenza in casa doviciliare il lavoro di pubblica utilità e queste nel sottosistema del diritto penale davanti al giudice di pace sono sanzioni principali allora dobbiamo integrare da questo profilo l'articolo 17 tant'è vero che quando si è fatta la relazione se leggiamo la relazione per il giudice di pace si diceva abbiamo creato un sottosistema molto pregevole quella relazione si è creato un sottosistema ad experimentum diceva perché non ci sono solamente queste nuove sanzioni diverse ma c'è anche il fatto di lieventità ad esempio c'è anche la riparazione il risarcimento del danno e dice forse potremmo portarle non è successo se no in minima parte nel diritto penale cosiddetto ordinario allora mi riferisco allora anche quello che ha detto avvocato Cacaterra quando si fa la riforma del sistema sanzionatorio allora le misure alternative possiamo dire che vengono irrogate direttamente dal giudice della cognizione ma allora io dico non chiamiamole più alternative non sono un surrogato del carcere non è più carcerocentrico il sistema sono delle sanzioni penali vere e proprie allora vorrei concludere con una citazione illustre permettetevi una citazione di un illustrissimo collega non solo professore ma poi stato ministro ed è stato anche presidente di corte costituzionale e Giovanni Maria Flick e mi piace citarlo oggi perché poi sei lui che ha nominato Margaret lo ricordate a capo del DAP poi verranno presentati i suoi scritti cosa dice Flick e anche nell'intervista recenti lui dice ma guardate quando è che è nato il diritto penale moderno beh il diritto penale noi sappiamo nasce dall'illuminismo evidentemente diritti delle pene beccaria tutto quello che volete è stata una rivoluzione giuridico-culturale perché perché prima avevamo le pene corporali avevamo le pene infamanti la pena di morte ma indiscriminata e poi in base all'illuminismo eccetera la libertà il bene superiore non puro pari a tutti quanti quindi l'afflizione la pena è la limitazione della libertà quindi è diventato un diritto penale carcero-centrico questo mi dice allora è Flick però conclude dicendo attenzione ma non possiamo pensare di divenire una ulteriore fa virgolette rivoluzione penale non vogliamo chiamarla rivoluzione chiamiamola evoluzione come volete voi dove però il sistema sanzionatorio appunto come si diceva prima non è il carcere o qualcosa di succedaneo abbiamo il carcere per quello che sarà limitato a quelli che possono essere i reati più gravi poi avremo beh la pena pecuniare che vale quello che vale avremo le attuali pene accessorie che certe soprattutto per la criminalità economica sono molto più efficaci ad esempio di quello che può essere una deterrenza una sanzione detentiva avremo le misure che adesso chiamiamo alternative ma saranno principali quindi eliminiamo questo attributo poi ci mettiamo anche la riparazione su cui tanto si sta parlando e l'ultimo affiancato magari anche quella che è della mediazione penale allora vedete che il sistema è veramente la via è per arrivare a un sistema molto diverso dall'attuale allora la domanda e la conclusione di Flick che faccio anche io mia non pensiamo che sia utopia questo è semplicemente una tendenza che forse ci arriveremo dobbiamo lottare per arrivarci ma soprattutto questo che da vecchio professore io ci tengo partiamo partiamo da questo principio nel voler insegnare e trattare i fondamenti del diritto penale perché è vero che la carta dice partiamo dal basso facciamo quello ti ricordi facciamo quello che si può fare certo ma non dimentichiamoci anche i massimi sistemi perché se non ragioniamo sui massimi sistemi sarà difficile poi conciliare con il resto grazie grazie come vedete la ricchezza delle questioni che si pongono in prospettiva certo noi per anni abbiamo mangiato pane e diritto penale minimo e mite in realtà abbiamo avuto cose diverse ma penso che dobbiamo riprendere certo quello che io mi domando è quello che io dicevo a Flick e continuo a chiedermi e a chiederlo ma nessun ministro o ministra della giustizia che abbia l'ambizione di cambiare il codice Rocco e intestarsi un codice repubblicano ma è possibile che la preoccupazione sia il sistema di elezione del CSM e che questo sia quello che occupa un ministro della giustizia e non invece l'idea di dire dopo 90 anni basta col codice Rocco che ci sia io avrei questa ambizione e invece mi pare che si ragiona su misure certamente che pongono dei problemi però non è il cuore non è il cuore bene andiamo avanti con gli ultimi due interventi e poi passiamo alla parte ricca di Antonietta Fiorillo e Giovanni Pavarigna Anzallo solo per dire dichiararti colpevole e dichiarare come come puoi arrivare alla soluzione spero nella semilibertà e Nando anche se non non riesco a lavorare tanto ringrazio adesso possiamo dire compiutamente che questa è stata una giornata interessantissima e porto i saluti anche del dottor Marco Bertoli che doveva essere qui ma non poteva venire e che mi ha detto di sostituirlo nella relazione per quanto riguarda appunto la salute mentale in carcere sono arrivato qui a Udine un anno fa a marzo e Bertoli sapendo che dal 2005 un po' il carcere di Pordenone dove lavoravo prima e poi col carcere di Gorizia avevamo fatto un'esperienza di costruzione di servizio di salute mentale ho detto vada facciamola pure qui perché fino ad allora c'era una consulenza psichiatrica fatta da colleghi volenterosi ma che avevano questo interesse ma non c'era un organico che si potesse occupare per cui in quest'anno ho cercato di intanto fare cultura interna perché il dipartimento è diventato grandissimo sono 10 centri di salute mentale più il diagnosi e cura quindi un dipartimento che va da Tarvisio alla Tisana e dire che i due carceri che abbiamo all'interno dell'azienda cioè quello di Udine e quello di Tolmezzo debbano avere una garanzia di salute mentale all'interno delle due postazioni ovviamente differenziate perché i due carceri sono due carceri diversi eccetera e per fare questo dobbiamo mettere in comunicazione l'interno con l'esterno che mi sembra che è il leitmotiv di oggi e quindi mettere in comunicazione quello che sono i centri di salute mentale con tutto quello che fa i centri di salute mentale con le agenzie territoriali che sono presenti sul territorio con il volontariato con l'associazionismo e quant'altro e cercare di fare quegli stessi programmi che noi facciamo nei centri di salute mentale anche nel carcere ovviamente questo è ancora un lavoro iniziale però che ci stiamo provando per cui l'operazione non è la consulenza psichiatrica in carcere ma l'operazione è portare la salute mentale in carcere e far sì che quel luogo sia un luogo del territorio quindi vissuto esattamente come i centri di salute mentale vivono il proprio territorio soltanto che un luogo non di un territorio specifico perché se no si prende via Spalato si vede qual è il centro di salute mentale a cui corrisponde e quello è il centro di salute mentale che si deve occupare no perché i cittadini poi che stanno all'interno privati della libertà provengono da tutto il territorio della provincia e quindi tutti i centri di salute mentale si deve occupare l'equip abbiamo adesso sono riuscito a costituire un 15-18 persone che fanno parte di tutte le figure psichiatri psicologi educatori assistenti sociali tecnici della ripetazione infermieri e os che il 24 giugno abbiamo appunto una riunione dipartimentale in cui diciamo l'ordine del giorno è cosa abbiamo fatto e cosa c'è ancora da fare come caratterizziamo le nostre presenze nel carcere in maniera da poter cominciare a lavorare seriamente insieme a chi? Insieme innanzitutto a quelli che sono nel carcere quindi con l'amministrazione penitenziaria con lo staff medico che è importantissimo trovare una linea come dire di congiunzione che c'è fra noi e loro con il CERT che interviene altrettanto nel carcere con tutti gli altri l'associazionismo che oggi ha presentato tutti i progetti e quindi cominciare a fare quello che facciamo ogni giorno nei centri di salute mentale o nel diagnosi e cura cioè la salute mentale questo è il nostro obiettivo dopodiché io sono ottimista perché se abbiamo chiuso i manicomi abbiamo chiuso gli OPG adesso ci avete fatto entrare in carcere speriamo di chiudere anche quello grazie grazie Anzallo Francesco Santin chiedo anche a lui una testimonianza e poi semmai una documentazione da mettere perché abbiamo già sforato il tempo grazie certo non c'è problema anzi grazie molto per l'invito sono molto contento e anche emozionato di rappresentare Antigone oggi molto molto brevemente sono parte del consiglio direttivo dell'associazione e presidente della sezione regionale Friuli Venezia Giulia quindi ancora più contento di essere qui in questo contesto e inoltre svolgo le visite come osservatore nel Triveneto in particolare nel Friuli Venezia Giulia e molto in linea con quello che è già stato detto oggi in questo bellissimo e molto ricco incontro quello che porto è una una testimonianza alcune note su le proposte dell'associazione per un rinnovo del regolamento dell'esecuzione penitenziaria a partire anzitutto da quello che è la prevenzione del rischio suicidario ad esempio pensando le sezioni nuove giunti come dei luoghi realmente di passaggio e di inclusione e di inserimento più che inclusione dentro il sistema carcerario e come dei luoghi delle sezioni che devono essere propriamente dei luoghi di passaggio che permettano alle persone detenute di capire dove sono dove sono entrate che cosa sta succedendo e di avere il tempo di abituarsi attraverso l'aiuto del personale con i colloqui ma proprio in un luogo dedicato e migliore rispetto al resto qual è la loro nuova situazione e potersi adeguare a questo un altro tema è quello degli spazi le sezioni gli istituti femminili che anche per la scarsa pericolosità che ha questo tipo di tipologia di detentiva può essere veramente ridotto al minimo potrebbe essere seguito da un apposito ufficio e insieme a una maggior specificità avrebbe bisogno questo tipo di persone le donne detenute di avere maggiori occasioni di inclusione di incontro con il resto della popolazione carceraria che se debitamente guidato e seguito può permettere di evitare quell'ozio forzato in cui magari un istituto a prevalenza di detenzione maschile obbliga invece la componente della popolazione femminile la stessa cosa vale per i detenuti LGBT che chiaramente con un'intenzione di maggior tutela sono collocati in sezioni apposite ma sappiamo che spessissime volte questo porta poi all'effetto opposto ossia quello di sezioni in cui c'è un maggior isolamento perché è più difficile per i numeri per le possibilità anche di spostamento di cui si è già parlato molto prima offrire alle persone detenute in queste sezioni dedicate la stessa offerta che c'è per il resto della popolazione anche per la popolazione detenuta LGBT può essere e deve essere previsto che ci siano dei momenti di confronto di incontro e di convivenza con il resto della popolazione detenuta perché esiste la possibilità di farlo in maniera tutelata e in maniera che garantisca la cosa più importante l'accesso a tutte quelle occasioni di socializzazione di lavoro di integrazione di formazione di cui hanno diritto tutte le persone detenute la sezione dedicata può diventare uno spazio e dovrebbe diventare uno spazio unicamente dedicato al riposo notturno lo stesso nella stessa direzione la nostra proposta è quella di aumentare la custodia attenuata le persone detenute e internate con le necessità di stare in queste sezioni possono essere aumentate può essere fortemente espansa questa tipologia di custodia e le celle anche qui devono arrivare ad essere solamente dei luoghi di riposo durante la notte e il resto della giornata deve essere integrato fortemente da attività che riempiano la giornata che diano senso al percorso detentivo ancora sulla stessa linea nella vita comunitaria c'è la necessità di equilibrare la sicurezza con anche un certo dinamismo l'apertura delle celle deve essere garantita per almeno otto ore al giorno in tutti gli istituti e le attività ancora come sopra devono avere dei piani chiari per l'occupazione del tempo libero altrimenti non possiamo in continuità con tutto il ragionamento che è stato fatto oggi pomeriggio pensare che il carcere possa servire a qualcosa se non è un luogo effettivamente dove poter vivere delle esperienze dove poter costruire qualcosa che dia delle possibilità di aggancio con il dopo con il rinserimento nella società è già stato detto prima molto molto bene sicuramente meglio come lo dirò io ma da Stefano ma anche il tema dei colloqui con con l'esterno può essere e deve essere rivisto e ampliato durante la pandemia c'è stato l'avvio delle videochiamate che devono diventare una costanza non c'è motivo di pensare a una limitazione a un tempo massimo o un numero massimo di telefonate piuttosto la nostra proposta è quella di pensare a un tempo minimo proprio perché non abbiamo nessun motivo di temere che lì dove non ci sia la preclusione per la tipologia di reato di avere contatti con l'esterno per motivi di questo tipo tutti giovano dalla possibilità di aumentare i contatti sia le persone detenute sia chi si occupa della gestione della vita interna il personale che ha affrontato il tema della gestione logistica di un aumento dei contatti neggiava sicuramente e neggiava moltissimo la comunità esterna i familiari le famiglie che possono e devono accedere alla comunicazione con i propri cari detenuti non solo in alcuni momenti della giornata in alcuni momenti della settimana ma potrebbero accedervi anche ad esempio tramite l'invio di messaggistica messaggi vocali come avviene in alcuni stati in Europa sono proposte come quello del totem per le domandine che sembrano per chi conosce i nostri istituti sembrano veramente molto molto ambiziose ma in realtà sono già sperimentate in alcuni paesi d'Europa dell'est Europa in Francia nel Regno Unito sono degli strumenti che una volta implementati cambiano completamente la condizione di vita della persona detenuta in questa direzione anche un aumento delle possibilità di contatto delle persone detenute con i servizi specialistici abbiamo visto adesso l'intervento del Dipartimento di Salute Mentale ma anche il contatto con i garanti il sistema delle domandine domande formalizzate con l'obiettivo di tenere traccia delle cose più importanti allora sì lo riconosciamo ma domandine per qualsiasi cosa anche un termine infantilizzante che obbliga a chiedere per qualsiasi cosa non è la direzione in cui bisogna andare la direzione in cui andare è quella di mettere il personale la gestione del personale nella condizione di essere presenti effettivamente il tempo necessario per stare al fianco delle persone durante la giornata e quindi vedere nel confronto e nell'incontro quotidiano la gestione dei bisogni delle persone detenute e finisco dicendo raccontando un riferimento a un episodio realmente accaduto così credo di essere stato anche molto buono nei tempi di recente nell'attività di osservazione mi è capitato di ricevere la domanda da parte di una domanda che mi ha spiazzato che precisamente era se ritenessi effettivamente che avesse senso e a che cosa servissero tutte queste associazioni queste realtà e questi garanti di vari livelli perché pensi ci sono i comunali i regionali e anche il nazionale e la domanda per me è stata molto importante soprattutto perché arrivava da una persona con un ruolo importante e io oggi ci ho pensato tutto il giorno ci ho pensato molto questa domanda e credo che la risposta la stiamo dando con questo incontro di oggi perché tutti gli stimoli che sono usciti tutti i temi che abbiamo visto e le segnalazioni molto importanti sono uscite oggi molto ben argomentate lo scambio anche la condivisione che c'è stato modo di fare non solo dal palco o dal pubblico ma anche parlando con le persone con le varie persone che ci sono qui oggi testimoniano l'importanza che il carcere non sia uno spazio chiuso dove effettivamente ci sono già figure deputate a garantire il buon funzionamento ma c'è bisogno di una comunità esterna di un contatto del territorio c'è bisogno fondamentale dei garanti delle associazioni dell'osservatorio come quello che realizza Antigone e della partecipazione di tutte le realtà e anche dei momenti come questo che sono il cuore dell'attività grazie Francesco Santin il riferimento alla esigenza di comunità mi pare molto significativo allora chiamo finalmente Antonietta Fiorillo e Giovanni Maria Pavarin per presentare la nuova edizione degli iscritti di Alessandro Margara tutte e due hanno avuto una consuetudine con Sandro Margara abbiamo voluto chiudere questa giornata in questo modo per non solo per un ricordo di un gigante ma anche perché questo ci dà forza qualcuno ha detto che in realtà si va avanti proprio perché si sta sulle spalle di giganti e quindi si vede lontano questa non è semplicemente una non è una ristampa abbiamo inserito alcuni pezzi nuovi che abbiamo recuperato di Margara particolarmente importanti nel nel nuovo volume sono alcuni che riguardano l'OPG ma quello che è veramente importante è il testo che abbiamo inserito nella sezione del magistrato di sorveglianza che è quello la discrezionalità nelle decisioni della magistratura ma poi questo saggio di Sandro Margara a proposito delle leggi razziste e ingiuste Margara scrisse questo saggio sostenendo che il giudice deve rifiutarsi di applicare le leggi razziste e ingiuste e sviluppa il suo ragionamento dal punto di vista storico ovviamente pensando a quelle che sono state le leggi razziste in Italia e in altri paesi ma anche le leggi contemporanee e il ruolo del magistrato di fronte a questo quindi è un'edizione arricchita nuova è un credo che per la formazione dovrebbe essere un testo diffuso adeguatamente io sono contento che il garante della Toscana Giuseppe Fanfani abbia deciso di ripubblicarlo lo si presenterà nel giardino degli incontri che avete visto questa mattina nel mese di luglio e sarà un'occasione credo che sarà presente Carlo Renoldi e poi non so chi altri saranno invitati ma questa è un'anteprima abbiamo avuto proprio dalla tipografia le prime copie chi vorrà avere le copie di questo volume le potrà chiedere qui agli organizzatori insomma delle di questo di questa giornata quelle che abbiamo un po' le abbiamo distribuite le distribuiremo prima di non so chi parla per primo eh pari o dispari testa o croce deve scappare deve scappare faccio un 3 9 7 ce la fai va bene allora io direi che iniziamo con Antonietta Fiorillo eh saluto eh la dottoressa Cunial che magistrata di sorveglianza a Udine che partecipa a tutte le nostre tavoli di confronto c'è anche il consigliere regionale Morettuzzo e lo ringrazio e saluto di essere presente se dimentico qualcuno mi perdonerete allora la parola ad Antonietta Fiorillo che con cui abbiamo avuto una lunga consuetudine lei è stata si può dire allieva di Margara credo di sì assolutamente e e poi è diventata presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze poi è stata in quello di Bologna abbiamo continuato a vederci qualche settimana fa eravamo assieme a Napoli a un convegno sempre sull'esecuzione sempre eccetera l'esecuzione nostra mi pare quindi le do con grande piacere la parola ringraziandola come ringrazio le altre persone come Tonella Calcaterra che è venuta da Milano Cantone da Roma insomma e tu non so da Firenze sì da Firenze quindi per venire qui in questa giornata a darci un grande sostegno la parola a te grazie Franco grazie grazie per avermi invitato non solo perché si parla di Sandro ma anche per chi mi ha trovato che è una città che io non conoscevo e quel poco che ho potuto vedere mentre sono arrivata e quando sono uscita nell'intervallo una città splendida devo dire mi ero firmata a Trieste quindi doppiamente grazie e poi perché trovarmi in questi contesti per me è sempre è sempre è sempre importante è sempre qualcosa che mi fa pensare che possiamo fare qualcosa io oggi parlerò brevemente sinteticamente come faccio di solito però voglio ricordare Sandro perché devo dire che chi ha letto chi ha avuto modo di leggere chi leggerà gli iscritti anche questa seconda edizione ereditata di cui veramente è stato insomma è molto importante ha inserito alcune cose quello sulla discrezionalità quello sugli OPG che sono fondamentali che Sandro ha sempre portato avanti nel leggere gli iscritti di Sandro Margara e questi iscritti sono raccolti da anni da tanti anni alcuni sono degli anni 90 sono addirittura precedenti cioè fino ai più recenti fino a poco lui ha finito come garante regionale della Toscana mentre io ero presidente su mia richiesta anzi implorazione quando diventai presidente e devo dire fino alla fine è stato coerente con quello che ha sempre scritto con quello che ha teorizzato con quello che ha scritto ma con quello che lui ha applicato non c'è stata mai una discrasia come a volte si vede come capita un po' a tutti noi lui è stato di una coerenza cristallina ha perseguito esattamente nella sua azione giudiziaria quello che era il suo pensiero e devo dire che questo è veramente qualcosa di straordinario ma quello che è straordinario è che leggere oggi io alcuni di questi iscritti lavorando con lui ho lavorato per primi 17 anni con lui quindi voglio dire quotidianamente li leggevo in anteprima sostanzialmente come si dice prima che andasse ai convegni prima che facesse qualche intervento sono di una attualità incredibile cioè Sandro scriveva 30 anni fa 35 anni fa 25 anni fa quasi 40 anni fa cose che tuttora noi oggi diciamo allora io mi faccio una domanda e vi faccio una domanda una domanda mi faccio da molto tempo anche per quella è stata poi l'evoluzione anche della magistratura di sorveglianza io credo che gli iscritti di Sandro letti oggi siano la testimonianza del fallimento di oltre 40 anni di applicazione dell'ordinamento penitenziario e anche del modello costituzionale dell'articolo 27 perché cari signori noi oggi siamo qui come siamo stati insieme a D'Antonella Calcaterra Gianni Pavarinna Carmelo Cantone in altri luoghi a dire esattamente queste cose allora se noi oggi dobbiamo ripartire dalla Costituzione come il titolo bellissimo di questo convegno e dobbiamo parlare del senso di umanità in galera perché è galera eh poi possiamo chiamare carcere detenzione quello che vale ma è sana galera tuttora sana tra virgolette vuol dire che questo tempo non è passato del tutto in vano io non voglio essere pessimista cioè faccio una premessa quello che io dico sono critica sono per certi aspetti molto critica ma lo sono da molto tempo ma questo non mi ha mai impedito di provare a seguire di approvare spero per certa parte per quello che sono state le mie capacità e le mie competenze di essere riuscito a seguire la strada di Sandro Vargare però di fatto questo bisogna dirsi ma non è fallita la scommessa dell'ordinamento penitenziario non è fallita la scommessa dei nostri padri costituenti è fallita l'applicazione concreta di questo oggi ho sentito cose molto belle quando però sento ancora oggi parlare di riforme scusatemi ma io mi terrorizzo cioè sarei molto contenta se della commissione ruotolo di cui indegnamente ho fatto parte anche io voglio dire alcune cose si riuscissero a tradurre di quelle che oggi hanno riportato Antonella hanno riferito Carmelo Cantone eccetera cioè cose per rendere più umana e più dignitosa immediatamente la vita che in questo momento si fa in carcere io sarei molto contenta poi magari si può anche pensare perché devo dire che per cambiare ci sono delle cose da attuare come devo dire da modificare alcuni articoli come diceva Sandro perché si parla di ricambiare l'ordinamento del 75 Palagozzini da tempo Sandro diceva c'è da modificare anche per me c'è sicuramente da attualizzare ma non c'è da riscrivere tutto perché questa riforma non è mai stata attuata fino a fondo allora mettiamo al regime l'esistente con tutte quelle cose nel frattempo possiamo fare le tecnologie di cui parlava Carmelo ci sono delle realtà che ci sono in Italia ma perché devono essere due, tre, quattro istituti e non i 190 ma i 150 istituti del territorio italiano cioè su questo bisogna interrogarsi cioè prima di pensare a modificare speriamo che la politica qualunque si sia prossima come non è stata prima abbia finalmente una visione di che cosa vuole fare della galera di qual è l'obiettivo della galera e quindi attrezzarsi perché poi si possano raggiungere i risultati dico una cosa banale che sanno che è lavorato in commissione il lavoro il lavoro nelle galere italiane non c'è più ma 40 anni fa c'era perché nei miei istituti delle isole toscane lavoravano tutti e guadagnavano 5, 6, 700, 800 mila lire delle vecchie lire non 35 euro 40 euro 100 euro girando a turnazione perché nella materia che mi sono occupata io che era il lavoro con la dottoressa Specchia ci sono 17 mila lavoranti in tutte le galere italiane su quasi 54 metri di cui 15 mila le dipendenze dell'amministrazione e 2.190 le dipendenze di testere eppure la assammenda mette soldi la legge smuraglia finanziata perché non si riescono a fare queste cose qualcosa non ha funzionato evidentemente e se non c'è lavoro vogliamo fare un discorso trattamentale serio vogliamo parlare di socializzazione vera va benissimo lo sport va benissimo il teatro va benissimo tutto ma non possiamo avere solo degli istituti pochi istituti in Italia in cui si fanno delle cose bellissime la maggioranza in cui ci si gira i pollici in cui i detenuti passano la socialità fanno l'ora d'aria e le associazioni di volontariato fanno anche difficoltà stamattina sentivo attrezziamo gli spazi giustamente attrezziamo gli spazi perché ci possano essere lavorazioni perché ci possano essere tante cose ripartiamo dal disegno degli spazi io ho fatto anche la commissione architettura e grazie a Dio si padeglioni con Gianni Pavarin qualche cosa siamo riusciti a far modificare perché se non si ridisegna quello tutto il resto diventa estremamente complicato e allora dico e dico un'altra cosa molto importante è stata Sandro ha svolto il suo ruolo come vi ho sinteticamente raccontato e ha scritto molto del ruolo del magistrato di sorveglianza ve le leggo testuali parole da uno dei suoi scritti più belli che è quale giustizia ripetita non juvanta ancora sulla pena e sul carcere proprio sul ruolo del magistrato Sandro a un certo punto scrive fa tre e nuclea tre termini ricerca convinzione interessa gli aspetti che secondo lui devono essere il contenuto del ruolo del magistrato di sorveglianza parla di motivazione cioè la motivazione non deve essere quella propria la più varia quella che esprime la propria visione delle cose la motivazione di cui parlo deve essere quella volta a realizzare le finalità del sistema normativo che è dato da gestire alla magistratura di sorveglianza capisco che nel successo di interventi legislativi alcuni con intenti dissuasivi rispetto alla continuità e incisività della nostra azione possa essere calato un po' di nebbia sulle finalità credo che sia necessario diradarla perché non si può agire con finalità dubbi e incerte senza conoscere la rotta e la meta e sta parlando dei magistrati di sorveglianza e le indicazioni costituzionali continuano ad essere lì a indicarci con coerenza l'una e l'altra prima l'avvocato Conte diceva si interrogava sulla magistratura di sorveglianza io credo che ci sia e credo che Gianni Pavarini sia d'accordo con me perché ne discutiamo e ci confrontiamo da molti anni ci sia un modo un po' burocratico che non è solo degli ultimissimi anni ma è di qualche anno di interpretare il ruolo del magistrato di sorveglianza come si interpreta anche il ruolo della cognizione voglio dire faccio un inciso Sandro non sarebbe stato d'accordo sul passaggio alla cognizione delle misure e io resto di quell'idea sono ormai affezionata anch'io come diceva lui non saranno giuste ma il resto affezionata ma per un motivo semplice perché la cognizione ha davanti l'uomo che è in quel momento l'esecuzione concreta può avere davanti un altro uomo io ho notato questo nei miei anni di galera perché ne ho fatti tanti anch'io a contatto direttamente non solo con i detenuti con tutte le operatività del carcere perché solo così da quelle civili a quelle come si dice di sicurezza e quant'altro solo in questo modo ed era quello che diceva Sandro solo lavorando in collaborazione in sinergia si può provare e facendosi anche motore con i magistrati del suscitare il percorso di socializzazione e mi sono resa conto nelle galerie dell'arcipelago quando non c'era l'abbreviato non c'erano riti speciali quindi si prendevano gli ergastoli così senza gli ergastoli 30 anni se ti andava bene a seconda delle aggravanti partivano io a volte facevo colloqui tutti i mesi arrivavo io loro partivano perché avevano l'appello oppure aspettavano la cassazione mi sono trovata infinite volte a vederli il giorno dopo che era arrivata la sentenza della cassazione erano altre persone anche fisicamente cioè finché avevano la speranza che potevano ancora giocarsela il giorno dopo erano altri questo per dire una cosa è il imputato una cosa è il detenuto quindi non lo so se la cognizione certo dovrà formarsi ma c'è un ruolo che va rivitalizzato in cui i magistrati devono riappropriare molti di noi si definiscono giudici di prossimità però la galera non la vedono e quindi è una prossimità molto relativa voglio dire proviamo a ritornare ad essere veramente giudici di prossimità a sentire quello che faceva Sandro il diritto all'ascolto che hanno i detenuti ancora prima che alle risposte positive o negative ma comunque alle risposte in tempi decenti il diritto all'ascolto ad essere ascoltati ma non è solo un loro diritto anche un nostro non dico dovere lo metto in termini molto più banali anche forse provocatori una convenienza non si può giudicare di una persona niente neanche reclamo su liberazione anticipata che non è roba da poco è roba importantissima assolutamente perché a volte è deliberata come si dice senza mettere un volto su quel fascicolo se no sono carte non persone esattamente il contrario di quello che si deve fare e lo scritto sulla discrezionalità Sandro dice che non ci si deve spaventare della discrezionalità non si devono spaventare manco i giudici di sorveglianza certo deve essere una discrezionalità piena di contenuti deve essere una discrezionalità che sia riempita di conoscenze di dati informativi non una se la è arbitrio ma questo vale anche per il giudice di cognizione che quando stabilisce la pena fra un massimo o un minimo fa una scelta discrezionale che deve ai sensi del 133 riempire comunque di contenuti quindi oppure della terzietà c'è stato no Franco se la ricorderà anche Gianni l'era in cui ma tuttora qualcuno dei colleghi andava in galera perché se no si contamina nel senso diventava incompatibile col fascicolo non sono sciocchezze non faccio insomma riferimenti ai tribunali che praticavano questa 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 prassi che avutavano questa prassi non avevano prassi e lì secondo me invece è soltanto il timore di doversi confrontare i problemi che c'è al detenuto con i suoi problemi con i suoi come devo dire con le sue difficoltà con le sue motivazioni e provare è indubbiamente un lavoro faticoso un lavoro che che ti può schiacciare se non riesci a gestirlo ma che non significa coinvolgimento cioè la terzietà c'è comunque certo che c'è la terzietà non è una questione non siamo a volte ogni atto anche nelle udienze con i media tenuti nelle udienze in tribunale guardi questa non è la Caritas con tutto il rispetto per la Caritas siamo in un tribunale devo dire è un quindi e Sandro ha interpretato tutto questo cosa resta di Sandro questo lo dico per noi ho fatto recentemente anche come Gianni una lezione l'unnesima lezione ai MOT che stanno facendo Tiro Ciro Mirà l'ho fatta in questi anni tantissime volte e devo dire che quando faccio il nome che io faccio regolarmente di Sandro Margara ricordandone diciamo la filosofia ricordandone l'impostazione ricordando è stato uno dei padri della giurisdizione esecutiva teorica e pratica parliamoci chiaro io sono entrata quando stavano scrivendo la Gozzini quindi ho assistito insomma proprio alle lavorazioni con Mario Gozzini che poi è diventato nostro giudice onorario insomma a Firenze e fino a qualche anno fa avevo avevo dei visi che riconoscevano io negli ultimi concorsi ho visto devo dire il vuoto cioè Margara chi è? lo dico con grande cioè lo dico oggettivamente questo è secondo me questo dovrebbe essere un libro passato per chi si accinge a entrare in sorveglianza perché sono quello che potremmo definire le fondamenta della giurisdizione esecutiva in concreto oggi qui vedo e voglio ricordare una cosa molto bella vedo qui l'architetto Marcetti che è stato uno di quelli della fondazione Michelucci dell'architetto della fondazione Michelucci che quando Sandro era garante regionale ha disegnato l'asilo nido del palazzo di giustizia di Firenze che il tribunale di sorveglianza ha messo in piedi è l'unico ed è una cosa architettonicamente straordinaria e bellissima e io devo dire naturalmente che ho tirato dentro la fondazione perché c'era Sandro che era all'epoca prima di metà garante la presidente della fondazione e mi è parso veramente la chiusura del cerchio un lavoro di questo genere lo voglio ricordare perché è stata una cosa che devo dire non avessi fatto altro e funziona tuttora in maniera veramente brillante vi ringrazio sono stata un po' confusa però io quando parlo di queste cose e quando parlo di Sandro poi mi emoziono ancora grazie 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 Antonietta ci emozioniamo tutti almeno io perché questo volume l'abbiamo concepito quando ormai Sandro era malato e andavamo a trovarlo io Marcetti e Solimano ed era difficile perché parlava pochissimo e gli presentammo la copertina e l'immagine del Don Quixote gli piace molto discutemmo sul titolo perché non era questo il titolo all'inizio non mi ricordo cosa avevo formulato come titolo e lui scuoteva il capo alla fine allora venne fuori questa frase sul senso di umanità sorrise e ci disse che andava bene e questo senso di umanità è molto ripetuto nei suoi scritti è il centro per la giustizia io penso che di dover dire una cosa cioè Margara oltre che di grande intelligenza e cultura scriveva benissimo parlava benissimo ma scriveva in un italiano cristallino straordinario chi vorrà leggere questo lo troverà no? con un senso di ironia e alcune volte anche un'ironia dura per esempio leggere la lettera al ministro di liberto dopo la sua cacciata da capo del DAP è un manifesto civile di intransigenza e poi io inviterei a leggere le pagine sull'ergastolo che voi pensate noi abbiamo avuto la corte costituzionale che ha dichiarato che l'ergastolo stativo che a dir la verità ai tempi quando ce ne occupavamo non esisteva cioè esisteva nella norma ma in pratica no adesso invece è tutto ergastolo stativo praticamente no? e però le pagine sull'ergastolo di Sandro sono eccezionali illuminanti voi pensate che di fronte al fatto che la corte costituzionale in un comunicato stampa dichiara che è contro la costituzione c'è stata una che viene considerata una personalità politica che rispose immediatamente dicendo beh qual è il problema cambiamo l'articolo 27 e non ha suscitato scandalo una cosa così enorme addirittura ha dato incarico a un suo sodale di riscrivere l'articolo 27 io ho ritrovato fra gli iscritti di Margara che l'aveva riscritto anche lui secondo nel senso come con ironia come l'avrebbero scritti sulle pene certe eccetera e e poi e quindi Margara è indispensabile ancora Tognetta Fiorillo non l'ha ricordato ma a proposito della diritto all'affettività e alla sessualità non l'ha ricordato che da Firenze presidente Fiorillo è stata presentata anni fa alla Corte Costituzionale un'eccezione di legittimità a cui la risposta è stata la risposta si la risposta se la cavò dicendo vabbè ci pensi il Parlamento no però quella eccezione era stata fatta anche con l'aiuto di Sandro Margara e allora Sandro Margara nel 2000 io ero sottosegretario e lui era capo del DAP nel regolamento mettemmo il diritto all'affettività il consiglio di stato la bloccò siamo al 2022 ancora parlando parliamo di quell'orribile casette del lavoro che possa essere venuto come il femminicidio lasciato questi termini però ti devo dire che se lo sapesse a Pianosa una casettina già 25 anni fa l'avevamo organizzata con l'aiuto del cappellano devo dire quindi andavamo i permessi sull'isola quindi voi capite l'attualità perché qui si trova tutto questo nel capitolo Margara Polemista voi trovate queste cose straordinarie perché ci sono delle parti da giurista che sono molto complesse raffinate però nella parte di Margara Polemista si legge con un piacere straordinario e quindi volevo ricordare questo le cose ancora di attualità l'ergastolo l'affettività sono ancora lì e dobbiamo leggere come sono giustificate da Margara io all'ultimo convegno che organizziamo assieme nel 2014 lui presentò un testo molto breve punti interrogativi che sono a pagina 487 e 488 non ve li leggo tutti ve ne leggo due perché la guerra alla droga war drug e alla microcriminalità war crime continua ininterrotta e perché la chiamano guerra ed è chiaramente responsabile del sovraffollamento perché la guerra alla povertà è finita da tempo i poveri hanno perso ovviamente queste due punti interrogativi che indicano la lucidità voi pensate aveva questa capacità di fulminante perché quando uno riesce a scrivere un pezzo intitolato il carcere dopo Cristo meno stato e più galera beh ha detto tutto e il carcere del suicidio e altre fughe e poi c'è da leggere anche questo il sorriso di Michelucci nel grigio del carcere ecco sono alcuni titoli perché quando scriveva anche per fuori luogo non si doveva cambiare niente solo alcune volte faceva dei pezzi più lunghi o si affidava per essere accorciati o ci lavorava però il titolo non si cambiava perché era perfetto sempre ecco a me pare che mi addolora quando si dice che oggi a me è capitato a un congresso di un'associazione di magistrati di fare dei nomi e di vedere anch'io dei volti che non esprimevano solidarietà eccetera per esempio non so al congresso di magistratura democratica quando ho fatto il nome di Michele Coiro già Michele Coiro un gigante anche lui del garantismo è stato pochissimo capo della DAP perché morì il giorno prima che dovevamo andare a Pisa dove era detenuto Adriano Sofri e così potremmo dire altri nomi che non suscitano noi dobbiamo recuperare invece la memoria la cultura il legame perché se non abbiamo legami con queste persone noi oggi abbiamo intitolato questo incontro con una frase di Maurizio Battistuta e in memoria di Don Pierluigi di Piazza e l'abbiamo ricordato perché se noi non abbiamo questa capacità di tenere assieme una storia noi non facciamo non facciamo né le riforme né nulla perché siamo schiacciati dal peso eh sì dell'attualità che non ci aiuta in nulla Giovanni Pavarin a te chi è che ha messo la sveglia domani alle sette niente i ringraziamenti sono scontati questa grande capacità di organizzazione di attrazione del garante comunale di Udine che io ringrazio per aver organizzato questo ed altri incontri sono un po' emozionato a parlare ma non lo farò di Alessandro Magara che anche io ho avuto la fortuna di conoscere anche se molto di meno di Antonietta Fiorillo e quindi il 29 luglio di quattro anni fa in una caldissima Firenze l'abbiamo accompagnato all'ultima dimora ricorderò sempre di questa persona l'intelligenza estrema le cose che propugnava erano la conseguenza di una sua visione del mondo uomo intelligentissimo umilissimo la sintesi personalissima di una visione del marxismo e del cattolicesimo aveva fuso insieme le cose migliori di queste due filosofie del mondo che non sono incompatibili tra di loro e le aveva tradotte in pensiero ma anche in comportamenti una volta cacciato dal DARPA è tornato a fare le sovveglianze a Trieste e accompagnava i giovani colleghi con la sua scassata 500 in carcere i quali giovani colleghi si scandalizzavano quando hanno detto Margara in carcere contro tutte le regole allungava qualche mancia che non si poteva anche in ufficio questi sono i ricordi però Margara era un uomo intelligentissimo se fosse qui oggi che cosa direbbe si guarderebbe intorno e direbbe ma cosa ci stiamo a fare ma avete letto i giornali in questi anni avete letto il rapporto del Censis a dicembre 2020 intervistando gli italiani sulla penna di morte il 43,7% a dicembre del 2020 erano favorevoli alla pena di morte questa è la condizione in cui oggi la società vive e ci stupiamo perché tutto ciò che scriviamo diciamo resta per aria ci stupiamo perché quello che ha scritto la commissione Ruotolo è ancora per aria e ci stupiamo del fatto che quindi sarebbe se fosse qui ci farebbe un richiamo alla realtà non per disperarci ma per comunque invitarci a fare tutto il possibile di ciò che è nelle nostre possibilità ciò che in questo mondo è mutato in questo quarto di secolo che io lo frequento i 25 anni ieri che frequentano il carcere ciò che è cambiato non è frutto delle riforme o delle norme o delle conferenze o dei convegni che sono utilissimi ma è la conseguenza della volontà e dell'intelligenza dei singoli operatori che da soli o in compagnia hanno trasformato il carcere non me ne vorrà il dottor Cantone se dico che ciò che è stato e in parte continua a essere il carcere di Padova è la conseguenza del suo modo di vedere le cose della sua particità e della sua intelligenza e della sua umanità quel senso di umanità che albergava dentro Alessandro Margara e che oggi gli farebbe dire cosa appartiene al senso di umanità consentire al detenuto di videochiamare una cosa è sentire una voce per telefono una cosa è vedere l'immagine dei miei familiari su un video appartiene al senso di umanità dare un riconoscimento perché durante il Covid lo Stato ti obbligava a distanziarti ma però ti chiudeva a chiave in un luogo in cui non potevi distanziarti hai sofferto il triplo ti do una LAC la chiamerei liberazione anticipata Covid non LAS LAC data a tutti i quattro bis compresi appartiene al senso di umanità mi piace questo passaggio di Antonietti il diritto all'ascolto i magistrati l'ha detto non vanno quasi più in carcere o per commissione o perché hanno troppe carte ma Margara invece ci andava allora la differenza qual è? che oggi Margara sta ai colleghi della sorveglianza come Papa Francesco sta alla chiesa di Lefebvre c'è la stessa cosa io è scritto qui nel titolo che sono il coordinatore nazionale dei magistrati sarà anche vero però rappresento una piccola parte dei 230 colleghi che esercitano questa funzione sia ben chiaro qui c'è un idem sentire tutti la pensiamo più o meno allo stesso modo però sappiate che l'idem sentire non è condiviso come i tempi che furono dalla maggior parte dei colleghi che esercitano questa funzione e imporrei come non dico obbligatorio ma questo testo lo farei leggere veramente a tutti coloro che in nome del giuramento e della fedeltà alla legge fanno questo lavoro e direi magari se qualcuno se avete dei soldi dateli alla scuola superiore al CSM che ne faccia omaggio ai 230 magistrati che esercitano questa è la Bibbia è il Vangelo è la guida per chi si avvicina a fare questo mestiere le riforme non ci vedo niente sono contiano pessimista sono contiano come l'avvocato Conte la riforma Catabia ce l'ha spiegato l'avvocato Calcaterra queste due cose nuove ti do la sanzione sostitutiva della detta dom e della semilibertà ma quella legge prevede che queste sentenze siano impugnabili siano appellabili quindi vado in appello se non mi si prescrive il reato in appello andrò in giudicato a quel punto il pubblico ministero mi sospende l'esecuzione di queste due sanzioni sostitutive non potete cambiare il quinto comodo del 6 perché andreste fuori delega quindi c'è un pubblico ministero che metterà in esecuzione queste sanzioni sostitutive le sospenderà e la persona chiederà a noi l'affidamento in prova siamo sempre lì questa è una siccome giustamente la Tansi ha previsto tre ruote affidamento del dom e semilibertà se ti progetti una macchina con tre ruote ma tu me la fai con due la macchina sbanda ed esce dal seminato a meno che non vi inventiate qualcosa che possa superare questa obiezione che secondo me non è superabile salvo che ci sia una legge che cambi il 6 5 6 quinto comodo mi scuso di questo richiamo tecnico ma Paolo Ptaro mi ha senza dubbio compreso nulla di buono chi gestirà queste sanzioni sostitutive che in realtà sono sanzioni detentive la semilibertà si fa in carcere e la daddoma a casa chi le gestirà se non noi che siamo 230 con le caratteristiche che vi ho appena detto punto di domanda non lo so e quindi benvengano le riforme ma come giustamente ha detto Antonietta Fiorillo prima dobbiamo attuare non solo e non tanto quella del 75 ma quella del 48 la costituzione è ancora lì appesa per aria io ho colleghi che ritengono che alcune norme di quella testa siano ancora norme programmatiche perché non hanno l'idea che siano in realtà norme immediatamente preceptive esempio diritto al lavoro in carcere qualcuno ritiene che la norma sia programmatica che non abbia una valenza giuridica cosente immediata non ho altro da aggiungere se non da scusarmi per la brevità del mio intervento ma siamo tutti stanchi e rinnovo i ringraziamenti che sono sentiti vedete quando un politico di lungo corso che ha fatto il sottosegretario della giustizia è capace di commuoversi di fronte al ricordo di un uomo vuol dire che questo uomo valeva tantissimo e continua a valere nei nostri ricordi e nei nostri impegni di ogni giorno Antonella Calcaterra vuoi rispondere a questa obiezione provocazione dire qualcosa o no? vieni vieni perché siamo tutto sommato abbiamo guadagnato tempo allora ho ammesso fin dal principio i limiti con i quali ci siamo ritrovati a dover lavorare quindi questo è sicuramente questo è della possibilità di fare appello a Cassazione rinvierà di molto l'esecuzione a meno che una parte non si accontenti e non partì la mia speranza è che ci sia una partecipazione alla costruzione del pacchetto del progetto che faccia sì che la persona non voglia rinviare in là l'esecuzione di questa misura e probation che va in esecuzione però in via immediata col 661 cioè non entra nel bagaglio del liberi è detettiva questa sanzione però in teoria il codice di procedura penale le porta in esecuzione immediata questo è il salvo naturalmente poi tutta l'attività di magistrati di sorveglianza dovremmo essere di questo no ma perché questo è previsto è previsto dal 62 cioè questa è la norma del 62 prevede comunque la gestione da parte del magistrato di sorveglianza con tutta l'attualizzazione e le manovre sulle prescrizioni mi pare che la discussione è sicuramente impegnativa forse bisognerà aspettare i testi e poi ragionare un poco se ci ma ormai l'ora è tarda credo e noi andiamo verso l'osteria caucica a vedere la mostra dei dipinti dei detenuti di tolmezzo spero che molti vogliano venire faremo che c'è come vabbè quindi però ci sono dei brevi interventi abbiamo un quarto d'ora possibile altrimenti chiudiamo e facciamo questa passeggiata verso l'osteria caucica forse abbiamo qualche copia del libro di Margara chi è interessato lo può avere oggi se ne abbiamo qualche copia e se no prossimamente lo può richiedere all'ufficio del garante o a Icaro e sarà consegnato intanto potete ritirare le copie di questo libro degli scritti di Maurizio Battistuta che è interessantissimo e anche questo molto da coltivare per sensibilità e approfondimento non vedo mani alzate e allora grazie per questa giornata e a presto grazie